Bene, buonasera a tutti. Scusate, signori, iniziamo i lavori, per cortesia. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì. C'è il numero legale. Signori, per cortesia. Scusate, signori, iniziamo i lavori, per cortesia. Scusate, signori, sono iniziati i lavori. Arriveranno in ritardo la consigliera Marapiccin, il consigliere Francesco Ribetti, il consigliere Marco Salvador e il consigliere Dario Zanut. Comunico che, senza l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Bene, vi comunico l'ordine dei lavori deliberato durante la conferenza dei Presidenti e dei gruppi consigliari. Allora i lavori avranno il seguente ordine. Inizieremo con la surroga del consigliere Abbonato, che dopo vi dirò che era assegnato alle dimissioni. Poi ci saranno le comunicazioni del Sindaco, poi dedicheremo 60 minuti di interrogazioni, dopodiché passeremo alle deliberazioni fino all'ora esaurimento. Se la discussione delle deliberazioni dovesse esaurirsi prima alle 22.30, passeremo poi alle mozioni. C'è stata la proposta da parte dell'amministrazione di poter discutere e illustrare le proposte di deliberazione numero 17 e numero 18 assieme. La Commissione dei Presidenti ha accolto questa proposta, pertanto ci sarà un'unica discussione per le due deliberazioni, poi ovviamente ci saranno dichiarazioni di voto e votazioni singole. E poi la Commissione ha stabilito su proposta del consigliere Bianchini di lasciare, che aveva chiesto di ridurre gli interventi, perché vi ricordate che nel caso di discussione di bilancio il tempo di intervento si raddoppia, e di ridurli, ma la Commissione ha lasciato alla responsabilità dei singoli consiglieri il contenimento dei tempi. Bene, passiamo pertanto alla deliberazione riguardante la surroga. Vi comunico che in data 17 giugno 2015 sono state presentate le dimissioni da parte del consigliere Maria Bonato. Si rende pertanto necessaria procedere alla surroga del consigliere dimissionario con il consigliere Daniela Giust, terza dei non eletti della relativa lista Partito Democratico, e conseguentemente convalidare la stessa. Pertanto, passiamo ad esaminare la proposta numero 21-2015, surroga consigliere dimissionario signora Maria Bonato con la signora Daniela Giust. Questa deliberazione è finalizzata a procedere alla surroga e convalidare conseguentemente l'elezione del consigliere signora Giust e Daniela. Bene, dichiaro aperta la discussione. Non vedo nessun iscritto, perciò passiamo al secondo intervento. Nessun iscritto. Passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni. Dichiaro però, pertanto, chiuso la discussione. Allora, pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto, proposta numero 21-2015, surroga consigliere dimissionario signora Maria Bonato con la signora Daniela Giust. Dichiaro aperte le votazioni. Bene, avete votato tutti. Dichiaro chiuse le votazioni. Lesi la votazione seguente. Presenti 35, votanti 35, maggioranza 18, favorevoli 35 e contro nessuno, astenuti nessuno, la delibera è stata approvata. Pongo ora ai voti l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperte l'operazione di voto. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. Lesi la votazione seguente. Presenti 35, votanti 35, maggioranza 21, favorevoli 35 e contro nessuno, astenuti nessuno, la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Invito la consigliera giusta ad entrare. Mi do il benvenuto. Chiedo alla segreteria se dobbiamo attivare o già attivato. Tutto a posto. Non bene, grazie. Passiamo ora alle comunicazioni del sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie Presidente. Aspetta, prendiamo le misure. Grazie Presidente. Anch'io do il benvenuto alla nuova consigliera Daniela Giust, ma volevo anche fare un ringraziamento a Maria Bonato per la sua presenza in questo Consiglio e i contributi che in momenti di delibere delicate e importanti sicuramente ci hanno aiutato a prendere le decisioni giuste. Io, prima di passare a una comunicazione più strettamente di servizio, volevo commemorare con voi la figura di Demetrio Moras, che come sapete si è spento venerdì 19 giugno, quindi due giorni fa. Bene, lo sappiamo tutti, noi abbiamo perso un grande personaggio, aveva 77 anni, con la moglie Paola ha condiviso moltissimi anni nella gestione della sua cortoleria in Viare Trieste, un vero e proprio punto di riferimento per molti aspetti, non solamente puramente commerciali. E' diventata di fatto la sua attività commerciale una base operativa per tutte le iniziative che Demetrio Moras è riuscito in questi anni a lanciare a Pordenone, che lo hanno visto come fondatore e propugnatore. Ma certo la sua figura tutti ce la ricordiamo come legata alla Pordenone Pedala, che è stata ideata da lui e lanciata il 9 settembre del 1973, e che ha avuto 42 edizioni consecutive, raggiungendo normalmente i 5.000 iscritti. Penso che tutti, tutti, posso dire, abbiamo partecipato alla Pordenone Pedala. Demetrio è una persona che ha amato lo sport sempre, in ogni sua forma, dal calcio al ciclismo praticato, aveva fatto altre attività sportive, molto pugilato, molto pugilato, era stato un parucadutista durante il servizio militare nel corpo degli Alpini. Ha saputo usare la sua passione nel organizzare eventi sportivi, ha spostato la sua abilità anche nel campo culturale, era l'animatore del gruppo Astrofili di Pordenone, aveva, se ben vi ricordate, ha attivato la squadra di football americano, i Fighters, e è stato colui che ha iniziato l'associazione sportiva direttantistica Passione e Danza. Negli ultimi anni, per modo di dire, dal 1963 al 2011, è stato un giudice di gara di ciclismo nazionale, e in questa attività che ricordava sempre con estrema passione e con grande orgoglio, ha ricevuto diverse onorificenze che si aggiungono a quelle dei cavalieri al merito della Repubblica Italiana, di commendatore, di grande ufficiale, tutte ottenute per l'attività svolta nel mondo dello sport, come la stella di bronzo e, a seguire, d'argento del coni. Le ultime, solo in ordine di tempo, sono l'Aquila di Diamante nel 2012, quale maestro del commercio, e io penso che molti di noi ricordano il 25 aprile di quest'anno, proprio in questa sala consigliare, quando vi è stato conferito il premio San Marco, con la motivazione era la sua instancabile attività organizzativa svolta prevalentemente a Pordenone, personaggio eclettico, di grande spessore morale, etico e di infinita generosità verso tutti, esempio positivo soprattutto per le giovani generazioni. Io credo che questo 25 aprile, quando lui proprio qui ci ha parlato, dalla sua carrozzella, condividendo fino all'ultimo una energia infinita, rimarrà nella memoria di tutti noi, sicuramente dei presenti, perché sarà una lezione da tenere nel nostro cuore e nella nostra mente. Quindi l'amministrazione comunale si stringe alla moglie Paola, ai figli Nicoletta e Massimo, e esprimiamo un profondo sentimento di cordoglio, di gratitudine, anche per l'esempio che ha dato con la sua vita e con la sua dedizione al bene di questa comunità. Volevo chiedere, Presidente, un minuto di silenzio. Invito i consiglieri a un minuto di silenzio. Volevo chiedere, Presidente, un minuto di silenzio. Grazie. Prego. Grazie, Presidente. La seconda comunicazione, ed è la vera comunicazione che volevo condividere con il Consiglio, è la nomina dei due rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione della Fiera di Pordenone S.P.A. Come probabilmente sapete, avevamo pubblicato, seguendo la procedura che caratterizza questi tipi di individuazioni, avevamo pubblicato sul sito del Comune l'avviso di nostro interesse, che è stato presente dal 1 giugno del 2015 all'11 giugno del 2015, fino alle ore 12, abbiamo ricevuto sette manifestazioni di interesse accompagnate dai relativi curriculum. Dall'analisi di questi curriculum, pensando allo sviluppo futuro della nostra Fiera, le persone che sono state individuate dal punto di vista del Comune sono il signor Roberto Ongaro, nato a Padova il 6 giugno 1947, e la signora Laura Ferrari, nata a Pordenone il 14 novembre 1967. Nella stessa Assemblea in cui, come Comune, sono stati presentati questi due profili, sono stati altresì identificati gli altri componenti del Consiglio di amministrazione della Fiera S.P.A., che sono Pietro Lagrassa come indicazione della provincia, il metodo seguito è stato lo stesso, come sapete anche la provincia ha adottato lo stesso criterio di selezione del Comune di Pordenone. Per la Camera di Commercio è stato nominato ancora Silvano Pascolo, della Confartigianato, per la provincia di Udine è stato nominato l'Avvocato Pierfrancesco Scattà. Come in precedenza, l'ultimo socio, che è la Crup di Pordenone, non ha indicato esplicitamente nessun membro del CDA, avendo già dato segnalazione, come la provincia di Udine, di voler uscire dalla Fiera. A questo, come indicazione dell'Assemblea, come membro aggiuntivo, è stato indicato Pietro Piccinetti, precedente e attuale amministratore delegato della Fiera di Pordenone. Come Presidente della Fiera di Pordenone è stato indicato il signor Roberto Ongaro e nel successivo consiglio di amministrazione che si è svolto pochi giorni fa è stato riconfermato come amministratore delegato Pietro Piccinetti. Quindi, da questo momento in poi, la Fiera ha l'assetto che vi ho descritto, in parte qui con continuità con il lavoro portato avanti dall'amministratore delegato Pietro Piccinetti e dal consigliere Silvano Pascolo, ma certo con il contributo di nuove persone, alcune delle quali, come è stato ampiamente sottolineato, non sono di Pordenone, che ci daranno sicuramente una possibilità di apertura verso il Veneto, nostra regione, mi sembra che le indicazioni che abbiamo condiviso anche con l'Unione Industriale siano evidenti, una regione verso la quale noi abbiamo una naturale vocazione di business e di continui contatti. Io volevo concludere questa comunicazione permettendomi di fare un ringraziamento ad Alvaro Cardin per la sua attività svolta. La Fiera di Pordenone non sarebbe arrivata ad avere la sua configurazione attuale sicuramente se Alvaro Cardin non ne fosse stato presidente e quindi credo che un sentito ringraziamento per il lavoro e quanto da lui fatto in questi anni sia da parte dell'amministrazione dovuta. Io con questo ho terminato le mie comunicazioni. Grazie signor Sindaco. C'è la possibilità di intervenire da parte dei capigruppo, comunque un intervento per gruppo per cinque minuti. Prego consigliere Dalben. Grazie signor. Grazie signor Sindaco. Per me è l'occasione per accomunarmi in questo atto di tributo che lei ha fatto alla grande opera di Alvaro Cardin che esiste ancora per fortuna che è fra noi perché ha messo sulla istituzione Fiera oltre che l'impegno personale tanta pordenonesità e quindi ben rappresentati. Adesso che la Fiera si apre nella mia visione al nord-est non alla macro-regione amministrativa ma a una macro-regione economica ma che sa vedere anche oltre i confini questa prospettiva che anche il nuovo presidente sarà sicuramente in grado di portare avanti. ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente qualche giorno fa e penso che sia una scelta professionale di esperienza umana molto positiva. Noi possiamo vedere anche al futuro della nostra Fiera in maniera positiva e di auspicio di espansione. Il nuovo presidente ha visione, buona conoscenza del Veneto ma conosce anche bene il Friuli Venezia Giulia ha un passato di amministratore pubblico e questo a maggior ragione ne dà un senso di legame con il territorio indipendentemente che sia di una regione o di tutta questa configurazione regionale che abbiamo visto. Quindi in sostanza volevo solo dire che mi accomunavo a questo percorso che Alvaro Cardin Pordenonese ha fatto dentro la Fiera. Grazie consigliere. Consigliere Tomasello, prego. Sono intervenuto per ribadire appunto che sulle nomi che lei ha effettuato certamente una delle peculiarità è la trasparenza. Lei ha nominato in base, appunto ce l'ha detto prima in base ad un regolamento e ha esercitato la sua prerogativa e quindi che l'ha esercitata e volevo ribadirlo qui in modo autonomo nessuno qui l'ha tirato per la giacchetta ma certamente ha adottato la procedura prevista dalla delibera che avevamo preso ancora all'inizio di questo mandato. Quindi nel caso della Fiera ha fatto un suo ragionamento alla base della quale ha fatto le sue scelte che sono scelte che certamente a lei condivisibili ma potrebbero anche essere non condivisibili anche da me o dal mio gruppo però volevo ribadire che questa è una sua prerogativa. Io potrei anche non essere d'accordo per quale motivo signor Sindaco abbiamo visto che l'ente Fiera è in una fase di profonda trasformazione noi qui in quest'aula ne abbiamo parlato spesso anche quando abbiamo parlato del rilancio di Pordenone abbiamo parlato del ruolo che ha avuto la Fiera in questi ultimi anni del ruolo che volevamo portare alla Fiera volevamo arrivare alla Fiera unica regionale e rendere Pordenone centrale quindi di rendere la sede della Fiera di Pordenone della Fiera regionale qui a Pordenone ritengo che se noi volevamo governare questo processo signor Sindaco la presenza del CDA di soggetti che hanno certa esperienza certamente va bene però io ritengo che ci siano dei soggetti che siano legati al territorio era importante era importante abbiamo visto appunto che è stato nominato presidente Roberto Ongaro mi sembra e poi abbiamo come ministratore delegato il signor Piccinetti mi sembrano due persone non legate molto al territorio io avrei fatto una scelta completamente diversa comunque rispettiamo il mio gruppo rispetta e questo ha dimostrazione anche di coloro che ritengono che noi del Partito Democratico abbiamo voluto abbiamo insistito per questa scelta ne approfitto anch'io per ringraziare Alvaro Cardin per ringraziare anche Giorgio Zaia che sono appunto stati i componenti scelti che vengono stati scelti la volta scorsa dalla ministra e dall'amministrazione e auguro un buon lavoro a tutto il consiglio d'amministrazione grazie grazie consigliere consigliere Tavella prego allora buonasera a tutti ciao ciao salutiamo anche l'amico Franco e una cosa sono abbastanza breve naturalmente mi associo a già chi di voi ha ringraziato Alvaro Cardin per quello che ha fatto fino ad oggi per la nostra fiera e quindi tutte le parole che hanno usato i miei colleghi le riconfermo a titolo personale a titolo anche del mio collega Pedicini e a nome dei cittadini che rappresentiamo non condividiamo la scelta fatta sulla nomina del Presidente Ungaro chiaramente non è nulla di personale contro questa persona che peraltro non conosco e sicuramente non vado a mettere in dubbio le capacità che senz'altro ha però io credo che a Pordenone ci possano essere altre persone con le stesse capacità le stesse potenzialità ma che comunque avrebbe potuto rappresentare la politica e la cittadinanza pordenonese abbiamo già un amministratore delegato molto capace che ha dato dei grandi risultati francamente noi pensavamo e credevamo che quantomeno sotto l'aspetto della rappresentanza dei cittadini ci fosse una presidenza pordenonese ripeto nulla di personale con il nuovo Presidente ma credo che sarebbe stato più bello per i nostri cittadini avere un pordenonese che rappresentava il nostro quartiere fieristico grazie grazie consigliere consigliere Rivetti prego grazie Presidente calmo mi dicono calmo è un po' difficile mantenere la calma comunque cercherò di mantenerla perché è un po' difficile ecco io mi scuso sono arrivato in ritardo ma non via per motivi professionali però ho riuscito ad arrivare giusto al momento opportuno quindi non so non so quanti siano in curricula arrivati ho presentato un'interrogazione quindi mi riservo chiaramente di ritornare su questo argomento io non entro su riflessioni e considerazioni che riguardano il Dottor Ongaro perché francamente non lo conosco e quindi non mi posso esprimermi non sono abituato a esprimermi né bene né male delle persone che non conosco quindi lascerò alla valutazione dopo un'opportuna conoscenza anche in base ai risultati che ci porterà questa persona io però mi fermo semplicemente a dei dati il sindaco sentivo che qualcuno prima sentivo che qualcuno prima ricordava giustamente come ho fatto anche io nella mia interrogazione quello che è stato quel regolamento che lei ci fece ci fece votare forse spinto forse veramente ci credeva quando si insediò all'inizio del suo mandato e ci fece votare un regolamento dove ribadisco si parlava di rinnovamento di genere, di specie si cercava di dire guardiamo a chi viene dalla società civile valutiamo i risultati beh ripeto non conoscendo Oncaro ma il dottor Oncaro ma guardando il suo curriculum francamente ritengo di non potermi accodare a chi l'ha elogiata per il rispetto di quel regolamento ripeto non so quali sono i curricula pervenuti però se lei mi viene a dire che nell'ottica del rinnovamento di genere e anche generazionale lei mi viene a nominare una persona del 47 43 47 non mi ricordo francamente vedo che ci sia poco di rinnovamento in questo un altro aspetto l'ha toccato quel consigliere Tavella che mi ha anticipato però io l'avevo scritto anche la mia interrogazione non so se ha già avuto modo di leggerla ma poi l'andremo ad affrontare era proprio la stessa domanda che si era posto il consigliere Tavella pur nel rispetto ripeto di una persona che non conosco non c'era nessuno del nostro territorio magari più legato non dico proprio del Pordenonese potrebbe essere qualcuno della provincia qualcuno della vicinissima provincia di Udile che mi sembra che esprima anche una partecipazione fiera non c'era nessuno meritevole e con le stesse diciamo con gli stessi requisiti del dottor Ongaro sa perché volendo riflettere diceva qualcuno che pensare male si fa peccato però spesso si azzecca a me sono nate proprio due riflessioni ma proprio così sono uscite proprio di getto la prima è che arrivando a un anno dal mandato dalla fine del suo mandato ed essendoci tutta una polemica forse interna vostra su una sua ricandidatura o meno lei possa aver avuto in animo di tenersi buona una parte della maggioranza che la sostiene e questa è la più benevola delle riflessioni che mi è venuta la meno benevola viene anche dal fatto che non riuscendo quella forza politica di cui il dottor Ongaro fa parte perché se non sbaglio è membro della direzione regionale del PD Veneto non essendo riuscita a conquistare il Veneto avendo bisogno di piazzare di dare parecchie poltrone hanno pensato di sconfinare nel vicino Friuli ecco potevo ragionare e riflettere su questo e concludo dicendo sai che non sono l'unico non so se a qualche altro collega è arrivata la stessa mail che è arrivata a me a me è arrivata la mail di un cittadino polonese che è conosciuto perché conosciuto non sto a fare il nome dove si lamentava proprio di questo diceva non so non hanno preso in considerazione il mio curriculum non credo di avere minori requisiti ecco io adesso per il momento fermo qui la mia riflessione ripeto non è un attacco personale per il dottor Ongaro che non ho il piacere di conoscere sono le riflessioni che vengono in mente a un pordenonese come tanti altri come tanti altri quindi mi riservo poi quando lei avrà il piacere e la decenza di rispondere alla mia interrogazione di tornare il suo argomento lo ringrazio grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente intanto vorrei anche io aggiungermi al ricordoglio per Demetrio Moras per quanto ha dato al nostro territorio con Pordenone Pedale è stato veramente una delle manifestazioni più importanti che vengono svolte qua nel territorio pordenonese poi sulla nomina appunto della fiera mi aggiungo anch'io a quanto è stato detto finora dicendo che appunto questa nomina non viene accolta benevolmente neanche da me nel senso che importare da fuori ulteriormente una persona che sebbene possa avere certamente delle qualità magari potevano essere trovati appunto in qualcuno del nostro territorio non c'era si poteva formare un giovane una giovane con le stesse caratteristiche magari tra due tre anni e intanto se tagliava lo stipendio se lo autotagliava dandolo in indietro all'amministrazione nel tempo di formazione e in via di sviluppo in maniera tale da avere subito comunque attivo il lavoro ma che migliora nel tempo e intanto un risparmio del cachet e non si può neanche dire che la che la la sua la nomina che ha portato il sindaco o comunque questa amministrazione non fosse decisa dalla stessa perché avendo le quote di maggioranza sia in amministrazione comunale sia in amministrazione provinciale è evidente che la scelta è totalmente del sindaco alla fine quindi io ritengo davvero che un utilizzo da questo punto di vista delle risorse strategiche che possono portare la provincia di Pordenone in tutta quindi non solo la città di Pordenone ad avere delle eccellenze nel medio breve e lungo periodo siano da questo punto di vista errate dal punto di vista dell'amministrazione importando qualcuno che poi finito il proprio mandato non risponderà più a questo territorio ma tanto e altrove quindi bene o male il suo cascello prende chi se ne frega chi se ne frega tanto lui poi finito il mandato se lo finisce va via quindi io trovo che questo mito della società civile che aleggia quando si elegge un sindaco del PD che non è del PD ma poi si scopre che sia peggio del PD sembra qualcosa che davvero arriva e qualsiasi cosa tocca lo infetta immediatamente quindi se se qualcuno veramente pensa che ci siano questi baluardi della società civile tutti i dati che abbiamo questi anni ne viene assolutamente almeno ditelo è del PD e punto dall'inizio insomma è più corretto ecco grazie grazie consigliere consigliere Pasutto prego grazie presidente sarò breve perché volevo esprimere intanto fare gli auguri alle persone che si occuperanno di questo ente un in bocca al lupo l'augurio è che sappiano fare bene così come hanno fatto bene chi li ha preceduti alcune cose che sono state dette dai colleghi sono anche condivisibili perché a volte rappresentare un territorio è qualcosa che va al di là della carica specifica ma mi limito a questo invece volevo ringraziare pubblicamente Alvaro per Alvaro Cardin per l'impegno profuso in tutti questi anni perché perché si è prodigato per la caratterizzazione di questo territorio perché quando passeggiava Alvaro Cardin non passeggiava Alvaro Cardin passeggiava all'istituzione cioè non era Alvaro Cardin persona fisica che camminava per le strade ma era l'istituzione che camminava e questo sì non è nostalgia insomma e lui ha incarnato la rappresentazione proprio di un territorio al quale ha voluto bene come lista il ponte come gruppo volevo ringraziarlo insomma a nome di tutti per il lavoro che ha fatto grazie consigliere Dalmas prego allora c'è una cosa divertente questa sera che anzi non è divertente ma è la prima volta che sento il capogruppo del partito democratico esprimere un richiamo diretto e vibrante nei confronti del sindaco e gli diceva insomma dove siamo noi come partito democratico in tutte queste nomine proprio non ci siamo io capisco l'imbarazzo del collega Tomasello nel dover ascoltare il sindaco che ci viene a raccoltare che il neopresidente della fiera è frutto di un'analisi accurata di curricula io sono in parte d'accordo con un piccinato e ritengo che chi rappresenta un ente insomma deve decidere decida questa società civile e anche qui dentro il sindaco non è una sua espressione non esiste una società incivile e quindi e quindi le nomine sono quelle che sono sono designazioni frutto di rapporti di forza che ci sono nelle correnti dei partiti in chi governa chi sta all'opposizione chi sta all'opposizione almeno evidentemente però siccome non volevo intervenire su questo però sono costretto a farlo perché ritengo che innanzitutto questa sera noi non dovevamo nemmeno perdere tempo sulla questione delle interrogazioni e su questioni quali le comunicazioni che lei oggi ci viene a fare perché ha deciso lei è sindaco di questa provincia è sindaco della città capoluogo anche presidente della provincia somma in sé nella sua figura esattamente il 60% della fiera di Pordenone quindi caro Pasut se oggi c'è un'istituzione che cammina per la strada quella è sindaco Pedrotti non c'è mai stata una una singolare coincidenza di posizioni e di forza come nella figura no premetto che mi associo con quello che ha detto su Alvaro che Alvaro è Alvaro di tutti noi cioè e Pordenone ha tutti gli effetti quindi inutile sprecare tempo su questo perché una cosa nota ci nota e quindi e quindi e con questo anche il merito che gli va tributato per essere stato un autentico difessore di Pordenone a tutti gli effetti solo che lei rappresenta tutti i poteri di Pordenone ma forse questa rappresentazione non è percepita e a me dispiace questo perché io vorrei che il sindaco di Pordenone fosse percepito da Erto e Casso fino all'ultimo comune della provincia cioè quello che sta più in sopra non so cosa sia Fravis Domini Corlovalo quello che è quale il sindaco è presidente della provincia di Pordenone bene il tema finisco non è il fatto che lei viene da Bolzano che di per sé è anche una cosa positiva il tema non è che noi ci preoccupiamo quando prendiamo un manager da fuori e lo mettiamo a governare un ente un'istituzione che ha ricaduto pesante su questo territorio probabilmente la esternalizzazione la ricerca curriculare è funzionale agli obiettivi che si devono perseguire in quegli enti lei ha cercato di delinearli ma è Vox Clamos in deserto perché quei poteri non stanno nelle sue mani non stanno nelle sue mani stanno nelle mani di chi dirige oggi il Friuli Venezia Giulia cioè la signora Seracchiani anzi l'avvocato Seracchiani e C cioè il governatore del Friuli Venezia Giulia dei cui non sappiamo che cosa voglia fare nelle fiere caro caro Tomasello il discorso della fiera unica una questione non ho sentito parlare da vent'anni di questa cosa e poca cosa in sé il problema è cosa dovremmo fare della regione Friuli Venezia Giulia cosa dovremmo fare di questi comuni dove dovremmo andare mi sembra difficile che lei possa pensare che con la nomina di un funzionario del Partito Democratico che sta nel Veneto sia possibile stabilire una fiera aperta al Veneto chissà cos'altro perché non c'è solo il problema della fiera ci sono problemi ulteriori ben più complessi la richiamerò quando avremo la possibilità nei prossimi consigli noi abbiamo un regolamento che non permette a noi consiglieri di richiamare queste cose ma sulle questioni importanti di questa città c'è un silenzio assordante non vi siete e non vi state preoccupando come dovreste rispetto alle riduzioni che stanno operando nelle strutture nelle funzioni sanitarie al crocche di mezz'alto del 30% su queste cose che cosa state facendo avete assistito anche lì al fatto che la signora Seracchiani metta in posti di vertice senza mente ciò che è scambio rispetto al suo partito questo è il dato altri vicende curricolari non esistono bene grazie consigliere Bianchini prego sì grazie presidente sente noi del fiume sottoscriviamo tutto quanto detto dal consigliere del ben che credo abbia fatto l'analisi più per noi insomma più corretta e ringraziamo il cd auscente in questo caso nella persona di Alvaro Cardin ma tutto il cd ha fatto per l'operato e generosità anche del tempo e dell'impegno messo coi frutti alla fine perché siamo una delle poche realtà fioristiche che ancora sta in piedi ma è proprio per questo che noi siamo convinti che questa la realtà fioristica di Pordenone adesso deve avere un salto in avanti un'innovazione ed è proprio per questo che a noi non preoccupa il fatto che dei componenti di cda poi uno di questi addirittura di Padova eletto dal cda sia presidente a noi questo non preoccupa perché siamo convinti che se veramente abbiamo a cuore questo territorio e quindi in questo caso la realtà fieristica non dobbiamo puntare avere a cuore la realtà fieristica non vuol dire scegliere uno di casa ma scegliere una e più persone che poi portano questa realtà all'obiettivo che ci siamo prefissati e cioè l'innovazione della fiera e quindi un augurio di buon lavoro al nuovo cda e apprezziamo nel merito la scelta fatta dal sindaco ad utilizzare i curricula per la scelta di queste persone e bene fa il consigliere Ribetti a verificare prima di dare un giudizio sul merito della questione grazie grazie consigliere consigliere Freschi prego silenzio silenzio signori c'è il consigliere Freschi che vorrebbe intervenire per cortesia per cortesia avete fatto l'intervento tutto silenzio silenzio grazie consigliere Tomasella consigliere Ribetti per cortesia bene possiamo possiamo proseguire consigliere Ribetti possiamo proseguire grazie prego consigliere Freschi grazie presidente grazie consigliere Ribetti della possibilità di parlare che mi dà da parte mia penso sia superfluo perché è molto di parte un riconoscimento all'operato di Alvaro Cardin per cui non mi soffermo ringrazio tutti coloro i quali hanno fatto un passaggio significativo sul suo operato volevo solo però fare una precisazione che quando si parla di Alvaro Cardin non si deve parlare al passato ma penso sia giusto parlare al presente perché sicuramente non sarà uno che andrà in pensione almeno dal punto di vista di opinion leader di questa città e quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti e pertanto continuerà in qualche modo a dare il suo contributo a questo territorio con una particolarità che Alvaro Cardin ha sempre difeso la pordenonosità ma con una visione di apertura al nuovo e anche all'esterno perché se pensiamo che pordenonosità sia chiudersi in se stessi forse abbiamo sbagliato il concetto ecco io penso che quello che è stato fatto in fiera in questi anni sia stato proprio all'insegna dell'aprirsi di valorizzare il territorio e dell'aprirsi all'esterno per cui un grazie a lui ma un grazie anche al Consiglio di Amministrazione e un grazie anche a Giorgio Zaia che è stata espressione del Comune io penso che il Sindaco in questa occasione possa dire tranquillamente di aver operato in tutta la sua completa autonomia non ha avuto certamente qualcuno che gli ha tirato la giacca se c'è un punto debole di questa faccenda è nel numero di curriculum che sono arrivati questa è la cosa che fa pensare perché vuol dire che ci sono dei meccanismi che forse non sono proprio così perfetti e allora il fatto che di fronte ad una situazione di questo tipo di fronte ad una nomina così importante per un ente così importante per il territorio il fatto che i curriculum siano stati se non ho capito male sette per il Comune e due o tre per la provincia mi pare di aver capito vuol dire che c'è una limitazione nella progettualità nel senso che se non c'è un chiaro progetto davanti probabilmente pochi sono coloro i quali vogliono mettersi in gioco ecco questo è forse il punto più debole di tutta questa questione non è il fatto che ci sia un presidente che viene da Padova perché se facciamo una ricognizione all'interno di questo consiglio di pordenonesi doc nati e cresciuti penso che ce ne siano ben pochi e quello che vi sta parlando forse è uno di quelli che viene da più lontano perché viene dall'altra parte dell'emisfero per cui io penso che non sia il bollino di di pordenone che fa la capacità di chi è chiamato a dirigere ma prego consigliere Dalmas va bene vedremo per cui posso anche candidarmi a sto punto così dimostro che siamo ulteriormente aperti e per cui penso che le caratteristiche siano nel fatto di trovare delle persone che hanno capacità e voglia di mettersi in gioco per una sfida che certamente non è facile sappiamo che il mondo delle fiere non è un mondo semplice sappiamo che da qui a Verona c'è una difficoltà nell'ambito fieristico per quanto riguarda il Veneto sappiamo che Pordenone in ambito regionale è forse la fiera più robusta per cui certamente ci può essere un percorso in qualche modo di coordinamento di un settore che è in difficoltà chi è chiamato in questo momento a dirigerlo dovrà dimostrare di avere le capacità i numeri le relazioni per fare in modo che la fiera di Pordenone dal punto in cui è stata portata e mi pare sia stato riconosciuto da tutti che è un punto importante non debba perdere posizioni ma debba solo e soltanto poter in qualche modo crescere grazie grazie consigliere fresco bene nessun altro iscritto attanto passiamo alle interrogazioni allora sono le 19 e 27 come ho detto verrà dedicata un'ora a queste interrogazioni allora per interrogazioni Mara Piccin non c'è Isena Presson non c'è Francesco Ribetti si è andato è scomparso Francesco Ribetti telecamere in città spreco sicurezza i sottoscritti consiglieri comunali Mara Piccin Sonia Daniele Isena Presson Francesco Ribetti premesso che allo scopo di attuare un efficace ruolo di controllo sul territorio a rafforzamento dell'azione della polizia locale e delle forze dell'ordine sono stati investiti nel corso degli anni soldi pubblici per installazioni di telecamere che le aree dove posare i manufatti in oggetto sono state individuate grazie a valutazioni condivise fra l'amministrazione comunale la polizia locale e forze dell'ordine che in punto di installazione delle telecamere interesserebbero luoghi fabbricati in stato di abbandono area verde mercati strade con particolari problematiche punti particolarmente sensibili per episodi di reati considerato che decine di telecamere installate ormai da alcuni anni nel comune di Pordenone per la soveglianza alle zone più sensibili allo scopo di migliorare il monitoraggio del territorio non sarebbero funzionanti le telecamere installate sono uno strumento utile per combattere i reati e garantire maggiore sicurezza ai cittadini integrati in un sistema di videosorveglianza tutto ciò premesso è considerato interrogano il signor sindaco e l'assessore competente per sapere 1. se risulta essere vero quanto appreso dalla stampa relativamente al fatto che nella zona del palazzetto dello sport le telecamere installate sarebbero telecamere giocattolo 2. se l'amministrazione comunale ne fosse al corrente 3. quale sia stata la tempistica della loro installazione 4. quanto siano costati questi pseudo impianti di sicurezza alla collettività 5. quale sia la motivazione per la quale al tempo dell'installazione se si è inteso installare tali tipi di strumenti anziché quelli effettivamente efficaci al fine della loro funzione di prevenzione di eventuali reati 6. se l'intenzione dell'amministrazione comunale qualora vi siano altre zone in la città interessate da simili situazioni intervenire con la loro sostituzione 7. se l'amministrazione abbia in programma e con quale tempistica in quali luoghi in installazione di nuove telecamere oltre a quelle esistenti assessore Moro prego grazie presidente allora da premessa una cosa un edificio anche a qualche pubblico qual è il palazzetto dello sport per la limitata tutela accordabile allievi atti di degrado non rientrava a suo tempo nel sistema comunale di videosorveglianza tutela delle aree pubbliche infatti il sistema di videosorveglianza comunale è costruito per la sorveglianza di aree pubbliche e viabilità e di pochissimi immobili pubblici sensibili quali il municipio per quanto riguarda i quesiti specifici sulle pareti perimetrali del palazzetto dello sport risultano essere state installate numero 5 corpi di telecamera con led e sistema di alimentazione a batteria assai verosimili alle telecamere di sorveglianza e non telecamere giocattolo la circostanza della tipologia di tali telecamere era a conoscenza dell'organo esecutivo all'epoca in carica o quantomeno di alcuni componenti oltre al funzionario che sottoscrisse la determinazione di acquisto dato lo scopo di deterrenza la informazione era stata tenuta adeguatamente riservata i corpi telecamera risultano installati nell'estate del 2010 in concomitanza con lo spostamento di un gruppo elettrogeno e altri modesti lavori di adeguamento a prescrizione in materia di prevenzione incendi ciò è desumibile dalla determinazione dirigenziale numero 1814 del 9 giugno 2010 il costo dei 5 corpi di telecamera è stato di euro numero 2332 la voce di spesa descritta nella determinazione è la seguente installazioni di telecamere forniture e posa in opera di corpo telecamera vuoto complete di staffatura a parete e led rosso alimentato da batteria a bordo da installare in posizioni indicate dalla committente da una ricostruzione dei fatti dato il lasso di tempo trascorso è emerso che i corpi di telecamera avrebbero dovuto adempiere ad effetto deterrenza da piccoli atti di degrado vandalismo e disturbo in seguito ad una verifica puntuale sul territorio comunale non risultano altri corpi di telecamera installati in aree o immobili pubblici e pertanto non vi sono sostituzioni da effettuare qui doveva intervenire l'assessore Zille ma mi pare che non è era uscito per il futuro l'ultimo posito per il futuro utilizzando risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione del rendiconto 2014 stiamo definendo un programma di potenziamento del sistema di almeno 15 ulteriori telecamere oltre a uno stock di telecamere di ricambio per sostituire apparecchiature obsolete viene altresì programmata anche la posa di ulteriori tratti di fibra per migliorare la qualità del segnale di quelle telecamere attualmente connesse via Ponte Radio grazie Assessore Zille non c'è per tanto ho già risposto io hai risposto tu bene prego consigliere Danilo sì grazie Assessore Moro ma non ho capito queste queste telecamere installate nel 2010 al Palazzetto dello Sport fanno parte di quelle che dovranno essere riviste rimesse a punto o quali obsolete o no 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 ecco vabbè queste ripeto la domanda se queste apparecchiature fanno parte di quelle obsolete e quindi che andranno ad essere rimesse a punto oppure non è contemplato nei lavori non è oggetto di eh sì le telecamere eh attualmente sono scuse mi ripeto la domanda per cortesia perché sono appena entrato adesso non vorrei rispondere una cosa per l'altra chiedo scusa eh pardon ok no eh ok allora queste telecamere del palazzetto eh ok fanno parte di quelle che eh obsolete eh dichiarate dall'assessore Moro adesso e quindi no ho detto fanno parte di quelle obsolete ok come da lei dichiarato alcune eh come alcune altre eh apparecchiature eh poste in in alcuni luoghi della città oppure no punto di domanda se mi ascolta assessore Moro io non avevo detto che lei aveva detto di questo allora se si tratta della videosorveglianza quella generale mi riferisco a quella che sta davanti il palazzetto la telecamera davanti il palazzetto tra il palazzetto e i vigili del fuoco è funzionante è perfettamente funzionante questa era la domanda no però consigliere Daniello lei nell'interrogazione deve formulare tutte le domande non possiamo se si tratta delle altre telecamere non fanno parte della videosorveglianza questa era la risposta bene chiedo scusa per il mio ritardo in ogni caso e le ho fatto ripetere tre volte ok va bene il sì beh non mi pare tanto ovvio nel senso che il perimetro è di un edificio pubblico e queste telecamere ahimè non hanno registrato purtroppo e non hanno dato luogo ad effettuare delle indagini che ad oggi avrebbero portato ad una chiusura su quanto accaduto purtroppo a Pordenone il come eh erano finte no erano finte e quindi non si capisce come mai sono state messe lì per finta cioè in un edificio pubblico si mettono delle camere per finta a me fa un po' di squallore sta cosa nel senso che se ritenuta opportuna l'installazione delle telecamere perché presumibilmente eh deve essere controllato non deve essere un deterrente il 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 marchigegno ma deve essere completamente funzionante assessore eh lì è stato messo lì è stato messo lì dal parte del comune in un edificio del comune eh e e quindi dovevano essere funzionanti dovevano essere funzionanti altrimenti se non servono si tolgono e se non servivano non serviva comunque che fossero spese trecentotrentadue euro nel duemiladieci ok perché questo altrimenti se ha un senso ha un senso spendere soldi ok per pochi che siano anche dieci euro ma non ha non è la la quantità di soldi è il perché si spendono non è un deterrente metterli lì poi eh nessuno li aveva viste erano riabbassate e e tutti quanti poi siete andati a ricontrollare le telecamere mi pare un po' eh una storia abbastanza ridicola fra l'altro eh purtroppo eh è successo quel che è successo davanti eh al fianco del del palazzetto poteva anche non succedere e non ha senso eh legarle alle telecamere deterrenti o meno eh su questo eh sono d'accordo cioè non è che la telecamera però se aveva un senso metterli lì aveva un senso che fossero efficaci ed efficienti per il significato dell'installazione tutto qui bene grazie consigliere passiamo all'interrogazione numero 19 presentata dal consigliere Sonia Daniello oggetto circoscrizioni o nuove forme di partecipazione constatato che sindaco e vice sindaco nell'intervento di risposta alla mozione volta alla soppressione delle circoscrizioni alla fine del 2014 si sono presi l'impegno di riscrivere la nuova veste e riformulare una forma di partecipazione alla città alla luce dell'evoluzione amministrativa nazionale e regionale sulla soppressione delle province ed è riformulare un nuovo assetto istituzionale alla città che risponde alle esigenze effettive vere dei cittadini che il programma 2012 del PD e fiume Vivo Pordenone prevedeva anche cercando di intercettare una crescente domanda di partecipazione che non vuole essere circoscritta solo al momento del voto intendiamo il programma come un percorso non un percorso a termine ma un continuo l'incensato del lavoro che dovrà accompagnare ogni momento in cui si svolge la vita pubblica della città ciò sarà possibile se sapremo aggiornare creare e diffondere quelle pratiche di governo e di partecipazione che permettono ai cittadini di avere un impatto sulle decisioni collettive di assumersi responsabilità sociali di percepire che i problemi e le esigenze private possono trovare soluzioni più soddisfacenti se generano risposte di comunità in quest'ottica si vuole reinterpretare e far evolvere le circoscrizioni chiedo 1. quali tempi e le modalità per ridisegnare forme di partecipazione di tutti i cittadini 2. ci sarà spazio per poterne parlare in consiglio in commissione prima della prossima campagna elettorale 3. se il vice sindaco crede di essere coerente tra quello scritto in campagna elettorale e la risposta alla mia interrogazione del 9 febbraio 2015 a risposta scritta fatta arrivare ancora una volta con estremo ritardo alla sottoscritta il 25 marzo 4. se non crede che lo stesso tempo riservato per la stesura dell'UTI unica appoggiata da una maggioranza trasversale in consiglio cassata da altri consigli comunali sempre a maggioranza PD ed accantonata dall'UPI il 24 marzo possa essere speso in nome di una causa quale il desiderio di dare spazio alle persone e alle intelligenze dei cittadini per rispondere ai veri bisogni della città 5. cosa pensa effettivamente di poter fare in tempi brevi prego Assessore Mazzera sì grazie Presidente grazie consigliere Daniello lei rimarca nella sua interrogazione a risposta orale che siamo arrivati in ritardo a quella che gli abbiamo fornito a risposta scritta mi pareva di averle anche presentato alcune scuse e motivazioni del fatto che la risposta scritta fosse arrivata in ritardo e che l'avevamo iscritta nell'ordine del giorno del consiglio perché si poteva intravedere che fosse stata una risposta orale già quella volta e questo è il motivo del ritardo per la quale poi abbiamo ritirato la sua interrogazione dall'ordine del giorno del consiglio e gli abbiamo dato una risposta per iscritto che sembra non le sia tanto piaciuta tanto che lei ovviamente la ripresenta in forma orale ma io non ho dubbi nel pensare che una volta chiarito questo aspetto della risposta scritta posso anche spiegare la risposta che le abbiamo dato per capire se sia o meno coerente con quello che pensa questa maggioranza che pensiamo rispetto alle istituzioni circoscrizioni ecco noi pensiamo che l'istituzione circoscrizione che è fatta da bravissime persone che si stanno impegnando e che sono riuscite a ottenere dei risultati talvolta superiori a quelle che erano le aspettative rispetto ai compiti che gli vengono assegnati quindi un merito per quello che hanno fatto merito soprattutto qualche precedente che si è dato molto da fare con raccolta di firme con la collaborazione con il genius loci quindi niente da imputare a chi oggi è in circoscrizione per carità però è chiaro che lo strumento circoscrizioni per così come l'avevamo disegnato negli anni Elio 80 è uno strumento che va che va rivisto va rivisto nella logica di esigenze nuove oggi probabilmente non abbiamo più il bisogno di intercettare quelle che sono istanze che provengono dal territorio che riguardano magari un lavoro pubblico che facciamo su quella strada lì perché lo presentiamo già in diretta prima di fare il progetto andiamo su quella strada a discutere col territorio che ha diciamo che è il portatore di interesse di quello spazio a discutere di cosa facciamo l'abbiamo fatto da quando erano lavori pubblici è chiaro che ogni intervento da via Ferraris a via Cappuccini a via Interna a via San Quirino tutto l'abbiamo discusso col territorio facendo proprio l'assemblea lì vicino possibilmente quindi le motivazioni di allora non possono essere le motivazioni di oggi ma ci sono delle motivazioni c'è un progetto che riguarda la partecipazione del cittadino della comunità alle difficoltà del territorio sul quale possiamo intervenire e l'ho scritto proprio nella risposta che le abbiamo dato per iscritti perché di fatto non ci sono più i fenomeni di bullismo i fenomeni di solitudine di violenza nelle famiglie i fenomeni di nuove e nascoste povertà di disoccupazione i fenomeni che riguardano la malavita quindi la sicurezza non sociale ma la sicurezza proprio quella con la S che dovremmo essere tutelati dalle forze dell'ordine ecco questi sono secondo me i punti essenziali nei quali dobbiamo intervenire per far sì che il territorio sia partecipe con le istituzioni vedevo oggi semplicemente il numero di persone che si rivolge ai servizi sociali in Grecia che siamo passati con una moltiplicazione in Grecia naturalmente in Italia probabilmente speriamo sia un'altra cosa ma lì c'è stata un'invasione dei servizi sociali da parte di persone che hanno bisogno ecco noi dobbiamo imparare a gestire questo problema prima che arrivi negli uffici a filtrare questo problema prima che arrivi negli uffici a coadiuvare la soluzione del problema attraverso la competenza degli uffici la competenza tecnica la competenza professionale e allora pensavamo che il welfare di comunità fosse un'ipotesi da precorrere per dare una risposta a un bisogno di partecipazione nel quale l'istituzione non è più che aspetta il cittadino che arriva ma gli bussa la porta e possa ritornare questo tipo di aiuto che la comunità poi dà al cittadino anche attraverso quelle forme di partecipazione che chi è assistito può dare alla stessa comunità ritornare alla stessa comunità per quello io credo che noi abbiamo bisogno di mettere insieme coloro che sono gli allenatori delle squadre di Pulcini sono gli insegnanti che stanno nelle scuole sono gli operatori di strada che Genius Locin è uno degli esempi sono quel tipo di figura che sta già eradicato lì che sa i problemi che sa distinguerli e sa insieme a una rete di volontariato che può coadjuvare gli uffici dare delle risposte che oggi sono delle risposte soltanto tecniche che vengono solo in ufficio e che magari poi si spostano nel territorio ma dobbiamo cercare di prevenirle di coadjuvarle di aiutarle io credo che questa sia una vocazione sulla quale dobbiamo insistere perché probabilmente è la soluzione che possiamo dare a un nuovo modello partecipativo della comunità deve essere elettivo o non deve essere elettivo io capisco che in consiglio comunale abbiamo opinioni differenti insomma ma prima il progetto prima quello che vogliamo fare prima l'obiettivo che ci poniamo e poi lo decliniamo attraverso le forme migliori di partecipazione su questo su questo su questo devo dire io posso chiedere all'ufficio del centramento di aiutarmi per fare lo statuto della nuova UTI ma non posso chiedere a quel settore a quelle persone di darmi una mano su questo tipo di progetto e per quello che la risposta va indirizzata anche a chi sia che si occupa di sicurezza vigili e sicurezza sociale ambito perché è attraverso la loro integrazione che si può costruire un modello nuovo attraverso le esperienze che ci sono che sono maturate che si può costruire un livello nuovo fermo restando che poi il consiglio sovrano che deve raccogliere questo progetto è declinare come meglio poi restituirlo alla comunità ho visto che lei ha anche scherzato un pochettino sul fatto che ci siamo per pochissimo tempo occupati di unione territoriale interno comunale ipotizzando provocando dei pensieri delle considerazioni che forse non abbiamo potuto concretizzare però il fatto che alcuni comuni stiano scegliendo di venire con noi ne cito tre che hanno scelto di venire con noi che ci portano a nostra utica ci portava oltre 130 mila abitanti a Fiume Veneto gli hanno detto di no vediamo adesso hanno fatto una contradduzione vediamo se per caso li fanno rimanere nel nostro ambito territoriale perché insieme con loro possiamo costruire anche servizi che possano essere resi al cittadino in termini di economicità e anche efficienza però non le nego che con le altre uti stiamo parlando quelle che si sono formate e che oggi riscontrano le prime difficoltà perché si passa da lì anche nella loro costituzione difficoltà per capire se quel servizio è reso nella maniera più efficiente con quel determinato numero di abitanti e lì se ci scontriamo con le prime interrogative le prime domande allora non le nego che si possono anche fare ulteriori convenzioni fra uti perché secondo me se noi facciamo un unico ufficio che si occupa di URP in territorio comunale di Pordenone diamo un servizio agli operatori commerciali e agli operatori imprenditoriali di questo territorio ma se facciamo un unico servizio che si occupa di espropri nella provincia di Pordenone diamo la possibilità che questo servizio venga reso in termini di grande efficienza e professionalità senza spreco e quindi andando incontro al modello di economicità altri esempi non ne faccio perché sarebbero lunghi non le nego anche che noi stiamo partendo con quell'idea che è nata qua di convenzionarci per quelle che sono le strutture di base il protocollo la segreteria tutte quelle cose le cose che i revisori dei conti perché farle in un altro ente e costituirne altre perché non convenzionarci abbiamo qua il sindaco che è anche presidente della provincia ci dà una mano perché non convenzionarci con la provincia che è in grado di rendercene ad un costo più basso perché di fatto non incrementiamo molto il loro lavoro ma un conto è chiedere qualcuno che ci aiuti un conto è assumere persone e quindi pagarle totalmente indipendentemente dalla quantità di lavoro ecco tutto questo credo che ci debba convincere a fare un salto di qualità e non guardare più le circostrizioni dal punto di vista servono o non servono diamogli prima un progetto vediamo dopo come declinarlo come l'istituzione può rispondere a un bisogno e avremo probabilmente dato il massimo alla nostra comunità grazie sessore prego consigliere Daniello assolutamente no chi è che mi ha chiesto se posso essere soddisfatto in parte dall'assessore Zile Moro cioè lei mi ha non mi ha deluso mi ha basito nel senso che non sono i funzionari che devono rispondere a fare o non fare le nuove circostizioni il nuovo modello di partecipazione è lei la politica che deve decidere cosa far fare e cosa fare per le circoscrizioni si chiamano si chiamano esse circoscrizioni o altro mi ha risposto in parte dicendo che c'è un po' di confusione c'è chi incontra le prime difficoltà nell'Uti ma cioè è chiaro che si incontrano chissà quante altre difficoltà le Uti incontreranno cioè è tutto nuovo è da tutto da costruire non credo che nessuno sia un genio però ripeto è la politica quindi che deve decidere che cosa voler fare perché la partecipazione è anche capire i bisogni no? non andare a bussare prevenire le problematiche e rispondere sul territorio a queste cose e vista la mancanza e la sfiducia che i cittadini hanno nei confronti sempre più di un'istituzione gabbia no? e pretendono la partecipazione dal basso la partecipazione diretta alla vita della città e si sono viste in questi ultimi periodi mille esercizi di queste cose perché la partecipazione credo che a Porvenone sia voluta e sentita tant'è che anche per la circostruzione nel 2011 sono 11-12 sono andati a votare tutti quelli che hanno votato per il comune quindi ci credono a queste cose o crede che siano andati a votare solo perché per spirito divino o perché invogliati da altri la mia non era un'interrogazione sul fatto che oggi i presidenti di circoscrizione e chi ha lavorato nella circoscrizione abbia lavorato bene o male certo tutte le persone si sono impegnate delle circoscrizioni e credo che a queste vada un plauso come le ha detto lei ma nessuno sta mettendo in dubbio questo allora secondo me la partecipazione ha un valore nella politica e proprio per dare valore ai cittadini e alla partecipazione dei cittadini alla vita diretta del comune bisognerebbe pensare e non vado molto lontano vado a vedersi nel sito del comune di Bologna hanno organizzato delle forme di partecipazione delle singole in diciamo per gruppi di lavoro per chi voleva aderire per tematiche e quindi uno sensibile a quelle cose le ha apportato il proprio contributo alla città prendendosi anche delle responsabilità perché partecipare significa anche prendersi in carico responsabilità di conduzione non chiaramente di un consiglio comunale ma prendersi il carico anche della responsabilità delle proprie azioni nei confronti della città e dei propri concittadini era questo che volevo sentirmi dire e in più volevo capire e non ho ancora capito le farò un'altra interrogazione se ha veramente intenzione di lavorare su questa partecipazione perché o ci crede o non ci crede credo che lei sia a mezzo a metà a metà allora da una parte spinto dalla sua dalla sua storia dall'altra dice devo tener duro perché alcuni non lo vogliono trovi qualche scamutage Renzo Mazzare ce ne sono di possibilità nella sua testa e credo che lei ce le abbia grazie consigliere passiamo ora all'interrogazione numero 20 popolo delle libertà interrogazione sulla protesta di un cittadino contro la corruzione sottoscritto Francesco Ribetti consigliere del comune di Pordenone facente parte del gruppo consigliare del popolo della libertà fratelli d'Italia a N premesso che da qualche giorno e precisamente dall'11 marzo ultimo scorso in piazzale Ellero dei Mille è presente una tenda con un gazebo e un tavolino e divistaziona il signor Dino Santin che sta svolgendo una protesta basata sul sciopero della fame ad oltranza al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della corruzione nel settore pubblico come sintetizzate a grandi linee nel documento allegato molteplici cittadini rappresentanti delle istituzioni sono già passati a parlare per ascoltare le ragioni di tale persona tra gli altri anche il sindaco di Cordenone tutto sopremesso sottoscritto al consigliere comunale del gruppo PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. se l'amministrazione sia a conoscenza di tale iniziativa 2. qualora ne sia a conoscenza se siano state impartite direttive agli uffici servizi competenti al fine di monitorare la situazione ed in particolare lo stato di salute di tale persona 3. se l'amministrazione sia favorevole all'iniziativa o in essere avvisi motivi di contrarietà 4. se ritiene in qualche modo di condividere anche in via mediata con le azioni ritenute più opportune tali preoccupazioni e le richieste avanzate firmato Francesco Ribetti gruppo consigliare PDL Fratelli d'Italia N. prego signor sindaco grazie grazie presidente la protesta nel frattempo è terminata ma facciamo un po' la cronologia della cosa ci si riferisce al signor Dino Vittorio Santin ci aveva chiesto con la solita procedura l'utilizzo di solo pubblico in piazzale L'Euro dei Mille e avviato come aveva già pronunciato un'azione a suo dire di protesta e di sensibilizzazione contro la corruzione e gli sprechi questo era il suo titolo alla fine quest'azione si è concretizzata con il posizionamento appunto di una tenda in piazzale Ellero dove ha stazionato diciamo cominciando dall'11 marzo scorso alla fine la protesta è durata 38 giorni fino alla fine del mese di aprile la cosa è stata sospesa perché appunto nel monitoraggio che con tatto è stato fatto di quello che stava accadendo è stato verificato che c'erano dei motivi di salute che cominciavano probabilmente non solo per la protesta di per sé insomma che hanno consigliato alla fine la sospensione il suo ricovero in ospedale e quindi abbiamo appreso che il signor Santin che è per chi non lo sapesse un cittadino di fiume Veneto sta continuando comunque le sue proteste è uscito dall'ospedale e tornato a casa quindi comunque non ha desistito dalla sua azione nel porsi contro la corruzione e gli sprechi noi abbiamo seguito questa vicenda con una molto sobrietà non abbiamo voluto né strumentalizzare la cosa né andare in contraposizione con questa persona lo abbiamo fatto attraverso i servizi sanitari e attraverso i nostri vigili proprio per far sì che una protesta che è comunque condivisibile non è che qui entriamo nel merito del come ma insomma ognuno ha il diritto dovere di esprimere le sue opinioni però non poteva essere d'altra parte dal nostro punto di vista tale da mettere a repentaglio la salute o rischiare la persona stessa quindi abbiamo seguito il tutto con insomma relativamente distante e abbiamo poi aiutato nel momento in cui la cosa si è conclusa a questa persona ritornare a casa sua adesso so che attraverso i social comunque continua la sua protesta ci va bene così ma siamo anche altrettanto contenti di aver controllato la cosa in questo modo grazie signor sindaco prego consigliere Ribetti grazie grazie presidente ringrazio il sindaco per la risposta sì ho preso atto sindaco il motivo diciamo scatenante mi passi il termine l'interrogazione è dato dal fatto che adesso a prescindere dalle posizioni personali che ognuno di noi può avere e il pensiero riguardo la protesta o la protesta fatta in questo modo io ritengo che su certi temi che diciamo sui quali è un po' difficile non concordare poi possiamo non concordare sulle modalità concrete eccetera però su certi temi di diciamo così ampio respiro che trovano e coinvolgono credo l'attenzione di tutti sembrava mi era sembrato poco carino perché svolgentesi nella nostra città che non ci fosse stato neanche un passaggio da parte di chi rappresenta della massima autorità cittadina lo dico fuori da denti più di qualcuno mi ha detto abbiamo visto tante volte il sindaco che passava in bicicletta lì davanti non si è neanche mai fermato a chiedere se aveva bisogno di una bottiglietta d'acqua allora io prendo atto e la ringrazio per le informazioni che mi ha dato che avete monitorato tramite servizi credo anche tramite vigili la questione la situazione soprattutto dal punto di vista sanitario quindi da questo punto di vista concordo avete fatto bene ritengo ecco che proprio perché non si trattava di un tema di parte ma era un tema credo di buon senso chi di noi non si auspica di combattere la corruzione soprattutto in ambito pubblico eccetera che sarebbe stato opportuno come ha fatto un altro sindaco io ho citato il sindaco di Cordenos semplicemente perché quelle due sere che sono passate una delle due è passato è venuto giù lui con la sua macchinetta sì con la macchinetta e si è fermato ha perso 10 minuti un quarto d'ora a parlare con questa persona quindi mi sarebbe piaciuto che anche il sindaco della mia città ripeto che anche poi il presidente della provincia si fosse almeno fermato per far vedere che le istituzioni erano presenti poi chiaramente ognuno resta delle proprie idee ecco quindi solo per questo ci tenevo a sottolineare che a mio modo di vedere nella sua persona che ripeto la massima istituzione comunale sarebbe stato opportuno oltre al monitoraggio che ha fatto dal punto di vista sanitario anche magari un gesto concreto è farsi vedere non dico tanto vengo là ti ascolto prendo atto hai ragione siamo concordi tieni duro vai avanti ecco credo che sia mancato questo nel comportamento dell'amministrazione della sua persona ecco ci tenevo solamente a evidenziare questo la ringrazio grazie consigliere passiamo all'interrogazione numero 22 interrogazione non discriminiamo i cani la sottoscritta consigliere comunale Isena Peresson premesso che nell'area dei laghetti di Rorae e nell'area di Accente e Castello di Toro moltissimi cittadini portano aggiornamenti i propri fedeli amici a quattro zampe a sgambettare in libertà e sicurezza a sgambare scusate atteso che tali spazi sono frequentati quindi anche per la necessità dei cani di poter avere un luogo dove esprimere la propria esuberanza e vitalità considerato che non tutti i pordeonesi dispongono di giardini privati e questo non deve discriminare le povere bestiole e i loro proprietari essendo a conoscenza che l'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza che dal 15 aprile renderà impossibile l'uso di queste aree lasciando i cani liberi sapendo inoltre che i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio perché tali aree non sono recintate ma solo delimitate tutto ciò premesso interrogo il sindaco e l'assessore competente per sapere quali immediate urgenti azioni intendono intraprendere per ristabilire una situazione di giustizia nei confronti dei tantissimi pordeonesi e loro amici inseparabili a quattro zampe Isena Presson Assessore Moro prego Loro Moro scusi abbiamo accolto la sua istanza anche perché la delibera prima era in fase sperimentale e stavamo molto attenti su quello che stava succedendo in realtà la sensibilità era nata da questo nelle aree che non erano recintate completamente ma che erano soltanto recintate in parte ci si chiedeva se dovevamo fare una recinzione completa oppure no il problema era grandissimo la legge prevede che comunque il conduttore del cane è responsabile di quello che capita per cui se il conduttore se la sente di liberare il cane in una zona che non sia completamente chiusa lo libera perché obbedisce quindi praticamente tutto quello che lei ha chiesto è stato accolto la delibera è stata pubblicata il 15 giugno di quest'anno le aree sono divise in quattro zone lei troverà nel sito del comune punto per punto tutti gli spazi dove possono passeggiare il cane col proprio conduttore con le regole lei cita in pieno l'inizio la legge regionale che condividiamo lo spirito in pieno per cui per noi va bene grazie assessore prego consigliere grazie grazie assessore devo ritenermi soddisfatta per la risposta e spero comunque che alcune aree vengano comunque recintate perché ce ne sono sempre che ho citato anche nell'interrogazione sono aree un po' pericolose perché c'è la strada tipo parlo di quello di torre per esempio c'è la strada dove comunque gli automobilisti corrono anche veloci io non so propongo per esempio dei come si chiamano quelli per rallentatori di velocità dei dissuasori grazie almeno oppure una recinzione capisco che magari avrà dei costi elevati però insomma si tutelerebbero sia gli animali che comunque anche non lo so i ciclisti piuttosto che le auto vabbè comunque mi ritengo soddisfatta e spero che si continui sempre in questo modo grazie grazie consigliere interrogazione numero 23 il sottoscritto consigliere comunale del comune di Pordenone premesso che la questione dei nomadi è una questione di rilevo estremamente elevato che la sosta di eventuali nomadi comporta problematiche di diversa natura che spesso generano un forte aumento di apprensione per la popolazione estanziale e un aumento da parte della cittadinanza della percezione dei furti durante la sosta di riluppi di nomadi nelle loro vicinanze la questione nomade rappresenta dubbiamente anche un problema dal punto di vista igienico-sanitario e pertanto merita di essere il più possibile superata tenuto conto che sono sempre più le iniziative atte a contenere il fenomeno nomade vi sia necessario integrare coloro che attualmente sono definiti nomadi assicurandosi di attribuire loro pari diritti e pari doveri rispetto ai restanti cittadini come il diritto alla scuola per il loro figlio e il dovere del pagamento di tasse come l'IMU la tasse sui rifiuti o altro è infatti necessario integrare per impedire una deriva di intolleranza collegata purtroppo troppo spesso la presenza dei nomadi interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere se si vogliono impegnare come è venuto altrove a predisporre divieti di sosta e tappezzare la città con cartelli di divieti di sosta per i nomadi nel territorio comunale vi è la volontà di aumentare i controlli verso tali cittadini dove ve ne fosse l'opportunità vi è l'intenzione di agire affinché non vi siano più differenze tra il cittadino comune e il nomade sia nei diritti che nei doveri pertanto superamento della loro situazione di precarietà firmato Riccardo Piccinato prego Assessore Romoro Allora purtroppo purtroppo ben per noi Pordenone non è Padova e ci distingue in una maniera nettamente diversa dal problema dei nomadi a Padova al problema dei nomadi qui a Pordenone per quanto ci riguarda il problema nomadi a Pordenone mi riferisco in particolare ai Rom sono soltanto Rom Pordenone è un comune che ha che non ha la particolarità di non avere nel suo territorio alcun insediamento sia provvisorio che definitivo di queste persone non ce ne ha dal 2005 anno in cui è stato nominato comandante della polizia municipale di Pordenone ci sono stati sette episodi che hanno riguardato presenze di nomadi a Pordenone nel dettaglio due volte hanno tentato con una dozzina di roulotte caravane di sistemarsi nelle aree del centro commerciale di Pordenone zona dogana metro ma sono stati fermati solo per circa ma si sono fermati solo per 30 giorni e poi se ne sono dovuti andare stante la pressione esercitata dai controlli da parte della polizia municipale e di tutte le forze di polizia dello Stato altre due volte hanno tentato con la stessa tecnica delle roulotte di sistemarsi nel parcheggio della fiera campionaria di Viale Treviso ma hanno resistito poco più di 24 ore ai continui e a loro dire assillanti controlli sia della municipale che della questura dei carabinieri altre tre volte c'è stato un problema della presenza nel parcheggio di via Montereale all'ospedale civile di Camper di Rom regolarmente parcheggiati e assicurati che erano lì presenti per un periodo massimo di una ventina di giorni per assicurare assistenza cosa verificata appuntualmente dai nostri vigili ai loro congiunti di rango ricoverati appunto presso il nostro ospedale anche questi sono stati sottoposti a continuo di controllo da parte nostra e delle altre forze di polizia deve rilevare che in questi periodi di sosta non sono stati segnalati per quanto è dato di conoscere episodi particolari di criticità per la sicurezza pubblica tanto premesso lo stato attuale non si ritiene a parte iniziative di carattere sociale che il comune non debba provvedere a mettere delle risorse con cartelli di divieto e altri in presenza di un fenomeno che per quanto ci riguarda non ci coinvolge in maniera forte e per nostra fortuna quasi direi inesistente questa è la nostra relazione del comune di Porto e Nonno sul problema Roma prego grazie sessore prego consigliere grazie grazie presidente il problema dei dei nomadi come sa è un problema limitato in secondo determinati canoni che però riesce a creare notevole problematicità alla cittadinanza ove sia presente non dappertutto ma in troppi casi è chiaro che quelli che ha elencato lei sono degli episodi avvenuti ma il senso della mia interrogazione è quello di una prevenzione molto puntigliosa per quanto riguarda l'aumento della mobilità in alcuni casi che sta avvenendo in questi fenomeni quindi è importante dal mio punto di vista prevenire il fenomeno anche dicendo chiaramente che Porto e Nonno non è terra adatta a questo tipo di insediamento e quindi mi dispiace che l'amministrazione non colga questo punto e nemmeno proponga delle alternative che magari riteneva più adatte per porre prevenzione a questo tipo di fenomeno io non credo che quel tipo di fenomeno lì porti benessere ricchezza o arricchimento di qualunque tipo alla comunità portinonese e quindi credo sia importante davvero riuscire a limitare più possibile poi è chiaro che in ogni caso i fenomeni di tipo ostanziale comunque ci sono nel senso che per quanto riguarda quelli che sono i giostrai che vengono a fare il Luna Park a Pordenone in ogni caso rappresentano un fenomeno di nomadismo che poi non sia riconosciuto come quello che in alcuni casi si intende però io non ho mica scritto rom delinquenti o rom disoccupati o nomadi disoccupati o nomadi delinquenti no quindi la sua risposta posso dire che è stata imprecisa e quindi ecco allora mettiamo diciamo le cose nella maniera adeguata quindi non è che non ci sono a Pordenone anche perché mi risulta che insomma la cittadinanza nei pressi di Valle Noncello dove arrivano i giostrai sia molto spesso preoccupata perché secondo loro vi è un aumento di preoccupazione durante quel tipo di periodo in cui gli stessi arrivano a Pordenone quindi della micro criminalità ecco io non appunto non riesco a sposare la risposta che mi è stata data dall'amministrazione perché risulta un po' così una risposta senza cercare di migliorare quello che si può fare perché io riesco a capire benissimo che ma scusi ma quindi siccome oggi non c'è un problema evidente allora meglio non prevenire ieri non ha piovuto quindi non facciamo niente per migliorare la prevenzione delle acque io questa battuta veramente poteva risparmiarsela comunque davvero credo che la prevenzione sia importante perché il fenomeno non è che compare così da arriva da un giorno all'altro e quindi è giusto prevenirlo prima per evitare di avere ulteriori problemi dopo questo è il senso della prevenzione ecco quindi non mi dichiaro soddisfatto grazie bene altri in altre in altre zone della regione sempre da notizia di stampa viene riferito che se per i 50 profughi destinati a Pordenone e provincia non vè alcun dubbio non vè certezza per quelli destinati ad Udine per i quali la locale prefettura non avrebbe concesso nulla osta stando agli articoli di stampa allegato 1 poi parrebbe anche che il sindaco di Udine si sia opposto all'ennesimo arrivo di profughi infine pare che sia partita una circolare dal ministero dell'interno con la richiesta ai prefetti di reperire posti in ogni provincia da occupare anche con provvedimenti d'urgenza e requisizioni tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. se risponde al vero che il comune di Pordenone nulla ha opposto all'arrivo di altri 50 profughi nella nostra città come fatto dal comune di Udine 2. se l'amministrazione intende opporsi come fatto dal comune di Udine all'arrivo di altri profughi nella nostra città ed in tal caso con quali mezzi 3. se l'amministrazione non ritenga eccessivo il numero di profughi assegnati alla città e dalla provincia 4. se l'amministrazione non ritenga eccessivo il numero di profughi che stanno raggiungendo il nostro Stato e quindi se non intende inoltrare formale richiesta dai competenti autorità nazionali affinché venga regolamentato con ogni strumento ritenuto utile al fine l'accesso nel nostro Paese firmato Francesco Ribetti e Mara Piccin Assessore Romoro Prego e questo è un riscosso un po' più ampio un po' più serio un po' più grande un po' più territorialmente vasto che parte dall'Europa e come avete visto tutti quanti in questi ultimi momenti non si riesce a capire come insieme si possa trovare una soluzione di sicuro anche noi nel nostro Friuli Venezia Giulia abbiamo delle situazioni molto particolari perché storicamente il Friuli Venezia Giulia era nel Mare Nostrum era ex Mare Nostrum attuale Triton mi piace più Tritone Triton era l'ultima regione lassù in alto per cui eravamo un po' risparmiati da un afflusso importante nel momento in cui al problema degli l'attraversamento per mare sono cominciati in maniera preponderante gli attraversamenti via terra che venivano chiamate Montes nostri proprio perché venivano da Tervisio e una parte erano ex novo persone che provenivano Siria Afghanistan Pakistan dall'altra parte erano delle altre persone che erano i dublinanti che si rimettevano in circolo perché dalle altre parti delle nazioni europee era stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitario o di asilo politico per cui questa parte della terra della nostra terra la zona di Tervisio la parte dell'Austria la pianura pannonica e la Slovenia diventava un'altra via di ingresso che storicamente in Friuli è sempre stata una via importante allora la sua la sua domanda si rifà il 15 aprile quando c'erano 1.800 immigrati nel Friuli Venezia Giulia 15 aprile siamo il 18 giugno quattro giorni fa e siamo a 2.100 purtroppo la situazione non è sotto un controllo possibile perché le leggi che abbiamo sono quelle che non ci permettono se non di fare come ha fatto Hollande in Francia bloccare sulla frontiera gli immigrati è logico che ci sono costantemente situazioni di allerta e di discussione noi tanto per rispondere alla prima domanda è vero noi siamo andati a Trieste e abbiamo detto non dateci più immigrati perché il problema è semplice se voi pensate geograficamente Pordenone è l'unica provincia che non ha né confine con altri stati né il mare cosa vuol dire questo? vuol dire che dal punto di vista delle istituzioni i funzionari di polizia e di forestale polizia questura e guardia di finanza sono ridotti rispetto a quelli di Udine di Gorizia e di Trieste a quando io all'assessore Torrenti e al prefetto al prefetto commissario del governo Francesca Adelaide Garofi ho detto vabbè se volete darseli ce li date ma ci date anche il corrispettivo delle forze perché non potete darseli soltanto senza il corrispettivo delle forze allora quindi ci siamo e abbiamo ci siamo confrontati abbiamo alzato anche un po' la voce rispetto a queste situazioni qua in questo momento in questo momento la situazione è ancora più grave del 15 aprile vi do i dati del 22 giugno quindi di oggi vi do i dati di oggi che sono a Pordenone casa Madonna Pellegrina presenti 31 casa San Giuseppe 15 appartamento La Torre 8 Pordenone struttura via Rotate 20 Pordenone Villa Regia 8 Pordenone appartamento via Ungaresca 5 Aviano attenzione perché è importante il concetto della provincia vi do tutti i dati provinciali Aviano Residence Tower 12 Montereale Valcellina Grizzo 8 Montereale Valcellina appartamento 2 Roverede in piano appartamento 5 struttura località Torricello San Vito tagliamento 18 10 Antica Locanda Accord de Nons Voce del Sole Provis Domini 10 19 diciamo sbagliato leggere 15 Albergo Monteraut Frisanco 5 Sacile e Polcenigo 39 con in questo momento perché i presenti all'Antares è finito il periodo l'accordo hanno dovuto spostarli perché inizia la stagione turistica e quindi bisogna portarli giù i dati attuali sono questi altrettanto però importante è quello che si sta dicendo in questi giorni e a giovedì prossimo ci sarà un altro incontro dove l'assessore Torrenti ma sembra un po' ci sia tutta l'idea è che noi abbiamo sforato nella percentuale rispetto a tutte le altre regioni d'Italia cioè ne abbiamo addirittura in percentuale il friuli e il venezia di giugno ne ha di più quindi quei 50 che sono stati spediti poco tempo fa erano proprio per bilanciare il tutto cosa si può fare cosa si può fare io vi dico quello che si dice quello che si dice e si dice che si deve continuare andare verso l'accoglimento diffuso si dice di tentare di coinvolgere queste persone nel far qualcosa e quindi nel farle lavorare in qualche maniera coinvolgerla nell'attività lavorativa un progetto firmato anche da Anci friuli Venezia Giulia anche lui prevede un piano di accoglienza diffusa che verrà illustrato giovedì prossimo a Trieste ma quello che potrebbe venire fuori con particolare evidenza sono due cose importanti una che Torrenti possa fare la proposta di dividere per ambito la presenza degli immigrati e si parla di 150 immigrati per ambito e quindi il numero che vi ho letto prima io Pordenone Cordenons Roveredo siamo intorno ai 110 circa immigrati per cui con pochi immigrati in più il nostro ambito di Pordenone potrebbe dare la risposta desiderata dalla regione Frioli Venezia Giulia ma c'è un'altra cosa che si sta lavorando anche verso dei mini hub quindi delle strutture che possono concentrare una quantità di persone non grandi non le grandi caserme ma piccole strutture e la regione Frioli di Venezia Giulia ne prevede anche una a Pordenone questo è non posso dirvi di più perché giovedì se volete vi dirò quello che sentiremo giovedì il punto 4 me lo faccia leggere il punto 4 è se l'amministrazione non ritenga eccessivo sì 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 beh allora il problema è logico questa è una è la palissiana allora noi diamo delle risposte umanitarie tutte queste persone che provengono da situazioni di grave disagio che provengono da situazioni di guerra che provengono da situazioni di disumanità e qualcuno anche viene per trovare posto di lavoro ma sicuramente noi in questo momento non siamo attrezzati per poter accogliere queste persone così in massa se posso far mie le parole del Presidente della Repubblica sì all'accoglienza ma con un criterio di specificità prego allora ringrazio il sinaco sì volevo aggiungere alla sintesi che ha fatto l'assessore Romor due considerazioni in questi mesi direi in quest'anno la la gestione degli immigrati a Pordenone è stata ovviamente orchestrata dalla nostra prefettura i sindaci del nostro territorio quelli degli vari ambiti che sono stati sollecitati da queste necessità hanno trovato il modo di regolarmente confrontarsi con la vice prefetto Vinci Guerra che alla fine di fatto era l'ente rappresentante l'ente che ha in carico queste tematiche e che cercava di fatto una cooperazione una collaborazione con la parte territoriale io penso che vedendo che il tutto è stato gestito con molta abilità da parte del vice prefetto ma sicuramente per la collaborazione che tutti i sindaci della provincia di Pordenone quelli degli ambiti intendo hanno dato in questo senso possa essere un motivo nostro divanto nei confronti della Regione nel confronto della Regione voglio ripetere che nei momenti in cui ci siamo veramente confrontati il fatto di un'accusa piuttosto semplicistica che alla fine eravamo in debito di numeri rispetto agli altri è stato spiegato abbastanza chiaramente proprio per quanto ha detto Vincenzo Romor non siamo né Regione di confine non abbiamo il mare ma soprattutto non abbiamo nemmeno le forze di polizia che possano far fronte a cose di questo tipo per cui la nostra posizione è sempre stata siamo assolutamente disponibili o la nostra profittura è disponibile se anche le forze in campo vengono ancora una volta equilibrate quelle speriquazioni che noi conosciamo bene che se non sbaglio erano state anche al centro di una nostra discussione in un'altra interrogazione io voglio aggiungere un commento non so se voi avete sentito su Radio 24 la doppia intervista che è stata fatta diciamo qualche giorno fa a due sindaci che si trovavano in situazioni molto diverse il primo sindaco era quello di Ventimiglia l'altro sindaco era qualcuno che noi conosciamo bene in regione che è Renato Carlantoni era bello vedere che rappresentavano due momenti diversi nel giudizio perché alla fine questo per riportare la discussione anche a livello europeo che deve essere evidentemente affrontato e discusso da un lato il sindaco di Ventimiglia la sintesi era ma sti diavoli di francesi quella vogliono che se li prendano dall'altro la posizione di Renato che conosco bene perché ci si incontra spesso al Cal era l'opposta perché questi austriaci ce li danno con questa facilità ecco una cosa mi ha colpito e non c'è stata contrapposizione tra i due sindaci perché alla fine la radice la radice della discussione era comune come facciamo noi che siamo questa piattaforma naturale nel Mediterraneo a non essere dal punto di vista europeo considerati in modo diverso in momenti di criticità come questi quindi a mio avviso l'azione di governo non solo deve essere rafforzata ma deve portare ad una discussione particolarmente non vorrei dire violenta ma insomma posizioni molto decise in ambito europeo la cosa che sottolineava Renato era che i tempi e qui arriviamo a un altro aspetto che credo avessimo già condiviso qualche tempo fa i tempi di riconoscimento in Austria sono 22 giorni dai 20 ai 22 giorni mentre in Italia è un anno e mezzo ora d'accordo supponiamo che loro siano particolarmente virtuosi però negli altri paesi europei alla fine si parla di qualche mese due tre non di più ecco a mio avviso nella discussione complessiva che in questi momenti noi abbiamo su tutti i giornali in tutti i talk show in tutto quello che volete voi e che ci coinvolge alla fine perché noi siamo proprio una regione di punta in questo senso con le nostre dimensioni in proporzione a mio avviso ogni tanto bisognerebbe ricordarsi anche di questi aspetti io sinceramente non capisco quale siano le problematiche per rafforzare all'interno delle nostre questure perché è un tema delle nostre questure un fronte di riconoscimento sia locale che nei posti dove queste persone arrivano e che non ci portino per carità al fatto dei 22 giorni austriaci ma certo non all'anno e mezzo che voi capite alla fine determina un mostruoso aumento delle persone che noi ospitiamo semplicemente anche per le attese a cui noi le sottoponiamo quindi tra tante discussioni di tipo politico del nostro posizionamento europeo per carità forse un'altra fetta di riguardo dovrebbe essere data a questi aspetti che sono essenzialmente di riequilibrio delle forze di polizia in campo e dall'altra parte di rafforzamento di procedure che a mio avviso non sono al di là delle nostre portate non mi sembrano nemmeno al di là di eventuali costi che il nostro Stato possa supportare quindi c'è un doppio l'interrogazione credo sia stata utile visto che da allora anche se il tempo è relativo rispetto a quando è stata presentata di cose ne sono accadute tanto però di fatto un momento più preciso sia nel nostro nella nostra collocazione europea ma sia nelle cose che dobbiamo fare in casa che ancora non abbiamo fatto sarebbe auspicabile faremo di tutto attraverso la nuova prefetta si dice prefetta il nuovo prefetto Maria Rosa Raganà che attendiamo di continuare questa collaborazione proficua ma altresì di avere una spalla con noi per avanzare richieste più mirate proprio nell'ottenimento di quegli servizi indispensabili che ci sono necessari e l'assessore deve scusi l'assessore deve completare la risposta date la parola grazie è giusto che i consiglieri sappiano cosa è successo in questi 15 giorni che abbiamo avuto quei due casi di scabbia che abbiamo risolto in una maniera eccezionale vi informo rapidamente è stata fatta la denuncia a mezzogiorno di martedì alle 3 di un signore è andato in ospedale tramite pronto soccorso dal dermatologo il dermatologo ha fatto denuncia perché è denuncia obbligatoria quando c'è la scabbia è arrivato contemporaneamente un altro secondo caso ed erano tutti e due entrambi in quel gruppo di cui non vi ho parlato che sono quei famosi 14 in via Piave che quelli sono figli di nessuno vi ricordate questo inverno quel freddo per cui li abbiamo messi da qualche parte al ricovero perché non ci fossero problemi e la protezione ce le ville ce li ha accolti una settimana e poi noi li abbiamo accolti tramite le varie associazioni fideistiche cattoliche siamo riusciti a organizzare vi ricordate di questi 14 no ci sono ancora queste 14 persone sono i cosiddetti ma non sono sempre loro sono 14 in più sono delle persone che sono cosiddetti figli di nessuno perché arrivano sono in attesa di andare in questura a fare la domanda e in questo momento non sono riconosciuti da nessuno è così no? e se no girerebbero se no girerebbero per la città vagherebbero per la città noi ce ne siamo fatti i carico li abbiamo raccolti in questa struttura sono 14 in uno dei vari scambi perché una volta fanno la domanda ed entrano nel progetto SPRA quindi con associazioni nuovi vicini entrano nel sistema ministeriale di accoglienza ufficiale ma intanto che aspettano di entrare in provincia sempre riferimento a quello che diceva il sindaco prima che ci vuole un po' di tempo spazio perché sono sotto numerati i gli sotto ufficiali della della polizia devono avere il loro tempo per fare è scoppiato il caso il giorno alle 3 del pomeriggio task force compresa azienda sanitaria Caritas nuovi vicini la prefettura e il comune il giorno dopo abbiamo cominciato il trattamento un trattamento importante con scomparsa completamente della infestazione ultimo trattamento fatto giovedì della settimana scorsa quindi il caso è completamente chiuso e risolto non abbiamo nessun problema di recidiva cioè nel nostro piccolo siamo riusciti a fare anche in poco tempo li abbiamo contenuti nella struttura di via Piava in modo che non vadano in giro eventualmente ad essere ad essere un pericolo per la sua città quindi è chiuso tutto e lo abbiamo fatto con grande rapidità prego grazie grazie prego consigliere ribetti grazie grazie presidente ringrazio l'assessore e il sindaco per l'esaustiva risposta e soprattutto noto con piacere che l'assessore all'inizio della sua interrogazione aveva proprio colto quella che era lo spirito chiedo scusa all'inizio della risposta aveva colto lo spirito della mia interrogazione che voleva passare dal dato particolare che riguardava il nostro territorio a quello che era un dato più generale che riguardava quella che era e poteva essere l'idea cosa ne pensava l'amministrazione di questo problema e voleva invogliare in un certo qual modo l'amministrazione diceva il punto 4 l'interrogazione che quindi cercare di porre il problema all'attenzione di chi deve decidere perché l'assessore lei mi ha parlato che è andato a parlare a Trieste con l'assessore competente che ci viene a dire tutte queste belle cose che a noi ci spetta una cosa di ambito però il vero problema sta a Monte il vero problema no in Europa è qui che la volevo l'assessore non sta in Europa il vero problema il vero problema sta in Italia a mio modo di vedere perché sta in Italia sta in Italia e in Friuli viene giù perché la nostra la nostra governatrice che è tanto vicina al capo del governo dovrebbe interessarsi magari un po' di più della propria regione però sul serio non interessarsene solo per fare bella figura a Roma dove interessa stare perché non perde occasione di dirlo che il suo secondo ruolo è governatore della regione il suo primo è vicepresidente di un partito chiusa la polemica il vero motivo ossessore come dicevo prima è che non è un problema europeo perché lo sarebbe ma l'Europa ha risposto chiaramente quando prima il sindaco ricordava che in quest'aula ne abbiamo già parlato di questo argomento e io ho già ribadito più di una volta che io mi sento responsabile di tutte quelle morti che avvengono nel canale di Sicilia io mi sento responsabile come italiano perché fin quando continueremo ad avere uno stato un governo debole un governo che continua che continua a chiedo scusa per il termine fregarsene dei cittadini dei propri connazionali continueremo ad avere dei morti in quel canale di Sicilia io dico per carità nessuno vuole quelle persone muoiono è giusto l'accoglienza giusto l'accoglienza e l'aiuto a tutti a 360 gradi però deve essere un'accoglienza che deve essere misurata fin quando quelle persone continueranno a sapere che ci sono gli italiani che vanno a prenderli continueranno a morire perché continueranno a partire allora lei prima assessore diceva in un suo passaggio cosa si può fare io dico io cosa si può fare amore per i cittadini ma prima per i nostri connazionali poi per gli altri nessuno vuole dire chiudiamo le porte non aiutiamoli lasciamo di morire no però bisogna bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno non si può continuare per l'ipocrisia per 4 spiccioli di voti a voler riempirsi la bocca di buonismo venite possono entrare tutti andiamo a prenderli li portiamo e dopo di che cosa fanno dove vanno lei prima diceva ci sono dei progetti per farli lavorare beh venga facciamo lavorare se abbiamo tutto questo lavoro come mai gli italiani sono disoccupati e gli stranieri che sono in Italia sono disoccupati è un'ipocrisia a quest'assessore sappiamo benissimo che lavoro non ce n'è allora ma non ce l'ho con lei io capisco il suo quello che volevo dire io io non ho mai avuto non ho mai avuto simpatia per i francesi beh l'altro giorno ho detto ben venga l'ho guardato con rispetto il governo francese un governo che ha avuto il coraggio di dire cose come stanno ha detto no signori prima i miei cittadini poi gli altri è così che dovrebbe fare un governo quando io nel punto 4 della mia interrogazione chiedo cosa pensa questa amministrazione perché non si muove nei confronti della politica nazionale abbiamo fatto tante volte le mozioni perché non facciamo una mozione bipartisan perché perché non siamo neanche d'accordo qua perché c'è la gente che si neppia la bocca di buonismo bisogna accogliere tutti accettiamo andiamo continuiamo a portarli dopodiché dove li mandiamo perché perché abbiamo un governo che continua a dire è un problema europeo ti hanno fatto vedere tutti come è un problema europeo non è un problema europeo il bello il bello della democrazia il bello della democrazia che possono parlare tutti però non le fanno le interrogazioni avete lo strumento per farle si chiama computer matitina penna si firma basta sapere cosa dire chi non sa cosa dire evidentemente sarò rispondere sugli altri allora vorrei lamentare è terminato il terminato poi mi farà no mi farà recuperare il tempo che mi sta facendo perdere mi farà ecco no quindi il problema ed è il problema il problema era proprio per evidenziare caro sindaco e lo dico per l'ultima volta perché mi aveva sollecitato questa interrogazione perché il problema era conosciuto proprio l'articolo dello stesso giornale di due edizioni diverse che era il messaggero a Udine abbiamo un sindaco dove nella stessa giornata dice profughi in Friule Udine li blocca Pordenone arrivano 50 profughi allora sindaco e vado a concludere secondo me partendo dai piccoli livelli visto che è un problema che abbiamo capito che chi sta a Roma non vuole risolvere o non sa risolvere di qualunque colore sia Passoni contento anche di destra va bene te l'ho detto ma è una cosa che dicevo anche prima però adesso governate voi Passoni se mi fa concludere Passoni adesso governano loro sono stati sei mesi abbiamo avuto la presidenza della commissione europea per sei mesi e ci siamo fatti raccontare dal nostro governo che è un problema europeo il problema europeo abbiamo visto Hollande come ce l'ha spiegato quindi concludo dicendo sindaco che l'amministrazione comunale se davvero crede che sia un problema e davvero vuole fare qualcosa a mio modo di vedere dovrebbe farsi portavoce presso il governo nazionale indicando una strada che sia quella dell'aiuto sì ma non dell'aiuto becero chiuso per tutti grazie bene signori è terminata l'ora dedicata alle interrogazioni passiamo alle deliberazioni allora come vi ho detto in apertura dei lavori verranno presentate dall'amministrazione le proposte di deliberazione numero 17 e numero 18 pertanto passiamo ad esaminare la deliberazione numero 17 2015 approvazione e rendi conto della gestione 2014 e la deliberazione 18 2015 ratifica delibera della giunta comunale numero 81 dell'8 maggio 2015 avente ad oggetto variazione di bilancio e prelievo dal fondo di riserva per spese correnti prego assessore mazzer grazie grazie presidente mi sono spostato in questo posto perché riesco a seguire meglio le slide allora cominciamo rendi conto gestione 2014 slide numero 1 è solo una semplice spiegazione di cos'è l'avanzo di amministrazione l'avanzo di amministrazione è il risultato di un risparmio cioè rispetto alla previsione di bilancio noi avevamo allocato tot risorse di fatto ne abbiamo spese di meno e quello che è la differenza tra quello speso e quello collocato in bilancio come previsione si chiama avanzo di amministrazione nel 2014 però questo avanzo è influenzato da alcune componenti straordinarie perché straordinarie innanzitutto perché abbiamo la nuova armonizzazione del contabile quindi un bilancio che ha regole diverse da quelle che c'erano prima e tra gli obblighi che questa nuova norma ci impone c'è l'obbligo dell'istituzione di alcuni fondi in particolare il fondo svalutazione crediti che è un fondo a garanzia dei residui attivi da utenti morosi l'obbligo dell'istituzione di un fondo rischi per causa legale a garanzia dei maggiori oneri legati a contenziosi in corso e infine abbiamo un obbligo istituzionale in questa prima fase di applicazione del bilancio contabile armonizzato noi dobbiamo fare una revisione straordinaria di tutti i residui parte corrente e parte investimenti del passato c'è anche un evento straordinario che riguarda anche Pordenone e questo è positivo nel senso per costituire tutti questi fondi noi abbiamo avuto anche un evento positivo cioè abbiamo una causa un'avvertenza che si chiama Lodo Presotto che rende disponibili risorse che a suo tempo erano state prudentemente accantonate e che ammontano circa un milione e mezzo andiamo alla slide numero 4 rendiconto qual è l'avanzo di amministrazione di competenza di questo rendiconto allora l'avanzo di amministrazione è di 7 milioni 536 475 mila da dove più c'è un avanzo che in precedenza avevamo accantonato con il rendiconto del 2013 e non utilizzato durante tutto il 2014 proprio in previsione della costruzione di questi fondi per una montata di un milione e 7 quindi il totale dell'avanzo di amministrazione nel 2014 è di 9 milioni e 277 che appare una cifra molto alta rispetto agli avanzi degli anni precedenti però alcune parti di questo avanzo di amministrazione c'è un avanzo vincolato in particolare per un milione e 9 per 438 relativamente a alcune poste soprattutto di contribuzioni che la regione ci dà per finanziare le proprie leggi per quel che riguarda l'ambito e per alcuni interventi di opere pubbliche che avevano un contributo regionale o mutuo e che non è stato attivato per il patto di stabilità c'è anche un'altra posta di 985 mila che noi abbiamo già accantonato perché la normativa sulla Tari prevede che già in sede di approvazione delle tariffe noi dobbiamo fare un piano finanziario nel quale determiniamo qual è il fondo di svalutazione crediti esclusivo per quella tassa per quel tributo che va accantonato di 985 quindi questo è un fondo ancora vincolato in più abbiamo usato una parte dell'avanzo noi nel bilancio 2015 abbiamo usato solo questa piccola parte dell'avanzo di 480 mila euro dove lo abbiamo allocato l'abbiamo allocato sempre nella Tari nella determinazione della tariffa Tari di quest'anno tassa rifiuti e ci ha consentito di ottenere quella riduzione di tariffe che va poi applicata all'utente se non avessimo fatto questo la tariffa sarebbe rimasta più alta e quindi non saremmo andati incontro quelle esigenze che ci eravamo date di obiettivo di ridurre la tassa rifiuti la differenza tra i 9 milioni e 2 e queste poste qua da 7 milioni 373 mila di questi una parte è parte investimenti e una parte è parte corrente la parte investimenti sono 4 milioni 246 e qui si nota e si comincia a vedere la prima revisione straordinaria che abbiamo fatto sui residui comincia a comparire questo dato che diventerà ancora più significativo nella delibera che andremo ad approvare il prossimo consiglio lunedì prossimo la parte invece di parte corrente ammonta a no differenza se dobbiamo no questo è solo investimento quindi rimane in particolare 3 milioni 1227 come si compone la somma di 7 milioni 536 si compone di alcune componenti straordinarie di avvenza amministrazione vi dicevo 1 milione 174 il fondo svalutazione crediti del 2014 non utilizzato 1 milione e mezzo è il nodo presotto 4 milioni sono la prima parte della revisione straordinaria dei risultati di investimento quindi parte investimenti 6 milioni e 7 è il totale delle poste straordinario che vengono confluite in avanzo l'avanzo la differenza 0765 mila euro sono l'avanzo riferite alle economie o i risparmi veri e propri cioè la differenza da bilancio corrente assestato a novembre e quello del 2014 è quello che abbiamo effettivamente speso l'utilizzo dell'avanzo dove andiamo a utilizzare tutto questo fondo che abbiamo costituito il totale del fondo il totale dell'avanzo libero più quello vincolato dalla tassa rifiuti sono 3 milioni 127 più 985 pari a 4 milioni 112 mila euro che viene destinato alle seguenti poste la maggior parte 3 milioni 765 va a incrementare il fondo svalutazione credit che l'anno scorso vi ripeto era 1 milione e 7 1 milione e 7 1 milione eh quant'era quello iniziale 1,090 1,090 l'altra parte 347 vanno a costituire un fondo per rischi cause legali sulle quali c'è stata una relazione da parte del servizio dell'avvocatura che ci ha determinato una somma che può essere per noi un bagaglio di sicurezza diciamo rispetto alle cause che sono ancora in corso e allora di fatto cosa ci resta di avanzo di amministrazione zero abbiamo impiegato tutto l'avanzo per costituire questi fondi come si è costituito come perché abbiamo determinato la somma di 3 milioni e 7 per costituire il fondo svalutazione credit cos'è il fondo svalutazione credit svalutazione credit che si determina con rendiconto ha la funzione di compensare tutte quelle che sono le minori entrate o tutte quelle somme che sono di dubbia esigibilità non ce lo inventiamo perché la norma determina con quali parametri si calcola rispetto agli anni precedenti la dubbia esigibilità rispetto alle mancanze che abbiamo avuto tra quanto collocato in bilancio e quanto effettivamente accertato di entrata e prego qualche esempio adesso ve lo ve lo dico andando avanti allora i 3 e 7 si si motivano per questo 1 milione 350 sono sanzioni per il codice della strada cioè mancate entrate negli ultimi 5 anni di sanzioni codice della strada 985 sono quel fondo vincolato che abbiamo messo nella Tari Tares 600 milioni sono la Tares vecchia l'ha retrato quindi fino a 5 anni perché prima la Tari non si chiamava Tari ma si chiamava Tares e prima ancora Tarsu e sono 600 milioni 600 mila perdono 600 mila ma ci mancherebbe 260 mila euro sono la mancanza di pagamenti di rette di casa serena sempre negli ultimi 5 anni 60 mila euro sono le refazioni scolastiche stesso ragionamento prego sì perché facciamo il conto sugli ultimi 5 anni noi per determinare il fondo perché si possono recuperare fino a 5 anni quelle somme lì e 510 mila euro sono servizi vari ve ne cito alcuni sono rette asili nido servizi cimiteriali utilizzo di palestre tutta una serie di servizi a pagamento sulle quali c'è rispetto alla previsione un'entrata inferiore per un totale di fondo svalutazione dei crediti 3 milioni 765 sì questo ecco l'esempio che mi richiedeva il consigliere Piedicini che facciamo è questo l'esempio di calcolo sul fondo svalutazione ad esempio prendiamo il codice della strada le sanzioni noi abbiamo accertato nel 2014 1.088 1.088 mila euro di sanzioni codice della strada ma di queste che abbiamo emesso come sanzioni quante ne abbiamo effettivamente incasciate nel 2014 esattamente 517 mila quant'è la percentuale quindi in meno di riscossione che abbiamo avuto il 48% quindi il 52% non è stato incassato nel 2014 ovviamente le sanzioni del codice della strada fanno un inter di un certo tipo dopo un anno vengono fatti i conti di chi ha la maggiorazione viene fatto un ruolo il ruolo viene mandato a Equitalia Equitalia emette un ruolo per recuperare questo credito e può andare rispetto all'aretrato fino a 5 anni di fatto i residui attivi degli anni precedenti più i residui di attivi del 2014 571 più 1.031 da un totale di crediti esigibili quindi alla data dell'1.1.2015 di 1.600.000 euro il fondo svalutazione crediti è postato a 1.338.000 euro perché storicamente nel passato noi riusciamo a recuperare 264.000 euro che sono la quota che ci viene riscossa da Equitalia quindi questa noi la scorporiamo rispetto al totale dei crediti attivi che abbiamo proprio per determinare un fondo che sia perfettamente in equilibrio rispetto alla storia che abbiamo nella esegibilità di queste somme poi faremo un discorso a Equitalia alla sua efficacia a tutto quello che si vuole ci sono andate un approccio altri 6 mesi io vi ricordo che di Equitalia abbiamo parlato tanto in passato qualche volta forse demonizzandola a sproposito perché quando Equitalia riusciva ad avere il fermo amministrativo dell'automobile per quel che riguarda la riscursione dal codice della strada delle multe riusciva ad avere un risultato ben superiore a questo oggi non ha più questa possibilità e di conseguenza anche la loro capacità di recuperare credito per conto delle amministrazioni locali e dello Stato viene un po' meno abbastanza meno lo stesso esempio che possiamo fare sulla Tarso quindi degli anni precedenti noi abbiamo crediti attivi per 550.000 euro crediti all'1-1-1-2015 550 il fondo svalutazione crediti è di 334 la media delle riscursioni che possiamo ottenere con i ruoli subiettivi di Equitalia è di 216.000 quindi anche lì è motivato perché abbiamo questo tipo di fondo il fondo ma non per noi per tutti i comuni che ci sono in Italia vale questa regola e vale questa applicazione vediamo invece un attimino qual è il trend dell'avanzo dell'amministrazione non vincolato dagli anni 2005 al 2014 voi vedete che nel tempo noi avevamo una progressiva riduzione 2010 2011 2012 2013 quelli che sono in particolare il 2013 abbiamo avuto un avanzo di parte corrente di 61.000 euro quasi un'inezia rispetto ai 90 milioni di spesa insomma ma quest'anno l'abbiamo portato un po' più alto sono 473.000 euro di parte corrente in totale in totale sono 765 di avanzo reale compreso gli investimenti non abbiamo inteso neanche lì andare a fare le come si dice fare le pulci rispetto all'avanzo amministrazione di quest'anno perché sapevamo che queste somme 473 ci sarebbero comunque servite e comunque le abbiamo utilizzate quindi il trend che vedete negli anni precedenti si è alzato anche per questo motivo non avevamo ragione di tenerlo basso visto che ci servivano questi fondi che altrimenti avremmo dovuto reperire con altre risorse quindi di fatto in questo ultimo anno 2013-2014 abbiamo fatto un po' come la formichina in previsione di questo abbiamo cominciato a mettere via quello che ci serviva per costituire un fondo importante dal punto di vista dell'ammontare senza che questo avesse un riverbero poi sul bilancio attivo sulla parte corrente sulla parte che ha un riflesso poi sui servizi che eroghiamo possiamo andare anche nel dettaglio adesso cerco di andare un po' più velezzamente perché questa è la parte essenziale io vi ho detto perché fondo svalutazione e credit come si compone perché si compone qual è la novità di quest'anno vi dico anche che abbiamo visto qua che c'è una somma di 4 milioni e qualcosa di investimenti che sono avanzo di amministrazione noi questi intendiamo utilizzarli già riceverete credo domani una delibera sull'utilizzo di questi fondi che tra l'altro nella continua revisione straordinaria dei resuidi è anche lievitata siamo arrivati a circa 5 milioni 540 se non sbaglio quindi questa è la quota di investimenti di cui possiamo disporre per il 2015 che se avessimo avuto la condizione dell'anno precedente cioè un patto di stabilità che ci avesse di fatto bloccato questo tipo di investimento non avremmo potuto nemmeno spenderli oggi il combinato disposto diciamo tra questa revisione straordinaria che ci permette di fare investimenti senza produrre ulteriore debito perché ce ne abbiamo lì ce ne abbiamo già il combinato disposto con la norma regionale che consente di finanziare dando spazi di investimento maggiori a enti che hanno contributi regionali da spendere e noi sapete che abbiamo il contributo regionale per eccellenza più grande che è quello del comando provinciale dei carabinieri solo lì ci ha aperto spazi per 3 milioni e 9 e di conseguenza i 5 milioni e 5 riusciamo a spenderli per un'azione virtuosa rispetto agli investimenti negli anni precedenti e per questa occasione straordinaria che ci dà la regione sui 3 milioni e 9 della caserma dei carabinieri vediamo e queste sono le novità di cui parleremo anche lunedì discutendo di come intendiamo investirle venerdì sera alle 18 ci sarà la commissione e l'abbiamo fatta venerdì sera alle 18 perché era l'ultima serata disponibile c'era la sala rossa impegnata e la sala consiglio impegnata sì non sapevamo dove farla abbiamo detto facciamo venerdì questo ha dato un giorno in più anche gli uffici che stanno lavorando anche adesso proprio per produrvi i documenti per venerdì prossimo avanzo di amministrazione la gestione di competenza quindi abbiamo un avanzo per gestione di competenza volete che sia più breve su queste descrizioni qua va bene tributari abbiamo meno 885 mila che sono determinate vado piano continuo così no perché 885 mila è l'avanzo che noi abbiamo avuto tra quanto dovevamo incassare di Tasi e IMU in particolare e quanto abbiamo effettivamente incassato quindi una differenza in meno trasferimenti meno 2 e 3 rispetto alla previsione e in questo caso però nei trasferimenti ci sono alcune partite di giro che sono determinate da contributi regionali storni della regione che di fatto si tramutano anche in minore spesa quindi la differenza non è così eccessiva perché ovviamente se abbiamo 2 milioni in meno di trasferimenti regionali ovviamente abbiamo una spesa inferiore extra tributarie che sono le entrate che ci derivano dai servizi di Mense Casa Serena Rette Asilinido queste cose meno 723 un totale quindi di entrate in meno parte corrente di 3 milioni 978 a fronte di questo naturalmente abbiamo avuto però una spesa di 5 milioni e 2 in meno per cui la differenza è quel milione 2 e 40 che in parte è coperta proprio da quel fondo svalutazione dei crediti che nel 2014 non abbiamo utilizzato quindi vedete che di fatto quindi la differenza fra 1,174 1,27 e 1,240 è quanto non abbiamo speso di quanto avevamo preventivato che è una quota molto irrisoria alienazioni beh le alienazioni sono meno 10 milioni perché in questo caso accensione prestiti meno 2 milioni meno 13 questa è la differenza fra quanto noi dichiariamo sempre negli investimenti nel triennale delle opere pubbliche sapete che lì mettiamo anche opere direttamente finanziate dallo Stato e poi magari non si concretizzano opere che vengono che sono soggette a una domanda di contributo regionale che poi non arriva tutte queste accadimenti determina che ci sia un minore spesa per investimenti per 13 milioni servizi conto terzi meno 2 milioni 8,77 ma questi sono partite di giro per contributi dipendenti trattenuti che poi vanno riversate allo Stato quindi l'avanzo reale di competenza è di 473 di cui 67 mila per la spesa corrente e 406 per gli investimenti quindi l'avanzo di amministrazione e la gestione dei residui ovvio che oltre che la parte corrente noi abbiamo anche una gestione di residui che derivano dagli anni precedenti e lì sulle tributarie abbiamo meno 517 sui trasferimenti meno 75 sulle extratributarie meno 1 milione 531 con un totale di meno 2 milioni e 2 se voi vedete le spese hanno un meno 3 milioni e 7 la differenza tra 2 124 e 3 e 7 sono 1 milione 659 di cui queste somme una gran parte 1,5 e 28 sono somme destinate che vengono introitate a seguito dell'economia che abbiamo avuto sulla causa che vi dicevo in precedenza anche qua abbiamo un meno alienazione da trasferimenti da accensione prestiti la spesa di investimento l'anno scorso è stata di 4 milioni e 2 di fatto noi abbiamo un avanzo reale dei residui di 292 mila euro di cui 132 mila da spesa corrente 160 mila da spese conto terzi che vi dicevo è quella partita di giro vediamo un po' la tabellina per capire la di fatto ripropone un po' quello che abbiamo detto allora entrate tributario 32 in totale 32 687 accertati 31 e 8 sì sì previsione di entrata 32 687 riscontrati in accertamento quindi 31 milioni 800 meno 885 che sono riferite in gran parte a Tasi e Imu le entrate derivanti da trasferimenti sono 45 milioni di previsione vi dicevano che c'erano questi 2 milioni che sono imputabili a minore spesa perché non sono arrivati i trasferimenti gli accertati sono 4 milioni 43 milioni 414 le tributarie le extra tributarie sono i servizi da 20 milioni e 328 abbiamo accertato 19 milioni 605 meno 723 le entrate derivanti da alienazione vi dicevo che c'è quel problema e quindi da alienazione investimenti quindi titolo secondo e dipende da quante opere da quante cantieri abbiamo attivato avevamo una previsione diciamo di piano triennale delle opere pubbliche di 15 milioni 582 di fatto abbiamo attivato soltanto 5 milioni 373 i prestiti invece invece di 3 milioni 662 l'unico prestito l'ultimo mutuo che abbiamo attivato è quello di casa serena per 682 mila euro le altre sono la partita di giro del servizi per conto terzo che vedete che pareggiano in totale abbiamo un avanzo applicato un avanzo di amministrazione applicato di 1 milione 339 e abbiamo minore spese complessive per 1 milione 647 vediamo un attimino ma velocemente l'indicatore di bilancio autonomia finanziaria siamo in linea con gli anni precedenti quindi abbiamo aumentato nel momento che Monti fa la manovra Monti fa la manovra dice tolgo trasferimento agli enti locali prendetevi lì ai cittadini e una parte girate ce l'ha anche a noi e quindi lo sbalzo 45 54 è relativo a quella manovra Monti e il resto poi va in linea quindi noi abbiamo questa autonomia finanziaria che continuiamo a mantenere al 54% e qualcosa l'autonomia impositiva è cambiata 2013 2014 introduzione lo ricordate della Tasi la Tasi nel 2013 non c'era c'è nel 2014 e c'è questa differenza quindi normativa che alza l'autonomia impositiva degli enti la stessa cosa è sull'Imu e Tasi insieme vedete che le entrate complessive proprie di Imu e Tasi sono aumentate dal 33 al 39 nel 2014 come percentuale diciamo di copertura del bilancio trasferimenti statali per residente c'è un calo tendenziale negli anni precedenti al 2011 c'è una stabilità dal 2011 al 2013 l'aumento da 12 euro a 14 euro è relativo a un contributo statale che ci è arrivato non mi ricordo più per cosa sul sociale sul sociale va bene trasferimenti regionali pro capite vedete che abbiamo un picco in meno passiamo dal 2011 941 ad abitante siamo arrivati a 684 oggi c'è una leggera dal 2013 al 2014 un leggero innalzamento dovuto soprattutto all'utilizzo dell'avanzo ancora non l'abbiamo messo in campo l'avanzo di amministrazione regionale lo metteremo in campo prossimamente sappiamo che ci darà una mano soprattutto per gli ultimi mesi dell'anno nel modificare gli assetti di bilancio noi pensiamo a settembre teoricamente noi dobbiamo farlo entro luglio ma speriamo che il legislatore ci porti a settembre la verifica degli equilibri come sembra a livello nazionale e anche a livello regionale rigidità della spesa corrente abbiamo un calo continuo ovviamente stiamo facendo risparmi risparmiamo sul personale risparmiamo sulle rate dei mutui e abbiamo un calo della parte diciamo non contrattabile della spesa corrente rendi conto della gestione spesa per il personale anche qui abbiamo una slide che ci dimostra la diminuzione di quelli che sono i costi che abbiamo avuto dal 2010 al 2014 e nella slide successiva vediamo anche il calo del numero di dipendenti noi siamo arrivati a 36 operatori in meno nell'ambito degli ultimi 5 anni rapporto dipendenti popolazione naturalmente va in calo c'è anche una distinzione tra questo numero assoluto e quello che nel 2014 al netto del personale dell'ambito e dell'aster avremo cioè significa che c'è del personale che è in carico su questi 9,5 per abitante 9 dipendenti per 9,5 abitanti questo cala nel momento che determiniamo quali persone non lavorano nell'ambito per conto di Pordenone ma lavorano per Porcia Sanquirino Roveredo e Cordenoso ecco qui abbiamo alcuni dati che testimoniano dal 2011 al 2014 un calo della spesa per quasi tutti i settori ad esclusione di servizi alla persona dove abbiamo una conferma una tenuta dei conti ovviamente qui le considerazioni che facciamo i risultati che esprimiamo sono determinati proprio dall'aumento di quelle che sono le domande soprattutto per i servizi sociali e quindi una tenuta di quello che sono le risorse che attribuiamo a quel settore rispetto ad altri settori qui ci sono tutta una serie di poi frammentazione della spesa suddividendoli in vari servizi direzione generale gabinetto del sindaco eccetera e può essere visto anche qua dal punto di vista della diminuzione della spesa in alcuni settori del mantenimento su altri risultati di servizi qua potrebbe essere utile guardare soprattutto alcuni dati ecco abbiamo parlato spesso di farmacie comunali se vedete nella slide numero 26 se non sbaglio pagina 26 ecco vedete come c'è stato un aumento nel 2014 di quello che è l'incasso delle farmacie gli utili delle farmacie sono aumentati con un aumento del 25% dovuto a quell'intervento che abbiamo fatto di apertura maggiore per rispondere anche ai bisogni di entrate e al bisogno di concorrenza rispetto al privato l'altra questione riguarda i servizi nido e qua le notizie buone sono il costo medio per iscritto che è diminuito dal 14 da 14 032 fino a 12 103 mantenendo anche una qualità del servizio che vabbè non possiamo dircelo da soli ma ci sembra ancora elevato e lo testimoniano anche il grado di soddisfazione della domanda è sbagliato dirselo da soli giusto bisogna che ce lo dicano gli altri se si mantiene riflessioni scolastiche lo stesso abbiamo un calo e sono un po' gli effetti anche della revisione che abbiamo fatto in tutti i settori il problema delle risorse sempre meno ripensare il modo di erogare i servizi in maniera che ci siano dei risparmi anche qua abbiamo un risparmio del 4,48 sulle riflessioni scolastiche come sui trasporti scolastici vi dico qua contano anche il fatto che abbiamo un autista in meno quindi abbiamo dovuto razionalizzare comunque abbiamo un calo di quello che è il costo del servizio quindi una diminuzione di quello che è il differenziale tra quello che viene pagato dagli utenti degli alunni delle scuole e quello che poi la comunità mette per questo tipo di servizio vedete che la percentuale di copertura dei costi dell'ente è diminuito dall'80 al 75 mi rendo conto che è ancora molto basso però è molto particolare riuscire a incastrare il fatto di avere dei pulmini che girano e che raccolgono dei ragazzini in giro per la città rispetto anche a un cambio diciamo delle modalità con le quali i bambini vengono portati a scuola molto spesso avano i genitori e noi abbiamo meno utenza che utilizza ovviamente gli scuolabus e rimanere con costi bassi con meno utenza è sempre più difficile però ovviamente anche se abbiamo pochi utenti questo servizio noi riteniamo che dobbiamo garantirlo Casa Serena in sostanza c'è una stabilità diciamo del rendimento rispetto anche ai costi benefici all'intervento soprattutto di quelli che sono i costi generali che vanno a incidere anche sulle rette degli utenti abbiamo un buon risultato ci chiedevamo ogni tanto vale la pena o non vale la pena di mantenere il servizio di pompe funebri abbiamo un buon risultato anche sulle pompe funebri nel 2014 abbiamo fatto 75 quindi un aumento rispetto al 2013 anche se solo di una esequia ma abbiamo aumentato la percentuale diciamo di mercato di onoranze funebri che vengono di fatto eseguite dal comune dall'amministrazione comunale con la gestione del servizio economia vi ricordo che questo lo teniamo anche questo servizio proprio per dare un esempio di concorrenza leale soprattutto al privato e mantenere un attimino calmerati i costi sul mercato altrimenti prego sul totale dei funerali che vengono fatti a Pordenone noi ne facciamo il 17% questa è la percentuale sono 75 che corrispondono al 17% i numeri della biblioteca sono leggermente in calo ma lì avevamo l'esplosione dei primi anni tenere quell'attrattività di quel servizio sempre ai livelli massimali di quando l'abbiamo aperto diventa un'operazione quasi impossibile quindi siamo comunque contenti dei numeri elevati anche se aspetto al trend degli anni precedenti c'è un leggero calo e anche per quel che riguarda i musei e le strutture spolicitive ci sono alcune slide che vi danno soprattutto l'esempio di quali sono i costi di funzionamento rispetto ai costi di allestimento capire qual è il costo che noi comunque sosteniamo indipendentemente dal fatto che ci siano delle esposizioni delle mostre rispetto alle risorse che allocchiamo per realizzare delle mostre e delle esposizioni io per questa presentazione avrei completato so che posso parlare anche della seconda delibera che è quella della variazione di bilancio perché l'abbiamo unificato in conferenza di capigruppo di fatto si tratta di una ratifica di variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva che abbiamo adottato di giunta e di cui oggi chiediamo ratifica al consiglio comunale beh il prelievo di fondo di riserva sono i 20.000 euro che abbiamo utilizzato abbiamo fatto anche le conferenze stampa quindi si sa di questa somma che abbiamo utilizzato proprio per la start-up di Villa Cataneo Villa Cataneo viene conferita data in gestione al polo tecnologico la sua vocazione sarà di costituire imprese che abbiano vocazioni particolari per la cultura per la musica per questo tipo per vedere se tutte quelle manifestazioni che oggi noi abbiamo e verifichiamo in città possano in qualche modo maturare anche in qualche modo un principio di impresa ma per farlo gli diamo a disposizione un edificio nel quale possono avere la possibilità di avere degli spazi con un costo molto contenuto di fatto pagandosi solo ed esclusivamente i costi di gestione all'inizio ovviamente non abbiamo le imprese che coprono totalmente i costi di gestione quindi anticipiamo noi questa somma in attesa di vedere nel tempo quali saranno gli esiti per diminuire questo start up di imprese che abbiamo inserito di 20.000 euro le altre variazioni di bilancio per le quali abbiamo utilizzato variazioni di capitoli tra personale e ci sono serviti per la copertura dell'IRAP rispetto a finanziamenti che ci vengono della giunta regionale per borse lavoro non so se sbaglio se dico borse lavoro può darsi che sbaglio non so se è LSU borse lavoro comunque quella finalità la regione finanzia il 100% meno l'IRAP e ora l'IRAP la dobbiamo tirare fuori noi il finanziamento regionale ammonta cantieri di lavoro ha ragione cantieri di lavoro ammonta non mi ricordo più 70.000 euro adesso sono indicati qua mi scusi ma non li trovo nella delibera ho un momento di mentre l'altra parte è di ah sì trasferimento ah 79 5.000 non sono i 16.000 5.600 euro sono l'IRAP per i cantieri di lavoro su 79.000 euro di contributo i 16.000 invece sono finanziamenti che vengono derivati da spese del personale per finanziare come si chiama aiutatemi il FAP il FAP possibile è l'aiuto che abbiamo dato per quel che riguarda la costituzione degli uffici dell'ISEE insomma personale interinale che è stato impiegato lì grazie torno a mio posto ha terminato assessore sì sì grazie ci sono richieste di chiarimenti prego prego grazie presidente ma è una domanda un po' come dire un po' specifica non so forse se l'assessore ecco allora in occasione della prima commissione si parlava appunto di questo FAP per servizi integrazione del FAP per servizi ai disabili è stato specificato credo dai funzionari che servirebbe per l'abbattimento delle liste di attesa e io volevo sapere come sono queste liste di attesa grazie visto che si tratta di una grazie passiamo all'altra domanda consigliere Bianchini prego se l'assessore può spiegare di nuovo mi scusi ma un po' più dettagliato il discorso della start-up e di Villa Cataneo io come farei spiegare o al sindaco cioè l'idea è proprio capire bene la nuova start-up che casomai va a inserire all'interno di Villa Cataneo all'inizio spiegare bene all'inizio cosa ha di gratuito eccetera eccetera dove copre l'amministrazione e dove no raccogliamo le domande c'è qualche altra richiesta di chiarimenti no beh possiamo rispondere prego no esaurimento delibere prego esaurimento delibere quindi finché non si finiscono le delibere come deciso il capigruppo bene consigliere dal MAS deve chiedere chiarimenti prego ma per curiosità anche così per tenere un po' l'assessore impegnato dopo la relazione esaustiva avete fatto i compiti per casa e rendi conto l'avete fatto bene avete fatto buon lavoro poi adesso si capisce che c'è questo problema del riaccertamento dei residui e quindi l'amministrazione è presente su questo dica a me che invece sono disattento un po' alcune cose perché io devo dire che ho avuto prima la relazione dei revisori speravo dalla relazione dei revisori non ci sono sono qui in sala chi è il presidente dei revisori ah piacere no fa piacere che ci sia perché loro hanno un compito sempre più importante in questo principio di armonizzazione dei bilanci sempre più delicato devono accertare verificare se l'amministrazione fa la spendi review se non la fa e tutta una serie di queste cose sono complicate quindi comma 13 articolo 47 decreto legge 66 2014 Renzi decreto sulla competitività pone a carico dei dei revisori l'obbligo di accertare in alcuni punti è stato fatto puntualmente su questioni di residui nulla da dire ditte c'è una sostanzialmente una delibera che seguirà dall'amministrazione che va bene anche per capire un po' se queste cose funzionano previste dal nostro legislatore nazionale cioè se hanno concretamente delle cose se producono dei risultati e mi spiego in termini di spesa per acquisto di beni e servizi articolo 8 decreto legge 66 2014 la riduzione prevista rispetto alla spesa media dell'ultimo triennio per raggiungere gli obiettivi di cui ha la legge non so peraltro siccome qui abbiamo un sistema diverso la regione più di mezza Giulia non è lo Stato il fondo di solidarietà dello Stato quindi mi deve compensare il fondo di solidarietà dello Stato questo ci sarà probabilmente da qualche parte io non ho visto tutto lei un po' mi dirà se queste cose ci sono poi divieto di conferire noi siamo un'amministrazione quanto spendiamo per il personale più di 5 milioni di euro più di 5 milioni di euro quindi immagino che non ci sia un problema di consulenze superiore all'1,4% della spesa del personale quindi non ci sono non c'è nulla da dire poi sui co-co-co non ne abbiamo siamo sempre dentro i parametri previsti non solo per chiedere quindi praticamente voi dovete dire a Renzi che non vi faccia queste leggi perché siete talmente dubbiosi dovrebbe formulare delle domande specifiche già realizzate ma guardi Presidente io sto facendo delle domande al quale l'assessore dà delle risposte sono puntuali visto che c'è anche il Presidente dei Revisori e io voglio sapere se le misure che il Governo ha fatto producono dei risultati e mi state dicendo che li producono perché ci sono perché non c'è bisogno quindi vede lei è anche poco attento perché se mi lascia finire e ho già finito può fare bella figura all'amministrazione alla quale appartiene grazie poi no finisco ha detto che aveva finito no no ho finito e poi c'è questa questione della ah sì questa questione simpatica delle autovetture io mi sono divertito a leggere il decreto quella delle autovetture la morì da ridere cioè in Italia abbiamo pensato di risanare i conti con queste misurette ridicole e io credo che il problema qui non si ponga per l'acquisto di autovetture manutenzione non leggi ma guardi che permette all'assessore di spiegare un po' meglio queste cose e quindi articolo 5 o 15 del decreto legge 66 2014 quindi siamo credo dentro questi parametri e quindi ho finito vede caro presidente mi ha risposto mi ha risposto mi ha già risposto mi ha già risposto no non vi ho la possibilità di replicare consigliere c'è stato un momento in cui dovevamo decidere cosa fare della BMW di Pasini ma siccome dovevamo rispondere ai criteri di questo decreto abbiamo dovuto rinunciare a mantellare quella macchina perché non potevamo comprarne una nuova dovevamo ottenerci quella se lei vede nei prossimi investimenti che faremo noi prenderemo automobili tutte che hanno caratteristiche o sono per i vigili o sono attrezzature da lavoro non sono più esatto come quelle dei servizi sociali quindi le rispettiamo anche perché se non perfetto grazie grazie i 20.000 per l'avviamento dell'accordo di Villa Cattaneo ho visto che c'è anche un'interrogazione quindi con l'interrogazione visto che il prossimo lunedì ci ritroveremo avremo anche agio di scendere più in dettaglio i 20.000 sono una quota che è stata messa per quest'anno per consentire all'accordo che abbiamo fatto con il Polo Tecnologico nell'avvio in Villa Cattaneo di un sito in cui le start-up creative potessero essere ospitate che la copertura dei costi di quest'anno ci fosse perché è evidente che nel momento in cui il Polo Tecnologico comincia a lavorare e ospitare le prime start-up creative ci vorrà un po' di tempo prima che questo si manifesti abbiamo già avuto delle manifestazioni di interesse è vero però prima che il tutto si concretizzi la struttura comincerà a essere attiva secondo noi verso ottobre settembre-ottobre di quest'anno e questo momento iniziale anche per consentire a questa gente di venire e trovare un ambiente che li possa ospitare abbiamo coperto noi le spese di utenza con questi 20.000 quindi vorrei c'è una certa confusione sul modello ma qui ci vorrebbe una descrizione molto più lunga noi non andiamo di fatto a coprire le spese vive delle start-up noi diamo la possibilità alle start-up di essere ospitate con dei canoni particolarmente vantaggiosi o a zero il primo anno ma il meccanismo complessivo della villa si basa su una presenza di start-up e aziende normali che pagheranno un affitto che dà alla fine il volano complessivo per cui le start-up stesse possono avere questi incentivi quindi noi non andremo a coprire le utenze della villa né tantomeno gli accessi internet abbiamo creato l'infrastruttura capace di ospitarli ma il modello è di autosostenibilità altrimenti non avremmo potuto farlo l'altra risposta assessore mazzer scusi va bene va bene scusate altre richieste e chiarimenti nulla bene allora dichiaro aperta la discussione ho già dichiarato aperta la discussione ragazzi scusate signori ma dal mass prego ho visto che siamo pagati per venire qui no io no non lo so mi ha deluso prima assessore perché mi ha dato risposte contrarie a quelle che io spiccavo ma insomma non riesco a prenderla in difficoltà non riesco a metterla in difficoltà perché gli uffici non collaborano no gli uffici che vede qui dietro non collaborano quindi non c'è questa però sì due tre cose mi erano venute in mente non lo so cioè fondo svalutazione crediti voi mettete le mani avanti perché state facendo questo riaccertamento dei residui quindi prudenzialmente avete stimato accantonare questa questa somma e vabbè quindi nulla question c'è per sé mi sembra però la cosa che non capisco è che è vero aumentano le entrate ma non diminuiscono le spese o di poco per cui questi magheggi perché chiunque sa che di questo si tratta di bilancio che saranno sempre meno frequenti avete un bonus ancora per il 2014 poi sarà tutto più difficile per tutti quanti sarà un po' più difficile riuscire a dimostrare cosa che attraverso le slide voi fate dimostrando che cari signori abbiamo avuto minori trasferimenti della regione abbiamo aumentato le tasse però abbiamo anche riscorso maggiore somma le spese mi pare siano sempre le stesse 106 milioni di entrate 106 o qualcosa di spese ma poca differenza però straordinariamente avete ridotto le spese sul personale avete ridotto i costi del personale avete ridotto tutto ciò che era l'argento poche che dispensava il suo predecessore no quindi avete e pensate di dire ma giustamente abbiamo una buona amministrazione guardate anche nel 2014 il conto consultivo dimostra che sostanzialmente i conti non solo sono in ordine tra l'altro nella relazione di accompagnamento della giunta gli uffici si sperpicano nel dire che sono straordinariamente bravi nel fare previsioni ricordo che Nilsborg diceva che fare previsioni difficili se riguarda il futuro è impossibile però gli uffici di questa amministrazione dicono non so che pagina della relazione noi siamo bravissimi arriviamo al 90% 97-95% delle previsioni complimenti ma effettivamente siete anche bravi però sì è una questione di stile è necessario dirlo? non è necessario dirlo è una questione di stile si fa il lavoro perché bisogna fare il lavoro non è che siamo bravi nel fare un lavoro che dobbiamo fare e allora visto che la riprendo da qua cioè dalla relazione dalla relazione questa questione dei residui mi intripa assessore questa questione dei residui è effettivamente è una questione un po' difficile vi mette in ginocchio rende difficile un po' tutto perché comporta l'accertamento di come stanno realmente le cose io avevo uno schema del MEF che avevo tirato giù su internet ma essendo non lo trovo più il quale sostanzialmente essendo io la posizione posso permettermi di avere queste pause lo dico la nuova arrivata non si preoccupa come c'è l'entrano quasi accertare ciò che è esigibile ciò che non lo è nei residui attivi è un compito che per il 2014 così in qualche modo riuscita a venire fuori ma poi sarà sempre più stringente e poi e qui effettivamente sono difficoltà perché non trovo ecco quindi sostanzialmente il tema è questo voi dovete accertare ciò che parlando di residui attivi ciò che di dubbia è esazione e ciò che è inesigibile sulle spese poi ci sono cioè sui residui passivi i residui di distanziamento che probabilmente sono già vi rivolgo ai revisori cioè sostanzialmente la figura del creditore nostro non è ben individuata può essere opere pubbliche e anche questi hanno una disciplina particolare nel senso che possono stare un anno a bilancio mi pare non di più poi c'è il criterio sempre di residui della cosiddetta perenzione amministrativa la cosiddetta perenzione amministrativa che poi supportate attraverso un fondo di solidarietà distanziamento per non avrò questi soldi accantorno a questo e va bene ma il dato e qui viene la parte politica che al di là dei magheggi ripeto di bilancio che prima o poi finiranno per tutti mi sembra evidente che tutto ciò che è stato rappresentato nelle slide corrisponde poco alla percezione e alla realtà che noi abbiamo e io insisto sempre su questo dato questi sono comuni fondamentalmente ricchi continuo a dirlo sono comuni ricchi nel Veneto un comune come il nostro non aveva gli stessi soldi sul titolo secondo dell'entrata che copre circa il 45% mi pare dell'entrata titolo secondo trasferimenti da parte della regione che sono in diminuzione pro capite ma sostanzialmente sempre una bella cifra per di più lo Stato ha introdotto la normativa la normativa che sappiamo e che in tutto questo e qui mi avvio alla conclusione sapendo che si tratta di un conto consultivo sostanzialmente però rappresenta una cosa molto chiara i temi centrali sui quali si è cimentata la nuova amministrazione da 2011 in poi è la questione impositiva le tasse sulla casa l'IMU l'ICI e tutte queste cose la TASI questioni complicate fare i regolamenti e non c'è nulla di drammatico in quello che avete fatto o di particolarmente esecrabile ma non c'è nulla di particolarmente lodevole cioè vi è un po' ripeto con amministrazioni sostanzialmente di base ben finanziate non si è visto visto che poi i cittadini di Portano le tasse pagano e il titolo uno delle entrate insomma abbastanza consistente non si è visto una politica che era quella che voi dovevate avete annunciato di contenimento visto che lo slogan di tutti non un euro non una mano nelle tasche dei contribuenti non si è vista una politica chiara su questo e per limitarmi al dato di bilancio sulla casa questa 2014 avevamo già credo mi corregga tolto l'Imu sulla prima casa e troppo la tasi già nel 2014 no? la tasi che dà un gettito di 5 milioni di euro che sostanzialmente andava a prendere l'Imu la vecchia Imu la vecchia Imu prima casa però con qualche soldino in più no? credo qualche soldino in più perché se lei va a vedere l'indagine del Sole 24 Ore ammesso che sia siccome il Sole 24 Ore a volte legge quando dice che Pedrotti è il sindaco più uno dei più no come dire efficienti ed efficaci quando invece dice che sulle tasse dell'abitazione sull'Imu sulla tasi il comune non è così virtuoso perché arriva a circa metà no? graduatoria di quanti comuni ci sono in Italia 8 mila 8 mila 8 mila comuni più di 8 mila comuni allora sì insomma prendete sempre quello che vi comoda non quello che in sostanza non vi comoda più di tanto ecco e qui chiudo veramente perché io avrei pensato e lo abbiamo noi come gruppo l'abbiamo detto da sempre anche quando componevamo un unico gruppo ben più esteso dell'attuale avevamo sempre detto anticipando poi quello che il legislatore aveva fatto toglie l'Imu sulla prima casa però ho introdotto la tasi sostanzialmente la pagano tutti voi tra l'altro recuperate quel 25% di tasi che è una vera ignominia di fatto è un po' costosetta anche se meno rispetto a Trieste rispetto a Udia no? ecco io credo che dentro i bilanci e sostanzialmente complessivi nei bilanci che avete a disposizione avete una cifra che vi consente di fare una politica di abbattimento e una politica attesa a favorire ciò di cui noi oggi abbiamo straordinariamente bisogno in questa città che ha alloggi sfitti invenduti circa 3.000 ha 1.000 residenti in meno dall'ultimo censimento ha un problema che non non vede l'orizzonte nostro non ha gru esistenti io non sono un sostenitore della cementificazione di tutti i costi anche se voglio fare ospedali dovunque ma ha un problema che è legato alla sua natura economica ed è tutto fermo allora caro sindaco Pedrotti lei che è attento alle questioni dell'impresa e avremmo dovuto mettere da parte dei soldi un paio di milioni e anche più cosa sono un paio di milioni su 100 milioni di euro su oltre quanti 35 30 milioni di euro di ingresso sostanzialmente sul titolo primo non voleva farlo per ridurre la tasi aumentare le fasce di detrazione avrebbe potuto farlo immaginando una decontribuzione per i nuovi insediamenti cioè noi abbiamo il problema che se no veramente ribetti ci fa un'interrogazione ogni giorno sui profughi che importiamo questa gente per carità io non voglio accodarmi alla vulgata tradizionale esasperata che viene fatta su questo ma non siamo attrattivi perché i nostri pordenonesi sono andati a abitare fuori pordenone e sappiamo quanto abbiamo bisogno di incrementare gli insediamenti produttivi abitativi nella città ecco allora che questi sono i temi sui quali noi dobbiamo misurare concretamente dovremo misurare sto adesso anche ho finito e dobbiamo misurare la nostra capacità di essere il capoluogo di provincia che l'abbiamo persa e non l'abbiamo recuperata perché lei signor sindaco è andato ed è attualmente anche presidente della provincia non è sufficiente questo era apprezzabile lo sforzo che lei ha fatto ma non è sufficiente perché non è sufficiente quando quella sera qui abbiamo approvato in occasione delle UTI una delibera all'unanimità per fare di Pordenone il centro di riferimento dell'intero territorio provinciale non mi pare che ci sia stato un afflusso straordinario empatico da parte di tutti gli altri che dicono vabbè Pordenone accetta il mondo quindi andiamo tutti su di voi non c'è stato questo noi non riusciamo a sostituire queste cose ecco allora che il vostro bilancio consultivo è espressione di una filosofia che avete sposato che sostanzialmente non non ha creato e lo si è visto nei risultati nessun nuovo insediamento produttivo nessun nuovo insediamento abitativo non ha creato occasioni reali di sviluppo questo è il problema principale quindi chiudendo il consultivo e pensando al futuro adesso con il bilancio di previsione 2015 l'abbiamo già fatto non se ne fanno più non credo ci sarà un bilancio consultivo 2015 spero anzi che non ci sia perché ci sarà da divertirci sui cosiddetti residui così come su altre poste visto che sulla domanda rispetto alla quale qualcuno mi dispiace l'amico Tomaselli ironizzava prima che io ho fatto sull'applicazione del decreto sulla competitività perché l'ho voluta fare per dimostrare una cosa molto semplice che noi in questo paese strano che l'Italia siamo stati circa due anni non se ne poteva più e quanto costano le auto blu e come funziona e come si riduce il personale e questo e quell'altro e le questioni relative alle collaborazioni alle consulenze credo si è visto che praticamente la questione è apparsa completamente marginale se non extravagantes rispetto a questo bilancio eppure questo è un bilancio probabilmente sano questa è un'amministrazione che non ha grandi picchi di idealità grandi slanci di politica ma perché effettivamente sono amministrazioni che derivano da un substrato di ricchezza che è la ricchezza dovuta al sistema dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia che non ci sarà più concessa tutto qua queste sono le cose che ogni tanto bisogna anche cominciare a dire al di fuori della rigidità con cui esponete cifre che non corrispondono alla percezione nostra i numeri visti così non dicono nulla caro Sessore questo è il problema grazie consigliere Dalmas consigliere Pedicini prego grazie presidente allora ci troviamo questa sera a discutere di quello che è già stato stiamo tirando le somme di un anno il 2014 e se andassimo a risentire quello che era stato detto all'inizio quando è stato presentato il bilancio del 2014 sarebbe molto simile a quello che abbiamo detto quest'anno nel bilancio 2015 non si sente nel bilancio 2015 però a sentire le sue cifre Assessore sono un po' preoccupato perché lei dice che questo enorme avanzo di amministrazione 9 milioni e rotti lei l'ha definito un risparmio l'avanzo di amministrazione non è un risparmio meno si fa e più c'è di avanzo di amministrazione l'avanzo di amministrazione bene dirlo a tutti e anche alla neoconsigliera di questa sera che saluto approfittando che ho la parola è un non fare le cose nel momento il bilancio ideale il bilancio ideale il consuntivo di un bilancio ideale è avanzo di amministrazione uguale a zero sbagliano anche i giornali quando scrivono il comune ha un tesoretto da parte non è niente basta non fare le cose e vedete che immediatamente l'avanzo di amministrazione cresce avere un alto avanzo di amministrazione denota che molte cose non sono state fatte programmate ma non fatte questo è il problema perché sono poste di bilancio messe per fare delle cose al momento che non si fanno in parte lei l'ha spiegato tornano a casa e diventano avanzo di amministrazione quindi è un po' strano quest'anno è molto alto ma la cosa che mi ha preoccupato ancora di più è dovuto dalla legge perché lo dovrebbe fare l'analisi dei residui il fondo di ammortamento rischi svalutazione crediti i cause legali ma quello che mi ha spaventato molto di più è proprio il fondo di svalutazione crediti che ci impone la legge ovviamente di farlo e l'amministrazione lo fa è elevatissimo perché le cifre che lei ha dimostrato quasi un milione di mancati introiti ci denotano che evidentemente molti non pagano cominciano a non pagare le tasse ha detto prima il consigliere che mi ha preceduto dal MAS che siamo in una città ricca io comincio a pensare che non lo siamo più comincio a pensare che molte persone hanno difficoltà a pagare le tasse a pagare le multe a pagare ciò che dovrebbero pagare non pagano io non lo so i conti dell'ultimo prelievo che è appena stato fatto la settimana scorsa quanto se è sui livelli degli anni passati o meno lei forse li sa questi dati io non li ho però io comincio a sentire la sensazione che tanti soldi in giro non ce ne siano che molti hanno difficoltà a pagare e non pagano decidono di pagare la seconda rata di non pagare la prima rata magari di aspettare dicembre molti dire azionano le tasse vengono pagate a rate un po' alla volta non vengono pagate tutte insieme questo denota una difficoltà dei nostri concittadini allora io mi domando e questi sono più gli elementi poi cosa vuole vado a vedere che di quello che riusciamo ad avere 4 milioni li diamo sugli investimenti che per una città come la nostra che ha bisogno di tanti investimenti perché 4 milioni e 300 mila euro sono ben poca cosa ma il problema che mi pongo io perché avremo bisogno di una serie di opere di manutenzione di sistemazione che ultimi anni non stiamo facendo la cosa che mi preoccupa molto di più è il problema dei nostri concittadini come noi ma l'ho già detto in un'altra occasione come noi utilizziamo i nostri fondi come noi utilizziamo i nostri soldi noi siamo in realtà sembriamo degli amministratori questo bilancio come molti altri bilanci sono molto ragioneristici non è che è fatto male il bilancio ma è un bilancio di numeri e mi ricollego quanto è appena stato detto che però non denota un progetto politico che c'è dietro il bilancio il bilancio è sempre un fatto politico perché è un fatto di programmazione prima si fa un progetto politico poi si fa il bilancio per soddisfare il nostro progetto non è che si parte dai numeri si parte dalle idee delle cose da fare da come le vogliamo fare da come vogliamo utilizzare i fondi che abbiamo poi ci dobbiamo preoccupare anche di trovare questa borsa continua a cadere anche i fondi per poter realizzare i nostri progetti politici e allora se vogliamo realizzare se li abbiamo questi progetti e queste idee dobbiamo poi trovare i fondi a disposizione e i fondi che il comune ha da dove vengono vengono dalle tasse dei cittadini e dai trasferimenti allora siamo ancora in una fase di passaggio tra una situazione in cui tutti pagavano dove questo comune aveva delle forti entrate e in una fase in cui ci stiamo avviando se non cambiamo verso una situazione di crisi poi basta non fare non facciamo opere non facciamo questo non facciamo quell'altro e riduciamo completamente tutto già quest'anno il bilancio ha avuto circa 3 milioni mi pare il bilancio di programmazione del 2015 3 milioni in meno che se ricordo bene che abbiamo dovuto coprire allora bisogna cambiare completamente filosofia bisogna cambiare progetti bisogna cambiare anche il modo di affrontare dico una cosa forse estrema non la fa più il terzo piano il bilancio non lo fa lo fa il secondo piano non abbiamo bisogno di andare al terzo piano di questo municipio per fare perché se lo fate fare agli uffici lo faranno esattamente come gli altri anni e continueranno a fare sempre lo stesso bilancio prego lo so scendi però la giunta non la fate al terzo piano la fate al secondo piano il sindaco sta al secondo piano quindi portate tutto al secondo piano è lì che si fa il bilancio non si fa il terzo piano e allora se vogliamo farlo al secondo piano il bilancio se volete dovete farlo se parlo in generale come municipio ovviamente dobbiamo cambiare filosofia bisogna effettivamente come molte volte dice il consigliere Salvador aprire un nuovo rapporto con i cittadini ma come si apre questo nuovo rapporto con i cittadini come si può interagire cambiando il modo di approccio e attraverso le partecipate e attraverso i servizi che vengono dati e attraverso quei servizi minimi obbligatori e garantiti io ho sentito prima alcune perplessità su Villa Catania io personalmente ho partecipato anche alla conferenza stampa mi sembra una buona cosa una buona idea è stato un modo nuovo già si comincia su una strada a dire delle cose interessanti a mio avviso perché questo contenitore è stato fermo dopo che è stato ristrutturato dalla regione con i soldi della regione Friuli Venezia Giulia 4 o 5 anni se non vado errato almeno 4 anni sicuri perché dalla fine della passata amministrazione a questa 4 anni sono passati 4 anni di inutilizzo 4 anni ed erano già finiti i lavori 4 anni dico minimo 4 anni poi di inutilizzo una struttura che è stata realizzata con denaro pubblico che non veniva utilizzata la strada che si sta percorrendo non è una strada facile tant'è vero che vengono presentati i progetti bisogna capire fino a che punto che ci siano effettivamente delle start-up però l'idea è giusta non è sbagliata e su questo concetto bisognerebbe applicarlo anche ad altre situazioni che noi abbiamo di costi fissi come ho sempre detto le partecipate vanno bene quando danno un miglior servizio a minor costo quando noi riusciamo attraverso una nostra società a dare un miglior servizio a minor costo poi abbiamo tutta una serie di situazioni la GSM i parcheggi che siamo tra i parcheggi più cari che ci sono alla fine finiranno per non pagare non per pagare di più per pagare di meno e oggi noi 1 euro e 60 1 euro e 80 è troppo è tanto è un'enormità prego diventa sì svalutazione crediti perché la gente comincerà a non pagare neanche quello cerca modi diversi allora dobbiamo rivedere la nostra filosofia all'interno di questa amministrazione comunale bisogna pensare che i servizi vede c'è una riduzione dei servizi anche dati alle scuole alle mense i servizi sociali e aumenta il livello di povertà questo è il vero problema ma come possiamo sopperire a questo con ulteriori finanziamenti con ulteriori sussidi con dove li prendiamo cosa facciamo allora dobbiamo diventare virtuosi dobbiamo cercare di invertire il sistema del nostro bilancio dobbiamo anche procurarci le risorse rendendo partecipi i cittadini del nostro progetto dando a fargli gestire determinate strutture comunali e qui è stata fatta una proposta concreta anche per quanto riguarda l'utilizzo dei beni comuni di questo e che l'amministrazione ha accolto poi tra parentesi ha creato anche un gruppo di lavoro di commissione su questo che segue questo tipo allora voglio dire però se tutte queste cose non le vediamo poi trasportate all'interno del bilancio di questa amministrazione e come non farle questo è il costitutivo del 2014 il costitutivo del 2015 lo farà la futura amministrazione la nuova amministrazione ma il problema si pone quando facciamo il bilancio di previsione non quando facciamo il costitutivo il costitutivo andiamo a leggerci i dati e ci andiamo a vedere com'è andata ma se vorrei capire a monte l'assessore qual era il progetto politico perché l'analisi non può essere quella che è stata scritta di dire abbiamo fatto questo questo perché poi il 99,9% delle volte sono cose normali dov'è il progetto politico dov'è la novità politica dov'è andiamo a fare un resoconto e diciamo noi c'eravamo posti un obiettivo l'obiettivo era per esempio non lo so adesso ognuno si può inventare quello che vuole ma posso dire quello che pensavo io io per esempio ritengo che in un momento di crisi come questo l'ho già detto ad alcuni assessori l'ho detto anche a lei chiunque ristruttura la propria casa il proprio condominio abbiamo una crisi enorme nel mercato edilizio senza costruire nuovo chi ristruttura i vecchi edifici non paga la tasi questo questo comune diamo un incentivo quanti potranno farlo in un anno 10 20 30 40 magari fosse Dio se lo facessero veramente ma non incide niente sul bilancio comunale però intanto diamo un segnale non sono il 100% che domani ristrutturano i condomini di Pordenone o le case di Pordenone ma facciamo che siano 20 30 50 ma 50 già muovono il mercato ma in realtà non toccano niente al comune di Pordenone ma bisogna avere il coraggio di dire che chi fa questo chi recupera energeticamente il proprio edificio chi lo ristruttura chi fa un servizio migliore per una qualità della vita migliore non paga più la tasa in questo comune per un certo numero di anni sarebbe una cosa innovativa nuova il comune lo può fare e trova i soldi per investirlo possiamo anche allora dobbiamo essere costruttivi propositivi dobbiamo essere noi che accettiamo il mercato abbiamo delle aree dismesse abbiamo delle situazioni anche industriali vogliamo portare nuova economia beh allora diciamo come vogliamo aiutare questa economia guardate che la Silicon Valley non è nata per caso perché delle persone si erano trovate lì hanno detto ah che bella questa è una valle dove si possono fare delle aziende sono nate perché ci sono si sono create tutta una serie di condizioni e a volte le condizioni bisogna crearle non cascano dal cielo non si inventano non succedono per caso è la forza della politica è la politica che programma che progetta che ha anche se volete delle visioni che possono essere utopistiche a volte non sempre si raggiungono gli obiettivi che ci si pone ma almeno bisogna averli ecco quello che io vorrei sapere qui nel momento che andiamo a fare un resoconto noi dovremmo dire c'eravamo posti degli obiettivi fantastici per il 2014 magari non ci siamo riusciti magari ci siamo andati vicino in altre cose non voglio portare esempi le facciamo queste cose cerchiamo di di immaginarci cose che prima non ci si poteva immaginare o pensavamo che non potessero funzionare voglio dire se decidiamo abbiamo avuto un'esperienza domenica di chiudere una parte della viabilità bene pensiamo di cambiare completamente la viabilità di questo comune il piano della mobilità non può essere semplicemente una rotonda e qualche striscia pedonale ma possiamo anche pensare di cambiarlo totalmente perché pensiamo di rivederlo totalmente perché abbiamo un obiettivo perché abbiamo degli obiettivi perché abbiamo delle idee perché vogliamo realizzare e il tutto si plasma e si forma dietro gli obiettivi anche dietro le illusioni se a volte diventano le utopie che noi possiamo avere la politica che non ha utopie la politica che non ha sogni la politica che non riesce a immaginarsi nulla di nuovo non è politica non è niente sembriamo degli amministratori del nulla di quello che già c'era che c'era va bene non è più il tempo il tempo è finito ma lo sto dicendo purtroppo ormai come una Cassandra da un po' di tempo ma non serve a niente voi sapete che Cassandra era stata condannata dagli dèi a dire la verità ma non essere creduta e quindi quando metteva all'erta agli altri non le credeva nessuno perché aveva la condanna proprio di non essere creduta ma allora voglio dire e quindi mi sento a volte di fare la Cassandra però i dati che noi arrivano anche da questi pochi dati che lei ci dà sul consuntivo sono dati preoccupanti perché effettivamente se noi andiamo a vedere primo l'alto avanzo di amministrazione ma poi anche tutto il resto e che è la legge e lo Stato che ci impone di poi di andare adesso vi fermo perché voglio stare nei termini che c'eravamo dati allora sostanzialmente Assessore ci ritroviamo ogni volta a dirci queste cose però effettivamente poi i dati di passo dopo passo purtroppo perdiamo degli anni perdiamo del tempo non costruiamo io vorrei capire esattamente nel futuro ormai faremo il bilancio di previsione probabilmente questo consiglio farà il bilancio di previsione non lo so forse se l'amministrazione lo vuole fare lo può fare se non lo vuole fare non lo fa perché lo farà la futura amministrazione decide questa amministrazione se lo vuole programmare però a consuntivo ci troviamo come gli anni precedenti questa svolta eppure dei segnali ci sono non è che non c'è nulla non è che non non ci sono delle possibilità ci sono si leggono si vedono ma sono timidi manca un progetto globale ma un progetto nuovo un progetto di cambiamento un progetto che non si fermi a quello che già oggi c'è un progetto che non ha paura di affrontare le incognite del futuro un progetto che non piange che non dice che abbiamo meno risorse dallo Stato dalla Regione ma cerchiamo di crearci determinate risorse con le nostre forze e io sono convinto che poi ci verrà dato quello che ci serve anche come verrà dato a tutti quanti gli altri perché i nostri concittadini pagano le tasse la Regione e lo Stato e quindi è giusto che abbiano in cambio anche in proporzione per quello che loro pagano però il problema vero sarà di questa amministrazione e delle future amministrazioni che dovranno costruire un progetto se volete anche utopistico ma sicuramente un progetto politico grazie consigliere consigliere Salvador prego un po' con niente posso andare? grazie grazie presidente intanto siccome non ero presente alla surga e mi scuso do il benvenuto alla collega Daniela Giuste le faccio anche l'inbocca al lupo per l'altro incarico del segreteria di partito del centro cittadino al circolo cittadino perdono del partito democratico mi scuso anche per la voce che è quella che nonostante abbiamo molti medici mi ammalo sempre io cosa? scusami faccio quello che posso veramente perché altrimenti posso cambiare microfono o funziona? questo funziona? cioè proprio quando ho mal di gola ho il microfono che non funziona posso andare? grazie allora assessore Mazzer cerco di rincuorarla un po' io visto che dal MAS ha deluso profondamente dal MAS francamente a me non ha deluso non ha deluso neanche la gestione dei conti di questo ente da parte sua negli ultimi anni che ha gestito lei il referato devo dire che le riconosco due cose le riconosco una certa capacità anche di interpretare gli strumenti che lei ha a disposizione per lavorare nei conti e il bilancio e devo dire che le riconosco anche una certa determinatezza e anche di capacità di battere i pugni con l'ente regionale quando il tema dei rapporti tra voi e la regione è il tema di bilancio il fiore all'occhiello certamente di questa amministrazione è stata il contenimento della spesa e in questo dissento totalmente dal collega dal MAS l'azione fatta da questa amministrazione l'abbiamo detto anche nel bilancio di previsione e nello scorso rendi conto è stata sicuramente la capacità di contenere la spesa ma e non è banale è una capacità di mantenere un livello qualitativo dei servizi piuttosto alto e lo avete fatto soprattutto e lo dimostravano i numeri anche per quanto riguardava uno degli aspetti programmatici che più ci preme che è quello delle politiche sociali avete mantenuto devo dire in un momento difficile il livello molto alto per quanto riguarda le politiche e il suo merito va diviso a mio avviso con l'assessore Vincenzo Romore però ogni volta che c'è all'ordine del giorno ogni volta che c'è all'ordine del giorno un tema di bilancio a me stimola cercare di fare un ragionamento politico durante il bilancio di previsione avevo detto che in questi anni è un po' complesso parlare di conti degli enti locali perché pare che ogni volta che c'è una necessità di riforma una necessità di rivedere le regole del bilancio una necessità di previsione della spesa e anche di gestione di emergenza e non ultima quella dei profughi guarda a casa ogni volta la cosa cade a capo in testa all'ente locale quello più prossimo ai cittadini che è l'ente comunale ma la cosa che più irrita da parte di chi amministra un ente pubblico è certamente il grado di indefinitezza e di incertezza con il quale gli si chiede di gestire certe partite questo ha progressivamente portato a mio avviso una perdita di autonomia da parte degli enti locali e di chi amministra quindi i sindaci perché non è stata data mai la possibilità di programmare nulla e lo abbiamo sperimentato noi soprattutto negli ultimi tre anni guarda a caso però l'ente pubblico comunale è quello che a nostro avviso e a mio avviso come liste civiche è quello che è la parte più sana di questo paese e ogni volta non gli si permette di poter programmare la propria azione politica perché noi vogliamo sindaci che non facciano gli equilibristi sui conti del bilancio o si snervino a cercare delle soluzioni abbiamo bisogno di sindaci che facciano azione politica in questo ha perfettamente ragione il collega Pino Pedicini tra l'altro devo anche dire che nelle ultime amministrative di qualche settimana fa la cosa che più è preoccupante è il grado di astensionismo presente in elezioni comunali almeno io sono sempre stato abituato da quando ho iniziato a votare quindi il 93 ad avere numeri di percentuale di affluenza alle urne per quanto riguarda gli enti pubblici comunali molto alta al di sopra all'80% adesso abbiamo visto situazioni in cui il livello di affluenza è il 48 questo cosa significa? Significa che quello che ho detto prima genera questo tipo di situazione genera anche questo tipo di situazione una delicitimazione completa e continuativa un'erosione della parte tra rapporto tra il cittadino e quel legame tra cittadino e ente comunale bisogna in qualche maniera cercare di evitare che i cittadini perdano sentano lontano il potere locale allora una ricetta e qui la vengo dietro assessore ma vado dietro anche al consigliere Pino Pedicini le vengo dito perché mi è piaciuto molto oggi le do due due note positive se mi posso permettere lei prima ha fatto un ragionamento per quanto riguardava il grado di partecipazione credo fosse l'interrogazione della consigliera Daniello per quanto riguardava le circoscrizioni mi è piaciuto molto la sua risposta perché non è andata al di là della banale rendicontazione disanima di quanto possono essere utili le circoscrizioni però è andato oltre è andato oltre in un grado di programmazione che un'amministrazione politica programmazione politica che un'amministrazione deve avere nei prossimi anni e qui vengo dietro anche al consigliere Pedicini perché è una piccola soluzione a questa grado di incertezza e di erosione di rapporto tra i cittadini e l'ente comunale la possiamo trovare in un cambio di cultura che è quello legata a non fare più solo esclusivamente azione politica legata alla spesa pubblica mi spiego quando si vuole creare partecipazione lei lo ha lo ha prima anticipato bisogna avere il coraggio di cominciare a pensare a un governo diffuso della città è l'unico atteggiamento virtuoso che possiamo fare in questo slalom che è la gestione di un ente amministrativo bisogna cominciare a pensare a dover demandare parti della nostra amministrazione ai cittadini solo questo credo potrà rinsaldare il legame tra cittadino e ente pubblico e non permettere che quel tipo di erosione avvenga ora a questo punto parlo anche verso la mia maggioranza alla quale appartengo siamo a un anno delle elezioni proviamo a pensare proviamo a pensare che questa azione potrebbe essere la nostra azione virtuosa e dobbiamo fare due cose per poterlo fare primo quello che diceva lei ricominciare ad andare più di quello che già facciamo a parlare nei quartieri nella città ma verso quei referenti della città che ci possono dare una disamina perfetta di quello che accade in città questo ci permette anche di trovare quei soggetti quelle associazioni e quella rete alla quale noi possiamo demandare parte del governo di questa città e cominciare a creare un governo diffuso di questa amministrazione lei prima ha citato la circoscrizione sud però legata al genius loci genius loci è una bellissima situazione che si è creata perché è come dire la prospettiva futura di quello che dovrebbe essere la circoscrizione dovrebbe essere quella rete di raccordo tra i cittadini e l'amministrazione forse è proprio quel tipo di soluzione alla quale noi possiamo demandare parte della gestione pubblica e quindi a quel punto finalmente ci saremo liberati parzialmente in piccola misura di un governo di un'azione politica che è solo esclusivamente legata alla spesa pubblica come è sempre stata fatta negli ultimi decenni ed è forse quella fantomatica ristrutturazione della spesa di cui si è parlato sempre in questo in questo in questo consiglio comunale da parte sia dell'opposizione ma anche dalla maggioranza forse la vera ristrutturazione della spesa nasce da fare azione politica senza basarla esclusivamente sulla spesa pubblica ma sul coinvolgimento dei cittadini ora a quel punto forse avremmo potuto e avremmo potuto sì ripristinare quel legame necessario prima che la cosa possa andare a peggiorare quel legame tra cittadini e amministrazione prima che a Pordenone non accada dei dati d'affluenza gravi come abbiamo visto nelle ultime tornate elettorali grazie grazie consigliere salvadone consigliere piccinato prego grazie presidente allora della previsione del bilancio 2014 parlo di scusate sì parlo di quindi vado a ritroso abbiamo già discusso tempo dietro quindi non voglio ripetermi con le stesse tematiche mentre cercherò di guardare comunque quello che è il risultato finale insomma che andiamo a discutere qui oggi per chi vuole vedere insomma poi le dichiarazioni di allora basta andare a rivedere i filmati allora qui abbiamo appunto ci ha mostrato prima l'assessore molto chiaro il problema della dell'esigibilità dei crediti particolari sulla questione delle multe ma allora se abbiamo praticamente un 50% e oltre di multe che è difficile riscuotere è difficile incassare è difficile andare a controllare insomma metto dentro tutto non è forse il momento di andare a rivedere tutto il sistema in maniera tale che ci sia più prevenzione rispetto a una sanzione che poi non viene pagata ecco questo secondo me è un punto importante che va che va assolutamente migliorato perché qua da quanto vedo i numeri cioè non è possibile che la sanzione non sia efficace nella maggioranza dei casi e già le sanzioni tante volte secondo il mio punto di vista ma questo esula un po' sono più elevati sono troppo poco elevate rispetto a quello che è il problema quindi comunque insomma alla fine risulta che c'è questo tipo di problema poi poi andando a vedere un po' i numeri ci sono nella vigilanza nella sicurezza con tutti i problemi che va avuto nel 2014 20.000 euro in meno rispetto al 2013 e questo non è accettabile dal mio punto di vista ma poi insomma sono posizioni che ognuno prende con la propria coscienza il evidentemente il partito democratico e le altre forze della maggioranza ritengono che la sicurezza non sia un problema va bene noi invece diciamo che è un problema e va affrontato vedo invece che preferisce spendere 25.000 euro per le politiche europee va bene quindi come ho già avuto modo di dire sono per me risulta tuttora una follia andare a fare a chiederle l'emosina dei nostri soldi invece di andare a battere i pugni sul tavolo visto che lo ricordo è stato presidente ha avuto la presidenza europea a Renzi fino all'altro ieri non ha fatto nulla per avere più soldi all'Italia dei propri soldi per non parlare poi della gestione degli immigrati che stanno arrivando a frotte sicuri che l'Italia li accoglierà e li manterrà a vita natural durante mentre gli altri paesi abbiamo visto come presidenza abbiano deciso di agire tutelando dei propri cittadini e propri interessi nazionali cosa che l'Italia non è assolutamente in grado di fare poi vedo un aumento sempre rispetto al 2013 di 28.000 euro per l'avvocatura anche qui evidentemente si aumentano le spese in questo senso non avendo di meglio da fare poi sulle attività culturali vedo più 213.000 euro quando sappiamo bene che le priorità sono le tasse sono il lavoro quindi altri settori la sicurezza e tutto anche il stesso aiuto agli anziani che è stato diminuito in questi anni eppure qua vedo un aumento le attività culturali sebbene siano lodevolissime ma forse in questo momento ci sono altre priorità poi ci sono addirittura più 43.000 euro per l'aiuto e la gestione degli animali in sostanza e questo lo ritengo davvero un insulto a tanti porgononegi che oggi sono in difficoltà che magari potevano avere questi soldi invece che darli per l'attività degli animali invece ci sono addirittura quasi meno all'8% di fondi spesi per gli asili nido e quindi io davvero ritengo che questa sia una priorità quella di pensare al futuro deve essere sempre una priorità non 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 si può togliere il futuro non si può è un'emergenza nazionale da ormai troppi anni e ad oggi ancora si toglie questo non è dal mio punto di vista accettabile e anche si vede nella chiaramente che la soddisfazione delle domande degli utenti degli asili sia in calo ancora c'è una minore copertura anche dei posti dei soggiorni del pensionato soggiornista insomma del 6,5% 15% in meno di copertura dei posti del centro di urno e un 16% in meno sempre sui nella gestione dei pensionati per quanto riguarda la soddisfazione delle domande aumentano invece le liste di attesa del 106% anche questi sono dati che dovrebbero far allarmare immediatamente e porre rimedio all'istante ma già in via via dell'anno perché io penso che questi dati insomma non siano presi sempre e solo all'ultimo momento ma siano valutati costantemente quindi qui dal punto di vista gestionale c'è una carenza non da poco perché una lista d'attesa che improvvisamente aumenta del 106% voglio dire non è che uno di quegli elementi come prima che magari il 5-6-7% risulta ancora gestibile e comunque tendenzialmente negli anni sobbalzabile quindi dai si può fare questo disguido un anno e l'anno dopo si riprese perché è una gestione nell'ordine poco mentre il 106% è qualcosa di estremamente elevato calano i prestiti delle biblioteche del 29% e il 7% l'utenza anche qui uno dei fiori all'occhiello che era sempre stato sbandierato ha una certa battuta d'arresto calano anche del 35% le mostre finanziate con i fondi propri cavallo di battaglia da sempre la cultura delle mostre non riesce a trovare un finanziamento o una partenza che possa finalmente dire siamo slegati avete creato un grande modello che ha fatto partire finalmente una cultura che riesce dal punto di vista delle mostre finalmente riesce a dare grande spazio proprio e invece no siamo sempre al modello parassitario chiudo questa prima analisi dicendo prendendo quelle che sono le parole dei revisori contabili che dicono una cosa che chiosa con tutto il ragionamento che era già stato improntato quando questo bilancio veniva discusso nella previsione quindi torno ancora un po' indietro ripeto ma non voglio ripetermi ma quello che era stato detto un anno fa oggi viene scritto qua dai revisori il collegio invita dopo tale operazione e si riferisce ai vari cambi che sono stati fatti per la scrittura del bilancio a considerare una rilettura ed eventuale ristrutturazione della programmazione degli investimenti e delle relative forme di finanziamento in pratica vi sta dicendo svegliatevi e cambiate velocemente le cose grazie grazie consigliere consigliere tomosello prego grazie presidente signor sindaco quello che noi oggi andiamo a provare appunto è che ci ha esposto in modo preciso e puntuale assessore mazzer che qui la ringrazio per non essere di meno del consigliere salvador la ringrazio per il lavoro fatto è il punto che dobbiamo approvare il consentivo del 2014 di un anno anche questo molto difficile da un punto di vista economico occupazionale per il nostro territorio e spero appunto che il prossimo sia un anno l'anno invece dal 2016 il 2015 e il 2016 siano gli anni della ripresa tutte le scelte fatte da questa amministrazione con questo binaccio noi del Partito Democratico le abbiamo condivise come forza politica di maggioranza abbiamo detto la nostra cercando anche di in qualche modo di dare un piccolo contributo sulle vostre scelte e sicuramente come ho evidenziato già nel mio intervento che ho fatto in sede di bilancio preventivo questo è un bilancio sicuramente che è stato caratterizzato da due fattori lo ha evidenziato anche lei nella sua esposizione da ulteriori interventi legislativi che hanno reso un pochettino più difficoltosa la redazione del bilancio e anche da una continua precaria situazione economica del nostro paese che ha avuto come conseguenza sempre quella delle minori finanze messe a disposizione agli enti locali e anche quindi di minori trasferimenti che abbiamo ricevuto quindi come di ribadisco è un bilancio condizionato dalla legge è stato condizionato dalla legge di stabilità ma condizionato anche dal patto di stupidità o stabilità che hanno posto l'amministrazione ad operare in condizioni di estrema difficoltà che non hanno consentito quella autonomia e libertà al nostro ente che avremmo voluto e che la nostra costituzione della Repubblica italiana riconosce ai comuni in ogni caso anche dinanzi a queste difficoltà sia per la parte di spesa corrente che per quella di investimento lo sforzo condotto da questa amministrazione e in particolare da lei Assessore Mazzer è stato di costruire un documento contabile capace come è stato ribadito anche dal consigliere Salvador garantire il complesso dei servizi erogati alla nostra comunità a un livello certamente sicuramente pari se non superiore a quello dell'anno precedente quindi questa è una strada che è stata intrapresa una strada virtuosa consolidata ormai di anno in anno attraverso responsabilità contenimento della spesa oggi ce l'ho anche evidenziato capacità di fare e dare servizi ai cittadini dimostrando una coerente capacità di gestione nella ripartizione delle entrate e degli impegni economici fra i vari capitoli però vorrei evidenziare che Pordenone che è una città accogliente e solidale ancora una volta ha potuto dimostrare che il welfare anche il welfare per l'anno 2014 è stato uno dei vanti di questa comunità questa amministrazione è stata consapevole che oltre alla sicurezza della città quindi sicurezza anche se si è interessata a questa amministrazione andavano salvaguardati in uguale misura i servizi che si rivolgono agli anziani e ai disabili e alle persone che presentano un disagio sociale o sanitario sono state fatte delle scelte che sono state confermate se non migliorate con quel bilancio preventivo del 2014 il comune ha scelto di non allentare la rete di protezione costruita negli anni scelta che ribadisco dovrà essere rinforzata anche per il prossimo bilancio e questo noi che le chiediamo l'assessore per il bilancio anche del prossimo anno si deve quindi dare merito per queste scelte a questa amministrazione che oltre alla visibilità ha dimostrato di guardare anche ai reali contenuti passando poi quindi all'entrata quindi facendo un ragionamento più politico all'entrata del bilancio consultivo io vorrei e su questo vorrei non in tono polemico ricollegarmi a quanto ha detto anche il consigliere Pedicini e mi riferisco ma l'ha anche evidenziato anche lei poi mi sono andato anche a vedere nella relazione dei revisori mi riferisco appunto a quanto emerge emerso di importante dalla relazione fatta dei revisori in particolare sono emerse due cose che sia le entrate tributarie che quelle extratributarie sono in linea con le previsioni e ciò significa che per quest'anno e ancora per l'ennesima volta quest'anno le famiglie pordenonesi ancora stanno ottenendo nonostante la grave crisi economica la grave crisi occupazionale che ha colpito questa città ma anche che il nostro bilancio ha retto e quindi è un bilancio solido è un bilancio sano che ha tenuto conto della grave crisi economica sociale del nostro territorio salvaguardando le fasce sempre più consistenti della nostra società il dato che vi ho appena esposto quindi è importante da un punto di vista politico in quanto ci fa anche capire signor sindaco che l'amministrazione potrà sicuramente pensare a progetti futuri per questa città il secondo dato politico cerco un po' anche di sorvolare giusto per non ripetere mi riguarda il ruolo che noi vogliamo che l'ente comune dovrà avere in futuro affinché riacquisti quel ruolo che gli assegna la Costituzione mi ricollego a quello che dicevo prima cioè noi è necessario secondo noi lo ribadisco anche quest'anno lo dico ogni anno è quello di tornare alla Costituzione a valorizzare la presenza dello Stato più vicino ai cittadini che è il comune serve un autentico rovesciamento della piramide istituzionale bisogna rimettere quindi secondo noi gli enti locali al centro della programmazione finanziaria affinché siano veramente i veri motori dell'economia e della crescita come a parole si vorrebbe che fossero i comuni dal canto loro devono capire che il trend si può invertire esclusivamente con scelte forti capaci anche di mettere in discussione le certezze che fino a ieri sembravano acquisite in eterno e che puntano anche a cambiare gli stili di vita dei cittadini ci riferiamo in particolare all'evoluzione del livello amministrativo locale e a tutte quelle serie di provvedimenti ispirati come dicevo prima nella riforma costituzionale del titolo 5 che deve trovare attuazione risolente ormai che risale ormai un decennio fa ma mi riferisco anche alla riforma sulle autonomie locali approvata anche della regione che ha ancora un po' di difficoltà di verità a capire come funziona e quali ne saranno gli effetti ma forse questo è solo un mio limite signor Assessore una cosa e concludo è necessario che i comuni siano fattori di questo processo che deve vedere rafforzamento della concreta fattibilità delle fusioni comunali una cosa che noi ribadiamo ogni volta che ribadisco sempre in sede di bilancio preventivo in sede anche di consultivo non c'è alcun dubbio che la dimensione della maggior parte dei comuni italiani sia uno dei problemi dei limiti maggiori del nostro sistema noi riteniamo che Pordenone può certamente contribuire a questo perché ha di fronte a sé la responsabilità di assumere scelte strategiche che hanno anche dimensione sovracomunale potremmo trovare compimento e realizzazione solo ragionando su un livello superiore concludo e approfitto anche per fare la dichiarazione di voto per quanto riguarda il mio gruppo in primis volevo dar merito al grande lavoro svolto sia agli uffici per il lavoro svolto dagli uffici di regioneria all'assessore al sindaco che hanno svolto il loro compito con scrupolo e anche competenza noi quindi diamo un parere quindi un giudizio favorevole a questo bilancio e ne consegue che il nostro voto all'interno del mio intero gruppo sarà un voto favorevole grazie grazie consigliere nessun altro iscritto pertanto dichiaro prego consigliere ribetti grazie grazie presidente il mio non sarà un intervento molto lungo anche perché come ho detto più volte ribadisco questa sede quello che è un bilancio consuntivo quella che è l'analisi di un consuntivo può avere un senso almeno per come lo vedo io nel momento in cui i dati che emergono sono diametralmente contrari nella loro qualità nella loro quantità rispetto a quelli del preventivo perché in un ente pubblico quello che si valuta sono le intenzioni dell'amministrazione come vuole allocare le risorse dove vuole andare a colpire ad agire e poi al consuntivo si tirano le somme quindi io credo che i grossi ragionamenti vallano fatti sul preventivo poi dopo chiaramente se al consuntivo l'amministrazione si è discostata quello che voleva fare allora chiaramente va analizzata altrimenti se cerca di fare cerca di portare a compimento quel progetto quelle idee che ci è venuta a raccontare in sede di previsionale non c'è molto altro da aggiungere in quanto le valutazioni sono fatte prima tu mi dici cosa vorresti fare io ti dico che non sono d'accordo l'hai fatto almeno ci hai provato e quindi ho poco da aggiungere in questo caso però mi ricollego a quello che ha detto il collega Pedicini che adesso non vedo più in aula quindi secondo me vanno analizzati alcuni dati prima ho sentito questa sera da molte parti enfatizzata un risparmio di questa amministrazione l'amministrazione ha risparmiato abbiamo un avanzo di amministrazione è stata brava abbiamo contenuto ecco io qua però mi devo ricollegare a quello che ho detto con le galle Pedicini io non è che proprio concordi con questa visione perché a casa mia se mi dici che vuoi fare qualcosa per 120 e mi fai qualcosa per 100 allora mi devi spiegare perché quei 20 non li hai portati a casa non è che ti vengo a dire bravo perché hai speso di meno io ti ho già autorizzato a spendere 120 tu mi hai detto che facevi 120 mi fai 100 allora non sei stato bravo perché un quinto di quello che mi hai detto che facevi non l'hai fatto è qua che l'analisi che fa il sottoscritto si discosta da quella dei colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto bene assessore quando io vado a vedere le entrate non so stavo leggendo le sue slide sul rendiconto posso capire gli 800.000 di scostamento sulle entrate siamo l'uno per cento l'uno per l'uno è qualcosa ma quando vedo che ci sono 10 milioni investimenti in meno allora perché ci sono quei 10 milioni di investimenti in meno ha gonfiato prima sì ma il fatto di stabilità si sapeva oppure oppure quando vedo che ci sono entrate derivanti da cessioni di prestiti in meno benvenga questo perché se non mi vai a fare l'opera non mi vai a prendere neanche l'investimento ciò porta a delle riflessioni ciò porta a delle riflessioni soprattutto soprattutto quando quelle risorse quelle risorse si potevano straziare a mio modo di vedere in maniera diversa perché se noi andiamo a vedere giustamente il momento di difficoltà che viene vissuto che viene percepito ne siamo conoscenza tutti allora siamo sicuri che non si poteva prevedere di meglio sui servizi alla persona alla comunità si poteva fare si poteva fare ripeto allocazione della risorsa voi avete le risorse dovete decidere come allocarle so che poi mi risponde so che lei è puntuale assessore mazzer lo so che lei è puntuale e invece a consuntivo e quindi valutando quello che avete fatto non posso non rimarcare una cosa che rimarco ogni volta ve lo dico sul preventivo ve lo dico anche sul consuntivo e non posso assolutamente condividere ai momenti come questo ribadisco quando mi trovo dei costi che li evitano come quello per le attività culturali e per le strutture culturali che mi trovo un aumento tra i costi del 2013 e i costi del 2014 io ritengo che lì come ve l'ho già detto credo in serie preventiva proprio di ogni volta se abbiamo dei problemi contingenti uno dei punti uno delle chiamiamolo così delle voci dove io andrei a tagliare lo farei io sono proprio le attività culturali che non posso in questo momento vedere un aumento di quasi 400 mila euro e soprattutto per le strutture culturali cosa io metterei tornelli e poi non è legge poi e anche questo non l'ha evidenziato più di qualcuno ecco io ritengo che debba essere incrementata l'opera di la discussione sugli accertamenti io credo che siamo veramente molto molto bassi forse forse abbiamo già toccato forse questo tema adesso non mi ricordo in qualche assestamento eccetera che forse c'è troppo scollamento dal momento in cui si va ad accertare il momento in cui parte l'azione di riscossione o il tentativo di riscossione forse questo può essere una delle spiegazioni su perché siamo così bassi siamo al 48 poi lei diceva col dato storico riusciamo a recuperare un altro 17-18% è una cosa che mi preoccupa una cosa che mi preoccupa invece e forse non è stata evidenziata abbastanza è quello che quanto riguarda la Tarsu quello che era il recupero quello che adesso bisogna coprire il costo del servizio adesso tu non paghi pagano tutti gli altri per te questa è una cosa che dovrebbe muovere l'amministrazione non solo nei controlli non solo nei controlli che mi mette la guardia ecologica che va ad aprire dentro il sacchetto per vedere e sanzionare giustamente però dovrebbe smuoverla a cercare di colpire ripeto avvicinando il momento dove sono i pericoli per la riscossione perché questa è qualcosa di quanto più antipatico che ci possa essere in modo di vedere perché l'amministrazione da una parte ha le mani legate perché è una normativa che le impone di giustamente coprire il costo però degli strumenti ce l'ha muoversi anticipatamente per evitare che chi provoca che chi non paga possa poi con l'andare del tempo riuscire a farla franca riversando il proprio inadempimento su tutta la collettività ecco io credo che altre tante altre cose non ci siano da dire su questo bilancio ma ripeto non per altro perché credo che abbiamo discusso io l'ho detto altre volte non voglio entrare a consultivo perché io ve lo dico preventivo quello che fare è consultivo prendo atto avete detto ve l'avevo già detto cosa fare però sono ultimi due dati di passaggio vorrei vorrei evidenziare uno l'abbiamo già evidenziato altre volte ma lo voglio ripetere più di qualche volta ho sentito negli anni scorsi di stradi quando quando la regione era amministrata da da altro colore politico lamentarsi per la carenza di trasferimenti eccetera io vedo proprio nel suo slide e lo ribadisco che l'ultimo anno in cui sono presi i soldi era gli 2011 poi siamo in caduta libera quest'anno forse c'è una piccola risalita ma siamo sempre 200 euro sotto pro capite quindi forse diciamo la verità la regione che c'era prima erano sempre altri tempi sempre altri tempi a parte invertire e adesso e l'ultimo è una raccomandazione una raccomandazione che io faccio al signor sindaco perché vede analizzando puntualmente i costi adesso faccio la pagina ma la ritrovo subito un altro dato mi è balzato agli occhi ed è quello delle spese del gabinetto del sindaco vede signor sindaco con questo bilancio al consuntivo noi vediamo che se volete riuscite a spendere relativamente poco perché a mio modo di vedere non è una spesa 600.410,14 non è poco però è il dato più basso siamo nel 2014 io vorrei evitare di tornare ai valori del 2011 dove c'era 1.207.380 non mi interessa la provincia signor sindaco io sono un misero consigliere comunale non ho interesse alla provincia di Pordenone se non per quella che è la mia città quindi io dico vorrei evitare che nel prossimo bilancio che andremo a discutere che sarà guardi caso quello del anno delle elezioni di trovarmi un altro milione e 200 mila euro se lei ci ha fatto vedere che è così bravo che riesce a contenere i costi scendendo da 1.207.380 del 2011 guardi caso anno delle elezioni a una discesa costante 7.41 nel 2012 7.12 nel 2013 fino ai 600 di quest'anno il consuntivo mi auguro che anche il consuntivo dell'anno delle elezioni lei saprà attestarsi su questi valori visto che ne è capace grazie grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente cercherò di portare via pochi minuti con qualche ragionamento allora il conto consuntivo diciamo è un passaggio obbligato nel quale si cerca di capire se ciò che in qualche modo si era programmato è andato a buon fine oppure si è lasciato qualche traccia per strada io penso che la fantasia e la capacità la si esplica nel conto preventivo cioè lì che viene fuori la progettualità non nel conto consuntivo come sentivo un po' questa sera il conto consuntivo è un po' il riassunto di ciò che si è fatto che si è cercato di fare e lì si capisce se ci si è messa la diligenza come si dice del buon padre di famiglia per compiere le azioni che ci si era prefissate di fare mi pare che il lavoro fatto dall'assessore dagli uffici competenti da tutto l'apparato sia stato un lavoro certosino un lavoro attento un lavoro che ha dato dei risultati certamente la progettualità è una cosa diversa la progettualità è un poter avere gli strumenti da poter mettere in atto e poi vedere se questi strumenti hanno gambe per poter camminare noi in questi anni è inutile che ce lo diciamo ce lo stiamo ripetendo ogni volta parliamo di numeri siamo stati in qualche modo vincolati dalle situazioni sia nazionali sia locali cioè non è che possiamo prescindere da questo quando abbiamo avuto un bilancio vincolato per delle opere che ricadevano all'interno del nostro comune ma che poco avevano a che fare con il comune dal punto di vista amministrativo è chiaro che tutto questo ci ha in qualche modo vincolato è anche tarpato un po' le ali dal punto di vista della progettualità ecco io penso che alcuni dati che l'assessore ci ha dato c'è stato un dato che mi ha fatto riflettere l'assessore non le ho fatto la domanda prima ma la faccio adesso vediamo se poi magari in fase di replica riesce a darmi qualche elemento in più quando lei ha portato come esempio il discorso delle sanzioni del codice della strada allora quel 48% mi ha fatto un po' pensare anche se poi alimentato da quel 17% da previsione storica che nasce dalla media storica però un 48% è bassino cioè siamo neanche a metà di coloro i quali hanno avuto una sanzione che hanno in qualche modo assolto al loro compito la domanda è e la faccio perché qualcuno che è intervenuto prima mi ha un po' stimolato in tal senso dicendo che le entrate sommato tributarie e extratributarie i cittadini le hanno assolte per cui vuol dire che questo stato di crisi in qualche modo lo si fa fronte io devo dire sinceramente che qualche dubbio su questo ce l'ho io ho l'impressione che qualcuno stia intaccando il risparmio per far fronte alle situazioni ma non perché ci sia una tassazione come si può dire così accanita ma perché c'è una situazione di difficoltà che si percepisce una situazione di difficoltà che si conosce perché tutti noi conosciamo queste situazioni allora questo dato del 48% ha qualche elemento di analisi maggiore cioè nel senso che gli accertamenti fatti hanno i percorsi fatti per poter riscuotere quello che manca hanno dimostrato che c'era una situazione di difficoltà oppure c'è qualcuno che fa il furbo cioè le ture possono essere diverse è su questo che vorrei un attimo capire ma questo è l'aspetto è l'unico aspetto tecnico sul quale anche se ha poi un risvolto che può essere di tipo politico e sociologico anche se vogliamo ecco per il resto io penso che sì il consigliere Pedicini e anche il consigliere Salvador hanno fatto riferimento a qualche diciamo iniziativa un po' di 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 fantasia ma di fantasia che può essere realizzata cioè chi mette in campo dei progetti nuovi abbia un premio e mi pare che questo sia un concetto che al di là dell'esempio che può essere stato portato sia un concetto secondo me virtuoso cioè chi in qualche modo si mette in gioco rischia ma deve essere anche riconosciuto per il rischio a quale va incontro per cui ci deve essere un corrispettivo dall'altra parte che lo incentivi a rischiare perché altrimenti la macchina non si mette non si mette in moto noi abbiamo messo in campo mesi fa con il concorso di più di più persone di più forze politiche quel ragionamento attorno al regolamento di beni comuni ecco io penso che quello se letto se letto attentamente potrebbe essere uno strumento della sburocratizzazione della macchina e ve lo dico così in maniera molto molto semplice molto diretta perché se noi mettiamo il cittadino nella condizione di poter fare delle iniziative e da queste iniziative ne trae la conclusione che il comune è un suo partner nel portare avanti alcune cose in maniera semplificata in maniera molto diretta in maniera molto semplice il cittadino percepisce la pubblica amministrazione come un qualcosa che le è vicino come un qualcosa che le è amico altrimenti la percepisce come un qualcosa che mette i bastoni tra le ruote nel poter realizzare anche delle cose semplicissime vi porto un esempio che mi sta accadendo in questi giorni semplicissimo al quale ho coinvolto qualcuno per farmi spiegare un po' non è possibile non è possibile l'ho detto prima al segretario che per chiedere uno spazio pubblico di 100 metri io debbo fare una domanda in carta bollata da 16 euro predisporre altri 16 euro per la risposta e pagare una tassa di occupazione di solo pubblico semplicemente perché dei cittadini vogliono trovarsi una sera a intrattenersi ludicamente su un pezzo di strada secondaria è possibile che uno debba spendere 80 euro per una cosa del genere e per mettere insieme 4 frittelle o 4 pezzi di anguria per passare una sera insieme cioè allora il cittadino l'amministrazione è amica o è qualcos'altro mi fermo lì ma questo non vuole essere con spirito polemico o niente è semplicemente per capire come alcune cose semplici potrebbero essere tradotte e coniugate senza tante complicazioni allora il regolamento dei beni comuni io spero caro Marco che possa essere anche uno strumento per andare incontro e contro ad una burocratizzazione della quale tutti siamo un po' stanchi un po' così infastiditi anche sono piccole cose ma se queste piccole cose le mettiamo insieme arrivano dall'informatico alla signora Maria nel senso che arrivano in maniera semplice arrivano in maniera immediata e tutti la percepiscono poi per quanto riguarda i progetti io penso e qui mi rivolgo magari all'assessore Toffolo che ha tanto lavorato in questi anni sulla rigenerazione io dico che le aree nostre dismesse lo coniugo semplicemente con un titolo dovrebbero diventare tutte centrali energetiche allora qui si fa progettazione se io ho un cappannone un pezzo di fabbrica un qualcosa che è rimasto lì devo dare gli strumenti perché quello possa diventare una centrale energetica di pannelli solari di qualcosa altro perché altrimenti se non do questi strumenti quello continuerà a essere una cosa che va in degrado in disuso diventa una topaia in centro città o anche fuori città ecco questi sono i progetti nei quali dovremmo misurarci per un regolatore discuteremo ci darà strumenti modi idee eccetera però questi sono i passaggi sui quali un'amministrazione e un amministratore deve confrontarsi deve mettere in campo deve vedere un po' più in là se non ha questi strumenti non si limita a governare il governabile ecco così ho messo lì alcune idee un po' forse alla rinfusa ma questo per dire che lo sforzo per amministrare questa amministrazione ce l'ha messo ce l'ha messo in un momento di difficoltà in un momento in cui non era facile fare progettazione ha salvaguardato quello che poteva essere il welfare mi pare che l'abbia salvaguardato in maniera egregia ha salvaguardato quelli che erano i servizi ha cercato in qualche modo con quella voce assessore che io adesso non ricordo in termini di numeri ma dell'abbassamento della Tari che era stata lo scorso anno un salasso non indifferente per alcune per alcune attività per cui io penso che l'impegno sia stato messo riconoscendo quali erano gli scenari sui quali ci si muoveva per queste ragioni il nostro voto sarà positivo e per queste ragioni anche ci impegneremo per quanto riguarda il futuro della città grazie grazie consigliere consigliere Piccini prego grazie presidente un intervento breve ma che mi è stato come dire sollecitato un po' dal dibattito che è scaturito perché all'inizio devo dire la verità nella trattazione dei numeri come sempre dico si riscontra poca come dire poca energia e qualche volta ci si annoia pure però credo che ciò che è stato detto qui al di là delle legittime posizioni di maggioranza e opposizione questa sera meriti in qualche modo di essere sottolineato oppure come dire di evidenziare qualche pensiero in difformità rispetto a questo appunto io ci tenevo a dire una cosa non è che noi il comune di Pordenone come tutti gli altri comuni credo della nostra regione ma anche d'Italia hanno risparmiato e sono stati bravissimi per questo motivo sono stati costretti a risparmiare poi ci saranno stati quelli più bravi e quelli meno bravi ma di poco siamo lì c'è qualcuno beh insomma voi siete stati tra i più bravi allora mettiamola così assessore abbia pazienza ma lei avrebbe fatto volentieri a meno del patto di stabilità no? bene e allora vede che il ragionamento lo condividiamo scommetto che lei avrebbe fatto volentieri a meno dell'illustrazione della slide 13 non tanto perché dallo scorso anno a quest'anno c'è un incremento del 3% non voluto da lei di autonomia impositiva ma perché dal 2011 adesso l'autonomia impositiva passa dal 21 al 33 e mezzo ma non è colpo vostra per questo dico che in determinate questioni ci si ritrova e si agisce di conseguenza io credo che il consuntivo mi allineo a quella linea di pensiero che dice che quando in una città come Pordenone non si pagano le multe o non si pagano la casa di riposo poco per fortuna ma insomma ci sono queste queste avvisaglie per una città come la nostra che credo tutti quanti noi riconosciamo di gente precisa abituata ad adempiere alle proprie come dire alle proprie incombenze ci siano dei campanelli d'allarme non sono d'accordo sul fatto che si vada come dire ci sia ancora molta ricchezza se guardiamo poi come facevo riferimento prima la diminuzione del pagamento delle mense scolastiche che sono piccoli importi è vero che 60.000 euro sono pochi ma bisogna capire di quanto è singolarmente allora il campanello d'allarme per cose così necessarie a mio modo di vedere anche per un piccolo importo si accende ecco perché pur condividendo buona parte naturalmente non le conclusioni dell'intervento del collega freschi non sono d'accordo quando ha detto non è che abbiamo fatto chissà che tassazione noi non l'abbiamo fatta ma ce l'hanno fatta gli altri fare gli altri e quindi voglio dire ci ricolleghiamo al discorso di prima credo che in questi anni non so che cosa si poteva fare rispetto ad una migliore progettazione dei bilanci e quindi progettazione della della città e delle delle attività che si possono fare certo credo che alcuni aggiustamenti potevano essere fatti e come è normale ed è giusto che sia se dall'altra parte ci fosse ci fosse stato un governo non di colore mettiamola così con idee diverse credo che le priorità sarebbero state altre questa sera io mi sono scusata con il presidente mandando una mail sono arrivata in ritardo per dei problemi personali e ho capito che è stata discussa l'interrogazione che fa riferimento al discorso delle telecamere perché c'era la collega Daniello che ringrazio io non l'ho sentita perché sono arrivata subito dopo e rispetto a questo io credo che il problema della sicurezza per la città sia prioritario ma non perché io sono una di quelle che dice che c'è la criminalità c'è questo c'è ed è prioritario e ricordo per l'ennesima volta un impegno che è stato preso qui in approvazione di bilancio di previsione relativamente a ripristinare non aumentare ma ripristinare il fondo che c'era lo scorso anno per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza o mi sbaglio ecco cioè e mi fa piacere allora questa a nostro modo di vedere è una priorità perché in una città sicura tutto funziona bene non sono qua a come dire a stracciarmi le vesti e a dire che certo è un aspetto anche questo da evidenziare e da tenere in considerazione oggi non ho avuto tantissimo tempo ma per studiarlo bene ma mi sono stampata le azioni strategiche di mandato 2011-2016 di questa amministrazione manca ancora un anno e magari con l'avanzo di amministrazione che avete adesso recuperate tutto quello che qua mi pare non rientra è stato aggiornato al 13 agosto 2012 pressa poco un anno dopo la elezione dentro qui c'è un po' di tutto era un programma veramente ambizioso mi piacerebbe qui non c'è il tempo questa sera per esaminare voce per voce ma mi piacerebbe avere un confronto diretto con il vice sindaco l'assessore al bilancio l'amministrazione non lo so ma mi piacerebbe veramente perché credetemi che rispetto a questo documento molte cose sono rimaste scritte sulla carta ma come dicevo prima avete ancora un anno di tempo chiudo in un aspetto preannunciando e facendo anche la dichiarazione di voto credo del gruppo perché non penso che il gruppo voterà favorevolmente al rendiconto visto che ho sentito prima l'intervento del collega Piccinato e mi pareva piuttosto critico chiudo con un aspetto che è quello che è stato citato più volte questa sera qui di questo regolamento o comunque di questa delibera che farà riferimento all'utilizzo la fruizione la manutenzione dei beni comuni allora io mi auguro veramente tanto che questo come diceva qualcuno qui stasera serva in qualche modo a sburocratizzare non credo venga incontro alle esigenze di non pagare le due marche da bollo tanto per essere chiari perché credo che quelle siano richieste dallo Stato concordo che non è corretto che sia così sono scettica in un aspetto ma confesso di nonostante il collega Salvador me l'abbia sottoposto di averci dedicato poca attenzione ma per altre motivazioni non perché l'argomento non mi interessa ma dicevo sono un po' scettica rispetto a come si metterà in funzione il tutto se è vero che a noi i cittadini che dico così per sommi capi i cittadini che faranno determinati lavori mi sembra di capire su questi su questi beni li faranno al posto dell'amministrazione non vorrei che non il comune di Pordenone ma poiché viviamo in questo paese che è per eccellenza il paese delle burocratizzazioni alle persone bisognerà fare un'assicurazione bisognerà fornire il materiale bisognerà 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 allora è da valutare è da vagliare non c'è una chiusura assolutamente preliminare ma non mi aspetterò non mi aspetterei in questo momento un elemento risolutivo a favore di questo chiudo con una questione che mi ha evidenziato come dire mi ha catturato l'attenzione sul parere dei revisori quando fa riferimento e qui si innesta credo abbastanza bene il discorso di obiettivi strategie e lavoro per il futuro la questione relativa alle gestioni associate che parlando prima gentilmente il revisore mi ha spiegato che sostanzialmente sono in qualche modo fanno in qualche modo riferimento alle questioni dell'aster che sono in è esatto di quelle che saranno nuti però vede assessore qua i revisori scrivono è opportuno che l'ente esponga le finalità poste a base della gestione associata dando dimostrazione degli obiettivi perseguiti e conseguiti con tali accordi che poi saranno quelli che si chiameranno accordi quello che saranno anche con indicatori di efficienza efficace miglioramento delle qualità che evidenzino i risultati raggiunti dalla gestione lei per la verità quando è venuto qui in consiglio comunale ci ha presentato quella dell'Utiunica ha fatto riferimento e io contrariamente quanto detto dal MAS non fu un voto favorevole ma il mio fu un voto non favorevole perché il ragionamento era di tipo politico e quindi questa è un'altra questione ancora quindi voglio dire la strategia e la programmazione a lungo come dire a lunga agitata essenziale lo era quattro anni fa e lo è oggi ancora di più per le motivazioni che sono state dette inizialmente ovvero la contrazione delle risorse la dichiarazione di voto così come è stata questa è l'attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2014 che allora vide il nostro gruppo esprimere un voto contrario verrà ripetuto oggi in sede di consuntivo grazie grazie consigliere franchini prego grazie presidente io approfitto del minimo intervento che voglio fare per la nostra dichiarazione di voto che è sicuramente positiva ovviamente ma io voglio fare anche portare un piccolo contributo personale a questo discorso cioè io ho partecipato a tanti bilanci e ogni volta diciamo che mi sono un po' chiarito su qual è la posizione attuale della città io non credo più che sia una questione di amministrazione o di cioè non sono le scelte dell'amministrazione che cambiano la situazione l'amministrazione molte volte le interpreta e cerca di renderle il più possibile attuabili per la città e che la nostra comunità sia impoverita e sia impoverita al punto che gli atti amministrativi lo dimostrano cioè non è più una questione di idee di progetti di programmi è che la realtà ha cambiato modalità e quindi abbiamo una fetta di città che vive ancora di benefici del passato e c'è una fetta importante che è la fetta giovane che non c'è più e dentro i nostri ragionamenti non ci può più stare perché questa fetta ha già cambiato la modalità di vita è già su un altro modello di vita e quindi secondo me il problema che si pone è i bilanci vostri di fatto secondo me fatti benissimo non sto spendendo le parole perché sono già state spese davvero importantemente danno il taglio che la realtà è cambiata è cambiata ma adesso non voglio dire che fosse sbagliato il termine non è impoverita è proprio cambiata sono cambiate le modalità un ragazzo di 25 anni guadagna 800-900 euro al mese e le modalità per cui noi ne spendiamo 100 milioni non sono capibili allora la mia proposta su cui io penso che dovremmo ragionare è ma su quali cose noi assicuriamo certezze a questa fetta cioè su quali cose noi diciamo l'amministrazione c'è e ci sarà su quali cose l'amministrazione dirà io questo devo fare e questo lo farò quindi da questi bilanci io questo trago mi rivolgo all'amministrazione particolarmente al sindaco ovviamente perché so che su questa cosa è particolarmente sensibile penso perché noi facciamo parte di quella generazione che ha avuto tutti io penso io personalmente molti privilegi di fatto dietro di me non ce n'è più di questa possibilità di vivere un certo livello secondo me bisogna reinventarci il modello ma in parte già reinventato secondo me l'abbiamo già fatta il passaggio di cambiare modalità di vita io penso che quando discuteremo di come usare quello che abbiamo in più ho tenuto con tutte le varie acrobazie contabili secondo me di come noi daremo sicurezza a quella fetta di città che è abbondante che è importante per la comunità che ha bisogno di sapere se l'ente pubblico assicura delle cose tutto questo perché nel dibattito che c'è stato intorno a Roma e al Sinaco di Roma che secondo me è stata poco interessante nel complesso ma per alcune cose interessanti l'espressione che si è usata è stata da parte anche del centro-sinistra che amministrare bene significa dare pulizia alla città marciapiedi sicuri strade sicure cassonetti puliti allora tutto quello che abbiamo discorso per anni sulle progettualità in questa breve declinazione del nostro Presidente del Consiglio è stata annullata cioè la valutazione dell'amministrazione è quanta sicurezza dai sui quattro punti base elementari una città allora su queste cose io penso che dovremmo discutere cioè mi piacerebbe che questo consesso in qualche modo su questo si approfondisse insomma usando poco di in qualche modo di politichese ecco di ma molto di concreto analizzando quello che è già cambiato che è già sui nostri occhi insomma e che quindi a noi viene chiesto di essere in qualche modo pragmatici grazie grazie consigliere consigliere grazie presidente l'intervento del collega franchin mi offre come dire l'opportunità per per dire alcune cose sarò spero veramente breve insomma data l'ora anche e assessora mazer credo che noi ci si trovi in questo momento qui di fronte all'ultimo capitolo alla parola fine di una modalità di bilancio comunale perché quelle che ci saranno nel futuro saranno nuove modalità di bilancio e mi riferisco in particolare a una serie di dispositivi di legge che sono la legge 196 del 2009 la legge 42 del 2009 il decreto legislativo 118 del 2011 il decreto presente consiglio dei ministri del 2011 e la legge 96 del 2019 196 del 2009 eccetera tutti questi dispositivi a tutti questi dispositivi viene dato il titolo l'armonizzazione dei sistemi contabili allora l'armonizzazione dei sistemi contabili sono andato a studiare la cosa perché è molto interessante perché di tutte queste giochi delle tre carte ne abbiamo piene le scatole tutti quanti allora a turno l'amministrazione di sinistra l'amministrazione di destra ha spostato una roba messa qua quell'altra messa di là ha fatto i bilanci e tutti dico cose che ho già detto nell'intervento nell'altro consiglio comunale dove parlavamo invece di preventivo è finita io spero che sia veramente finita perché perché di avere un'amministrazione che si misura su quanti pali della luce metterà non credo interessi ai cittadini e non credo che questa cosa vada incontro alle esigenze dei cittadini è vero il mondo è cambiato i giovani non ci sono più e le situazioni si sono ulteriormente complicate allora finalmente questi nuovi dispositivi di legge imporranno alle prossime amministrazioni a chi amministrerà la città la prossima volta di non fare il bilancio annuale ma di fare bilanci quinquennali se non triennali allora lì ci si misurerà ed è vero che la programmazione deve essere fatta ed è vero che la fantasia deve essere messa a frutto perché per poter dare risposte a lungo termine bisogna fare questo sforzo è una cosa che noi come lista avevamo invocato un sacco di volte non perché abbiamo la pretesa di avere soluzioni in tasca e ricette ma avevamo tentato di lanciare su questo un dialogo che ahimè devo riscontrare non c'è mai non c'è mai stato ho sentito anche il collega freschi che richiama anche la necessità la nuova necessità di dare nuovo interesse ai cittadini in maniera tale che i cittadini si sentano partecipi dell'evento dell'amministrazione comunale e siamo già in iper ritardo su questa cosa qua non l'abbiamo mai fatto abbiamo sempre gestito la cosa all'interno nostro e ci siamo giocati la carte io per quanto mi riguarda auspico che questi dispositivi di legge non siano solo teoria ma credo che sono già in vigore dal gennaio del 2015 e porteranno sicuramente le nuove amministrazioni a fare dei bilanci veritieri in maniera tale che il bilancio di Pordenone sarà comparabile al bilancio di Molfetta di Bari eccetera in maniera tale che la spesa sulla sanità la spesa cittadino euro cittadino sarà comparabile saranno veri saranno visibili a tutti quanti e credo che questo possa suscitare maggiore interesse dei cittadini che qualche volta ci vedono veramente come dei corpi estrani colgo l'occasione in questi quattro minuti per fare anche la dichiarazione di voto sarà di astensione nella nostra lista il ponte sarà della voto di astensione a questo consuntivo grazie grazie consigliere bene nessun altro iscritto dichiaro chiuso il primo intervento secondo intervento nessun iscritto dichiaro chiuso la discussione e do la parola all'amministrazione fuoco le polveri proviamo a dare una risposta un po' a tutti quanti ma allora sì mi si dice voi avete un avanzo di amministrazione molto elevato provate a pensare se mi fossi presentato questa sera a dire dobbiamo trovare 3 milioni e 7 tagliando i servizi perché questo bisognava dire se non avevamo l'avanzo se non avevamo l'avanzo io dovevo dire 3 milioni e 7 per il fondo svalutazione dei crediti e 400 mila per il fondo rischi legali questi qua bisogna trovarli obbligo di legge quindi cosa facciamo abbiamo un bilancio approvato bene tagliamo alcune risorse per allocare queste questa spesa sarebbe stato un massacro e allora è chiaro che l'abbiamo dovuto semplicemente con il ragioniere Michele Brutolus lo vedo là è da un anno che abbiamo questa preoccupazione un anno e mezzo e che pian pianino stiamo prevedendo quello che oggi sarebbe successo l'abbiamo fatto accadere senza contraccolpi per la finanza locale del comune di Pordenone questo dovevamo fare è vero che col bilancio armonizzato bisognerebbe fare un bilancio quinquennale triennale almeno ma se mi arrivano un milione e 6 dalla regione domani a fine luglio e altri 800 mila ad ottobre io non posso dire ai dipendenti beh cominciate a prevedermeli fate già gli impegni di spesa perché il dipendente ragiona su quello che c'è non su quello che ci sarà e quindi il bilancio ormai è uno strumento così flessibile durante l'anno che deve adattarsi al momento è vero c'è un disegno di regge di riforma della finanza locale speriamo che da domani mattina 2016 cominciamo all'inizio dell'anno finalmente ad avere una somma a piede di partenza del bilancio che poi non debba essere rivista durante l'anno ma nel bene o nel male sia quella e quindi con quella dobbiamo fare con quella dobbiamo programmare 12 mesi perché oggi c'è chi sta lavorando in dodicesimi senza bilancio oggi ma non comuni piccolini comuni grossi noi abbiamo sempre pensato che la scelta giusta fosse quella di dare delle certezze non tutte non il 100% ma dare delle certezze abbiamo lavorato sempre in questa in quest'ottica do delle certezze parziali che è meglio che dare incertezze e lavorare in dodicesimi beh sì abbiamo 5 milioni in mezzo in più da investire ma 5 milioni in mezzo in più da investire di quello che avevamo previsto nel bilancio di previsione ce n'erano anche lì degli investimenti quindi qualcosa in più di quello che non avevamo possiamo essere contenti non contenti io capisco che nel gioco delle parti oggi a un anno dall'elezione impossibile che maggioranza posizione cioè lo capisco lo capisco lo capisco mi rendo conto conosco ormai da un po' la liturgia quindi sono in grado di comprendere anche le cose che si dicono sapendo che i giudizi che noi qua esprimiamo le opinioni che noi qua esprimiamo beh ce le diciamo e ce le facciamo da soli la maggioranza dice una cosa chi ci giudica non sta qua dentro è fuori e chi avrà ragione non è che ce lo dice qua dentro dandoci ragione giusto quello che diceva dal mass scrivere che siamo stati bravi inutile dirsi bravi da sola e da soli è la cosa più inutile di questo mondo si è detto sulla questione sulla questione del reinvestimento per esempio della tasse io sono del parere guardate che le tasse sulle tasse bisogna essere seri tutti devono pagarle poche trasparenti tutti devono pagarle dopodiché dobbiamo differenziare chi fa il furbo e non vuole da chi non ce la fa io vorrei che il fondo svalutazione crediti fosse diviso in metà di soldi che ci entrano perché riusciamo a incassarli naturalmente non attraverso il clan degli avellinesi dobbiamo trovare un sistema e vedrete che da domani mattina anche il legislatore regionale nazionale quando cominceranno a esserci pressioni da parte degli enti locali perché quello che per tanti anni non è stato un problema adesso lo è per il comune di Roma come per il comune di Pordenone come per il comune di Claut lo è è un problema che noi dobbiamo avere certezza nelle emissioni che facciamo cioè noi dobbiamo se facciamo servizi dobbiamo essere pagati se dobbiamo se facciamo tasse dobbiamo essere pagati io sono del parere che è meglio dare un contributo a chi a chi ristruttura a chi fa risparmio energetico benissimo ma le tasse entrano poi riescono come la questione della della tassa occupazione sullo pubblico abbiamo fatto anche con con la festa del non-sell se se noi non avessimo chiesto la marca da bollo e l'introito della tassa probabilmente saremmo stati perseguiti da chiunque ci avrebbe ci poteva denunciare alla corte dei conti abbiamo detto il bollo è un obbligo va allo Stato non possiamo esentare il bollo perché non è una materia che ci appartiene non ci compete non possiamo farlo un dipendente non può farlo la tassa però la tassa però possiamo restituirla diamo il contributo invece abbiamo incassato 5 diamo un contributo di 5 è la stessa cosa è una partita di giro però dentro le regole e dentro le regole noi dobbiamo stare perché noi siamo un'istituzione stiamo dentro le regole e dentro le regole si possono trovare anche queste formule magari ripeto non il bollo ma la tassa sicuro per qualsiasi iniziativa che sia qualcosa che da qualcosa che ritorna qualcosa alla mia comunità vi dicevo fondo svalutazione e crediti io preferirei darne metà al collega Romor che fosse in grado di dare i soldi a chi non può pagare le tasse ma lui fa un istruttore i suoi uffici fa un istruttore chiedono perché per come parlano con i parenti con tutti e lì fa un istruttore ed è giustificato che se uno non ce la fa gli si dia un aiuto guai questo è il modo di essere comunità però dobbiamo differenziare chi invece non le paga perché non ci sono strumenti idonei per ottenere la riscossione di un credito e lì dobbiamo essere più incisivi sono d'accordo io con il consigliere adesso sto pochissimo consigliere vicinato lei ha detto delle cose che non mi si ritrovo che noi abbiamo un aumento di spesa nelle strutture culturali forse perché abbiamo magari una struttura più il Cevolin nel 2013 Cevolin Palazzo Spelladi perdono Galleria d'Arte Bortoia eh sì esatto se una struttura non c'era ma le assicuro che in maniera assoluta c'è una diminuzione dei costi ci sarà stata una struttura in più che prima non avevamo ma lì c'è stato un calo di risorse quindi tutto quello che lei diceva io sono disponibile a un confronto magari fosse così vuol dire che avevamo ancora margini da quella parte non ne abbiamo proprio perché lì abbiamo fatto veramente tagli importanti perché la vera emergenza si chiama effettivamente lavoro da lì nascono tutti i problemi da lì nascono le paure le difficoltà i timori le ansie la gente che si ritrova a casa dopo 30 anni che magari avrebbero lavorato in un'azienda lì forse il reddito di cittadinanza potrebbe avere uno scopo insomma accompagnare le persone che non riescono a inserirsi per motivi di età ad andare in pensione forse lì io lo vedo utile solo da quel punto di vista non certo come aiuto generalizzato a tutti e anche sulle questioni del revisore dei conti lei l'ha interpretata in un modo ma io le interpreto in un altro guardate la riforma che fanno sulla revisione sui revisori dei conti toglie ogni dubbio non saranno più di parte quindi hanno un compito importante devono certificare i conti del comune non li scegliamo più noi li scegliono attraverso dei sorteggi deve passare va bene ma insomma mi sembra che sia anche giusto perché mai gli interessi della comunità possono essere piegati ad un interesse di parte mai neanche di parte politica quindi se come diceva Ribetti l'avanzo non è un pregio è un danno in questo caso è stato un modo per risolvere un problema semplicemente per risolvere un problema altrimenti ce l'avremmo avuto e quindi i 10 milioni in meno tra l'altro sono milioni di investimenti guardate che non confondete mai investimenti con parte corrente la parte corrente sono i servizi che eroghiamo ogni volta le retribuzioni di dipendenti gli acquisti quelli sono la parte corrente gli investimenti ci fanno scrivere noi è da anni che scriviamo che ci arrivano soldi per il tribunale con lo Stato lo scriviamo tutti gli anni nel triennale le opere pubbliche dicono sempre un milione 500 mila li mettiamo sempre in entrata non ci arrivano mai infatti i soldi per fare i lavori dai giudici di pace o per fare i lavori per l'ex biblioteca li dobbiamo tirare fuori noi ma lo facciamo perché vogliamo che ci sia una giustizia efficiente perché una giustizia efficiente può rendere anche il territorio più competitivo abbiamo bisogno di questo abbiamo bisogno di questo e con la regione è vero io sono preoccupato dei rapporti con la regione sono preoccupato perché vedo una incapacità di contrattare dal mondo delle autonomie locali nei confronti della regione la regione sta avendo le faccio solo questo esempio consigliere Piccin visto che lei è lei cioè un tempo un tempo quando i decimini erano 50 milioni di euro gli enti locali avrebbero portato a casa 50 milioni di euro i decimini sono miei c'è un accordo con la regione oggi si fanno irrettire da una serie di fondi fondini secondo me è preoccupante vuol dire che c'è un'incapacità ma no ma non è un problema della regione che è brava è un problema del sistema dell'autonomia locale che non riesce più a avere quella pregnanza nella contrattazione io sono preoccupato di questo glielo dico dico che causa nostra anche quelli prima tutti quanti se potevano tiravano dentro qualcosa stavolta no 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 è un problema dei comuni ma anche quelli di destra sono piuttosto timidi nel senso governa la sinistra quelli di destra sono timidi e la viceversa c'è un problema che lo sento come è vero io io spero che ridurre 210 comuni 215 quali sono a 18 uti rende a questo rapporto un po' meno sbilanciato glielo dico subito io spero che funzioni perché se no è dura per chiunque sia negli enti locali rispetto a chi sta in regione destra o sinistra non faccio differenze vediamo se ho ancora altre piccole cose eh sempre le dico 12 milioni diamo allo Stato noi 12 milioni per l'Imu per questo cioè ce li fanno chiedere i cittadini e li giriamo allo Stato e quindi capisce che quando noi parliamo di riduzione della pressione fiscale parliamo di riduzione con quello che possiamo fare noi e l'abbiamo ridotta la pressione fiscale l'anno scorso e anche quest'anno ma certamente al netto di quello che ci chiede lo Stato ovviamente quello che ci resta è molto meno di quello che ci restava prima noi siamo sulla Tasi vedevo una statistica stamattina 1,25 siamo al settimo posto in Italia a fare i comuni capoluoghi l'addizionale IRPEF non l'abbiamo aumentata da 2003 mi pare quando l'ha aumentata a Bolzonello io vedo che ci sono gli articoli della CGA di Mestre sembra che tutti aumentino l'addizionale IRPEF noi non l'abbiamo aumentata è vero che viviamo in una situazione di privilegio rispetto al resto d'Italia questo lo ammettiamo la regione ancora ha la possibilità di attutire gli effetti di trasferimenti ridotti dello Stato la regione lo fa in questo momento noi siamo un po' siamo sicuramente peggio del Trentino Alto Adige ma un po' meglio insomma del resto d'Italia sulla sicurezza 50 milioni di telecamere li investiamo ai vigili 50 mila cioè non 50 mila pardon 50 mila 50 mila pardon ogni tanto con l'euro si fa ancora fatica ha ragione ma tre mezzi tre mezzi nuovi per la polizia municipale li compriamo cioè servono alcuni sono incidentati cioè investimenti li facciamo anche lì sul software sulle attrezzature adesso possiamo farle diversamente da prima abbiamo questo tesoretto chiamato beh a franche indico è vero noi dobbiamo è vero che c'è un problema forse da qualche parte non si garantiscono neanche più i marciapiedi anche noi abbiamo sofferto vedi via le grigoletti abbiamo sofferto di questo sulle possibilità di investire pur avendo tutti i soldi da parte per poter investire abbiamo sofferto quel patto di stabilità da altre parti forse il problema non è il patto di stabilità sono scarse risorse per investire beh a Loris Pasotto ho risposto alla ragione tra poco ci darà un milione e sei più ci darà altri sedici milioni divisi ancora con quali criteri non lo so però qualcosa ci arriverà ancora e con questo è quello che ci permette anche di sì avete ragione ho finito grazie scusate mi fanno segno che facciamo tardi grazie assessore Mazzer passiamo alle dichiarazioni di voto nessun iscritto pertanto passiamo alla fase delle votazioni allora allora votiamo prima la proposta numero 17 scusate un attimo in concentrazione allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 17 approvazione rendi conto della gestione 2014 dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni legge la votazione seguente presenti 31 votanti 30 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari 4 astenuti 2 la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro dichiaro chiuso l'operazione di voto legge la votazione seguente presenti 31 votanti 30 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 4 astenuti 2 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta numero 18 del 2015 pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto proposta numero 18 2015 ratifica delibera della giunta comunale numero 81 dell'8 maggio 2015 avente ad oggetto variazione di bilancio e prelievo del fondo di riserva per spese correnti dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 29 votanti 28 maggioranza 15 favorevoli 24 contrari 4 astenuti nessuno la delibera è stata approvata pongo i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 29 votanti 28 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 4 astenuti nessuno la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile passiamo ora alla proposta di deliberazione numero 19 2015 servizio di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 approvazione schema di convenzione prego sessore Mazzara velocissimi allora cosa cambia nella convenzione rispetto a quella vecchia cambia soltanto una cosa si faceva riconoscere per il servizio qualche volta di pagamento di mandati che arrivavano dal comune si faceva riconoscere un agio l'attuale tesoreria siccome era spiacevole che magari arrivavano 4 mandati di pagamento alla stessa persona e doveva pagare 4 volte questo agio l'abbiamo tolto è preferibile incassare di meno magari nell'offerta che ci faranno però è preferibile che questo agio non venga più pagato quindi sarà tutto gratuito per chi va lì a riscuotere denaro questo è l'unico cambiamento rispetto al passato le altre cose rimangono inalterate si fa la gara chiarimenti nessuno bene dichiaro aperta la discussione iscritti a parlare nessuno dichiaro chiuso primo intervento secondo intervento non c'è nessuno dichiaro chiuso la discussione replica ovviamente non c'è nessuno passiamo alla dichiarazione di voto nessuno iscritto dichiaro chiuso la dichiarazione di voto pertanto passiamo alla votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 19 2015 servizio di tesoreria per il periodo del 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 approvazione schema di convenzione dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito alla votazione seguente presenti 28 votanti 27 maggioranza 14 favorevole 24 con 3 nessuno astenuti 3 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile passiamo ora alla proposta numero 20 2015 favorevole su proposta di variante urbanistica essensi articolo 14 comanova legge regionale numero 19 2012 per la realizzazione di una centrale idroelettrica in corrispondenza allo sbarramento della ghetta di San Carlo assessore Toffolo prego grazie presidente non si tratta di una variante urbanistica bensì di un parere che il consiglio comunale dà che il verrà espresso in sede di conferenza di servizi dal tecnico che rappresenterà l'amministrazione per concedere la realizzazione della centralina per lo sfruttamento del salto al laghetto San Carlo richiesta presentata da privato il tutto verrà concesso dalla provincia che è l'ente preposto dalla legge per appunto il rilascio della concessione in questo caso in ambito di conferenza di servizi sarà presente anche il tecnico del comune di Pordenone che si esprimerà in coerenza con il parere favorevole dell'amministrazione dato dal consiglio comunale chiarimenti? nessuno bene sì scusate Piccin prego grazie solo per sapere chi è il privato perché non ho letto la delibera confesso allora sì il privato è la ditta autofficina Oscar di Cempellin Oscar di Cordenone che ha presentato domanda alla regione grazie grazie nessun'altra richiesta di chiarimenti dichiaro aperta la discussione nessun iscritto dichiaro chiuso il primo intervento secondo intervento nessun iscritto dichiaro chiuso la discussione passiamo alle dichiarazioni di voto dichiarazioni di voto prego consigliere Bianchini grazie presidente niente noi come lista civica siamo a complimentarci con il il privato perché ha colto una delle potenzialità di questo territorio e crediamo che tutti i cittadini anche non con cittadini come in questo caso visto che ha sede a Cordenone per tutti i cittadini che riescono a cogliere dal nostro territorio le potenzialità che ci sono a svilupparle e a creare impresa hanno un plauso da parte nostra e quindi siamo a come lista siamo onorati di poter votare a favore di questa proposta grazie consigliere nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto bene pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 20 2015 parere favorevole su proposta di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 14 coma 9 della legge regionale numero 19 2012 per la realizzazione di una centrale idroelettrica in corrispondenza dello sbarramento del laghetto di San Carlo dichiaro aperto l'operazione di voto dichiaro chiusa l'operazione di voto l'esito della votazione è seguente presenti 27 votanti 27 maggioranza 14 favorevole 24 contrario nessuno astenuti 3 la delibera è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiusa l'operazione di voto l'esito della votazione è seguente presenti 27 votanti 27 maggioranza 21 favorevole 24 contrario nessuno astenuti 3 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene signori il prossimo consiglio verrà convocato per lunedì 29 dichiaro chiusi i lavori e buonanotte a tutti